Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questo Election Day. Seguiremo lo spoglio nei principali comuni abruzzesi, una due giorni intensa al voto con il referendum, con le regionali che non hanno interessato l'Abruzzo e con le comunali. Fare i puntati su due realtà in particolare, Chieti e Avezzano, ma ci sono altri comuni importanti cui daremo uno sguardo di riguardo. Mi riferisco a Guardia Grele, a Montorio e a Celano. Una lunga diretta, seguite con noi le operazioni di spoglio. Avremo collegamenti in particolare con la città di Chieti e con la città di Avezzano. Chieti è l'unica città capoluogo di provincia interessata. Avezzano è l'altro comune abruzzese dove si potrebbe andare al ballottaggio e c'è questa grande eventualità. Vado subito a salutare in regia Jacopo Forcella. Buongiorno Jacopo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci seguiranno. Ovviamente hai detto bene una tornata elettorale, una due giorni, che ha riguardato principalmente il referendum sul cosiddetto taglio dei parlamentari. Ha vinto il sì in maniera netta anche nella nostra regione, andando oltre il 70% delle preferenze il sì. Però ovviamente adesso martedì mattina è fare i puntati soprattutto sulle elezioni amministrative. Ieri ovviamente, visto che lo spoglio non è ancora iniziato, inizierà davvero a secondi delle città che interessano la nostra regione, ovviamente il focus era su Chieti. E allora, visto che tra un po' magari introdurremo anche con l'ausilio dei giornali, poi ovviamente andremo in diretta a Chieti e ad Avezzano, però prima di, visto che introdurrai con i giornali poi quella che è stato il day after, anche se di day after ancora non si può parlare, che è un'opinio per RAI ha pubblicato quello che è l'exit poll, che tra un po' vedremo, che riguarda proprio la città di Chieti. Ringrazio ovviamente Claudio Di Giacomo in regia. Andiamolo a vedere, ed eccolo qua. Questo è l'exit poll ieri delle ore 15 sulla città di Chieti, che dà di fatto una situazione che dovrebbe prevedere un ballottaggio, quindi un secondo turno, Chieti è un comune insieme ad Avezzano dove si può andare al secondo turno, perché sono città oltre i 15 mila abitanti. L'exit poll di Opinio Italia per RAI dà in questo momento, ieri all'uscita dal seggio, Fabrizio Di Stefano in netto vantaggio, con una forchetta che va dal 40 al 44%, a seguire e questo sarà probabilmente, poi vedremo durante le elezioni, non si può mai dire, però probabilmente la vera battaglia sarà su chi tra Diego Ferrara e Bruno Di Iorio andrà al secondo turno, perché Diego Ferrara, candidato del centro-sinistra, è tra il 19% e il 23% delle preferenze, è accreditato di questa forchetta, mentre Bruno Di Iorio tra il 17% e il 21%. A seguire Paolo De Cesare con una forchetta che va tra il 10% e il 14%. Ovviamente da qui si parte, poi in realtà non sappiamo se sarà così, se i dati saranno confermati, però questo era il primo quadro generale che abbiamo visto ieri. Poi ovviamente sfida con ancora più candidati, sono sei candidati alla carica di sindaco ad Avezzano, dove si torna al voto in maniera anticipata, mentre di fatto a Chieti si torna al voto in maniera posticipata, perché le elezioni erano previste a primavera, ma poi ovviamente l'emergenza sanitaria ha costretto a rimandare le elezioni. Poi ovviamente i comuni dove non c'è ballottaggio, non è previsto il ballottaggio che seguiremo per esempio Guardia Grele, per esempio Montore Albomano, ma tanti altri comuni. Intanto ieri abbiamo dato la notizia nei comuni dove c'era un solo candidato sindaco, quindi l'unico scoglio era il raggiungimento o meno del quorum, a Delice confermato De Massis, così come a Pesco Costanzo ha vinto Roberto Sciullo, mentre a Bisenti arriverà il commissario, perché l'unico candidato sindaco De Antonis è vero che ovviamente non poteva che vincere, ma con una percentuale di votanti che si è attestata poco oltre il 39%, dunque non superando il quorum e questo di fatto non consente al piccolo comune della provincia di Teramo di avere un nuovo primo cittadino. Questo è il quadro, ovviamente si sta iniziando, stanno iniziando le operazioni di spoglio, vedremo come andrà, noi ovviamente lo seguiremo. Per il momento è tutto, linea a te. Allora andiamo a vedere i giornali, facciamo un po' di rassegna stampa, affrontiamo un po' le tematiche nazionali attraverso le prime pagine delle principali testate, poi andremo anche sulle testate locali, anche un po' per testare quella che è la situazione, tastare il polso proprio nei momenti in cui inizia lo scrutinio. Andiamo proprio sul Corriere della Sera, ecco qui siamo con questo titolo d'apertura che troveremo in diverse altre testate, il voto da respiro al governo, la vittoria del sì, ma poi anche il fatto che il centrosinistra abbia resistito alla cosiddetta spallata che Salvini e il centrodestra volevano dare nel corso di queste elezioni regionali. Questo pareggio, questo 3 a 3 dà conforto all'esecutivo. Il voto da respiro al governo, dunque scrive il Corriere della Sera, Bene Zingaretti, Salvini non sfonda, referendum sul taglio dei parlamentari, il 69,9% sceglie il sì di maio, dato storico. Andiamo avanti, siamo sulla prima pagina di Repubblica, regioni, il PD, ferma Salvini, Dem tengono, Toscana, Campagna e Puglia, Marche alla destra, crollo 5 stelle, trionfo di Zaia nel Veneto, Zingaretti subito il MES, referendum vince il sì, ecco cosa cambia in questa apertura di Repubblica. Qui siamo sulla prima della stampa, stravince il sì, il voto blinda il governo Conte, passa il taglio dei parlamentari, il PD tiene Toscana, Campagna e Puglia, trionfo di Zaia, Liguria a Totti, la destra conquista le Marche, affluenza superiore al 50% nonostante il Covid, nelle regioni finisce 3 a 3, referendum i 5 stelle esultano, un risultato storico. Poi vediamo qui i risultati, sì al 69,6%, no al 30,4%, poi i risultati delle regionali con le vittorie appunto di Zaia, Totti, Acquaroli, Gianni, De Luca ed Emiliano. Andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, sì avete perso, e qui troviamo poi in seguito il referendum plebiscito e le regionali sorpresa, il sì stravince con il 70%, il PD tiene Toscana e Puglia, governo più forte, Battuti, Salvini e Padroni del Vapore. Andiamo ancora a vedere la prima pagina del tempo, miracolo grillino, resuscitato il PD, il taglio dei parlamentari passa a Valanga, le regionali finiscono 3 a 3 col PD che tiene Toscana e Puglia, l'unico effetto pratico, la sinistra si rianima grazie ai voti, in fuga dei 5 stelle si blinda a Palazzo Chigi. Nel tempo di Oscio troviamo un primo piano di Matteo Salvini, il leader della Lega, Salvini sconfitto, ma canta vittoria lo stesso. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero, Mattarella sciolga le camere, non sono più costituzionali, scontata vittoria del Sial referendum, gli italiani hanno votato per tagliare deputati e senatori, la modifica della carta va compiuta a breve per rispettare la volontà popolare. Questo Parlamento è illegittimo, elezioni subito. Andiamo avanti con il mattino, fare i puntati ovviamente sulla vittoria stranetta di De Luca, Valanga De Luca, flop legal sud, al centro-sinistra Campania e le sfide decisive in Toscana e Puglia, governo più forte, centro-destra vince Meloni con le Marche, in Veneto Zaia schiaccia Salvini, leadership in bilico, la prima pagina del secolo.it che ovviamente celebra la vittoria di Acquaroli nelle Marche, Marche che il centro-destra riesce a strappare al centro-sinistra, Marche Tricolori, Meloni festeggia il trionfo nelle Marche, chiede le urne, Fratelli d'Italia cresce ovunque, determinati sul referendum. La verità, vincono tutti, perde solo Renzi, il centro-sinistra trionfa al nord e conquista le Marche, ma manca la spallata in Toscana e Puglia, Zingaretti scampa al disastro. Possiamo vedere anche le prime pagine dei quotidiani locali, qui siamo sul centro, referendum, triomfa il sì, Abruzzo, oggi i nuovi sindaci, dunque restate con noi perché vi aggiorneremo proprio su questo fronte, c'è il primo verdetto a elice, l'unico candidato De Massis raggiunge il quorum, il voto del regionale rafforza il governo, il centro-sinistra tiene Toscana e Puglia. Andando poi all'interno del centro, vince il sì di Movimento 5 Stelle PD, il governo è in sicurezza. E poi ancora sempre sul voto del referendum, in Abruzzo è un plebiscito per il sì, alle urne vanno 527 mila elettori, il 73% vuole il taglio dei parlamentari. Nella provincia aquilana l'affluenza maggiore, ma il record è di Castel Castagna. Poi vedremo Avezzano e Celano, due comuni dove si è andati al voto anche per le elezioni comunali, l'affluenza è stata molto molto alta. Le riflessioni poi dopo il verdetto sul referendum, l'Abruzzo perderà 7 parlamentari, Vacca dei 5 Stelle, un voto per l'efficienza delle Camere, Fina, segretario regionale del PD, avanti con le riforme, poi Sigismondi di Fratelli d'Italia, ora la legge elettorale, e il commento anche del governatore Marco Marsiglio, esponente di Fratelli d'Italia come Acquaroli, con le marche, una vera dorsale adriatica. E poi altri commenti sul fronte del no, Nazario Pagano di Forza Italia, non sono contento, dice il parlamentare abruzzese, è la vittoria dell'antipolitica e la nostra regione sarà penalizzata più di altre, ma agli italiani non darà nessun vantaggio. La replica sul fronte Lega di Gianfranco Giuliant, Lega che si era esposta anche con il leader Salvini per il sì, abbiamo votato in Parlamento quattro volte per il sì, una scelta che poi si è riversata nelle urne, siamo stati coerenti con tutto un percorso fatto. Ora ci concentriamo anche sulle comunali, con la pagina di Chieti del centro, gli exit poll, l'abbiamo fatto vedere, il sondaggio di Opinio Italia per Rai, balottaggio tra Di Stefano e Ferrara, i sondaggi della Rai aprono al secondo turno dalle nuove i primi risultati, c'è da dire che due erano le domande principali a Chieti, uno se Fabrizio Di Stefano fosse riuscito a vincere al primo turno, andando sopra il 50% delle preferenze, e poi in caso di ballottaggio, chi sarà il candidato sindaco che sfiderà Di Stefano. si va verso questa seconda direzione, stando agli exit poll, con Ferrara che sembra in vantaggio su Diorio, ma poi vedremo i dati reali cosa diranno. Qui siamo ad Avezzano, oggi lo spoglio delle schede, la lunga attesa dei candidati, ad Avezzano affluenza in leggero calo, rispetto alle amministrative di tre anni fa, tra gli aspiranti sindaci c'è chi già si vede lanciato, verso il ballottaggio. Rapidamente anche il messaggero Abruzzo, qui siamo sulla prima pagina nazionale, il voto rafforza il governo, che è stato il ritornello già visto sulle altre testate, la contessa sulle regionali finisce 3 a 3, Toscana, Campania e Puglia al centro-sinistra, il centro-destra espugna le marche, esploati Zaia e Toti, crisi, lega, ipotesi, Zingaretti, vice-premier. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, eccoci qui, referendum, l'Abruzzo dice sì, il via libera al taglio dei parlamentari sfiora il 74% sopra la media nazionale, il no tocca la percentuale più alta all'Aquila, 28,5%, oggi i risultati appunto sul fronte delle comunali. All'interno del messaggero, il sì stravince in Abruzzo, ora taglio degli stipendi, il Movimento 5 Stelle, vero vincitore in attesa del verdetto delle elezioni comunali, Pagano di Forza Italia ha partorito una riformetta, ricordiamo Pagano, l'esponente del fronte del no, fino ad LPD proseguire con il cambiamento, pezzo pane è soltanto l'inizio, poca differenza per D'Alessandro di Italia Viva. E poi ancora c'è già un sindaco, lo abbiamo detto, l'ha detto in precedenza Jacopo Forcella, De Massis A. Elice, era candidato unico e il quorum è stato ampiamente superato nel comune della Valfina, in provincia di Pescara, il quorum dei votanti è stato ampiamente superato, candidato unico, aspetta la formalità dello spoglio per il via al terzo mandato, attesa per l'esito delle elezioni negli altri centri del Pescara, e si attore a passare la battaglia più accesa tra Linari e i due sfidanti. Linari che lo scorso anno con la lista unica non raggiunse il quorum, e dunque si è insediato il commissario, nuove elezioni, sfida a tre nel comune di Torre De Passeri. E poi ancora, vediamo a Chieti, l'exit poll e ballottaggio tra Di Stefano e Ferrara, il candidato del centrosinistra pronto a lanciare un appello, non ho nemici, scetticismo sul versante opposto, senza numeri certi, non faccio ipotesi. Questo dunque hanno detto i quotidiani. Possiamo allora andare con il primo collegamento, che sarà anche il collegamento principale evidentemente di questa giornata, di questo election day, perché c'è grandissima attesa a Chieti per questa sfida. Cinque i candidati a sindaco, 19 le liste in competizione, 590 candidati consiglieri. Io saluto e do il buongiorno ad Alfredo Primante da Chieti. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo qui all'interno di Palazzo De Maio, che ci ha già ospitato nell'ambito dell'appello del candidato, una trasmissione che abbiamo fatto proprio per raccontarvi, cinque candidati a sindaco di Chieti. Prima di addentrarci nelle amministrative, do il buongiorno, saluto e ringrazio l'onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che è qui con noi per commentare i risultati del referendum. Non solo, poi parleremo anche delle amministrative qui a Chieti, ma partiamo proprio da questa netta vittoria, da questo netto risultato, che anche l'Abruzzo è espresso per il sì. Siamo molto soddisfatti, non lo nascondiamo, anche perché questa è vero che è una battaglia fatta e sostenuta dal Movimento 5 Stelle, ma è una battaglia che ci è stata chiesta dai cittadini, per cui oggi vince il sì e vincono i cittadini. E quindi è bello poter rappresentare questa vittoria. Abbiamo visto precedentemente i titoli dei quotidiani nazionali, ma anche quelli abruzzesi, sul fronte del no, faccio un po' l'avvocato del diavolo, visto che manca il contraltare chi era chiaramente per il no. Sul fronte del no si dice che questa è una riformetta. Abbiamo sentito anche il commento di Nazario Pagano, che faceva parte del comitato del no. Da questo punto di vista voi cosa dite? È una riformetta oppure è solo il primo passo per fare una riforma più ampia? Mi ha tolto le parole di bocca. È assolutamente un primo passo verso un cambiamento del modo di fare politica. Io ho avuto modo di ascoltare l'onorevole Pagano, che è sicuramente favorevole al taglio degli stipendi, così come ha sostenuto più volte, per cui adesso riduzione dei parlamentari. Torniamo nell'aula di Montecitorio, tagliamo gli stipendi, dato che il Movimento 5 Stelle lo fa già, saranno ovviamente tutti favorevoli, perché così hanno sostenuto, e poi una buona riforma elettorale, che sia rappresentativa del popolo. E infatti, insomma, questo è anche un punto importante, quello della riforma elettorale. Insomma, anche ieri sera molti commentatori dicevano ormai il voto è scongiurato, il voto per le politiche, per una serie di meccanismi, tra cui rientra anche il voto per il Presidente della Repubblica, del famoso semestre bianco, in cui non si possono sciogliere le camere. Quindi diventa fondamentale questa riforma elettorale da fare. Secondo lei, come potrà essere disegnata questa riforma? Allora, guardi, io non mi esprimo perché questa riforma è ancora in discussione. Abbiamo bisogno di un confronto importante tra le forze di maggioranza, ma anche ascoltare il contributo che verrà dalle forze di minoranza. Per cui avviare adesso e dare delle anticipazioni sarebbe poco corretto di fronte a un lavoro che è già partito e già avviato. Quindi ci auguriamo che nei prossimi mesi si dia un'accelerazione a questo percorso e si porti un risultato soddisfacente per tutti. Vi aspettavate anche in Abruzzo una dimensione così ampia del Sì? Cioè un divario così ampio? Allora, io me lo auguravo. Naturalmente siamo scesi in piazza in tanti del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto più incontri con le persone e se posso dirle questo referendum ci ha ricordato che è importante ascoltare la gente e soprattutto essere interpreti di quello che è il sentimento popolare. Il risultato del referendum fa un po' da contraltare a quello che invece è stato il risultato nelle regionali, parliamo sempre a livello nazionale dove il Movimento 5 Stelle effettivamente ha fatto un po' fatica. Ecco, forse è questa dicotomia del Movimento 5 Stelle al governo in questo momento a dare dei problemi. Anche Di Maio ha criticato un po' come sono state organizzate le regionali. Sì, allora noi abbiamo ovviamente piena fiducia nel capopolitico Crimi e riteniamo che sì, sicuramente un'organizzazione diversa avrebbe potuto garantire un altro risultato, ma ricordiamo sempre che il Movimento 5 Stelle conta su un numero di candidati nettamente inferiore rispetto alle accozzaglie, alle brodaglie di centrodestra e centrosinistra per cui sicuramente questo è un dato importante da prendere in considerazione. Ovviamente c'è un percorso di riorganizzazione in corso e quindi attendiamo di mettere buoni propositi in questa fase successiva. Andrea, non so se tu e Jacopo avete delle domande da studio prima di passare un po' all'approfondimento anche delle amministrative soprattutto qui a Chieti. Non so se volevate rivolgere delle domande se è possibile attraverso i dati del referendum fare una sorta di proiezione di quello che potrà accadere nelle urne a Chieti a livello appunto di elezioni comunali a Chieti a livello di dati del referendum siamo in linea con il profilo nazionale cioè si sfiora il 70% ma come vediamo siamo sotto il dato abruzzese il dato abruzzese è nettamente di sopra del 70% a Chieti siamo al 69,9% 30,10% per il no è possibile attraverso i dati del referendum provare a fare una previsione di quello che sarà per le comunali? Allora io mi astengo da previsioni perché come è solito ripetermi un mio caro amico partita finisce quando arbitro fischia come diceva Bosco quindi lasciamo giocare la partita e poi magari commenteremo i risultati però Andrea prendo spunto da questa tua riflessione perché adesso abbiamo visto anche i titoli dei giornali che si basano chiaramente sull'exit poll proposto dalla Rai se Ferrara dovesse andare al ballottaggio il Movimento 5 Stelle in questo momento ha un ruolo anche pesante perché non è un mistero che anche prima di questo voto c'era la volontà di un accordo fra Ferrara e Amicone Sì sì c'è stato il tentativo di chiudere questo accordo purtroppo i tempi non ce l'hanno consentito anche perché va fatto un ragionamento buono sul programma va fatto un ragionamento anche sull'identità del Movimento 5 Stelle che va sempre tutelato e adesso vedremo certo di poter contribuire insomma nel miglior modo possibile a rappresentare tutte le anime del consenso cittadino Da questo punto di vista che campagna elettorale è stata qui a Chieti per il Movimento 5 Stelle che veniva insomma da un'esperienza d'opposizione al governo di Primio Allora la squadra del Movimento 5 Stelle era una squadra tutta nuova e una squadra tutta nuova fatta di persone che rappresentano tutte le estrazioni sociali abbiamo un candidato sindaco che si è sempre speso a nome del Movimento 5 Stelle da attivista e oggi appunto da candidato sindaco e abbiamo portato avanti una campagna elettorale tra la gente abbiamo evitato i comizi non abbiamo voluto che i cittadini fossero semplicemente un pubblico o fosse raccolto a tifoseria preferivamo parlare con le persone portarci sui quartieri e non ultimo appunto portare a conoscenza della realtà della cittadina a Tiatina il viceministro Laura Castelli e il sottosegretario Traversi ovviamente abbiamo intenzione di portare avanti questo lavoro a prescindere dai risultati di questa campagna elettorale Andrea Jacopo a voi studio se ci sono altre domande chiaramente visto la presenza del deputato 5 Stelle un'ulteriore riflessione su questo aspetto il referendum ha dato una chiara vittoria al fronte del Sì e il Movimento 5 Stelle è stato davvero in prima linea su questo fronte però il risultato delle amministrative stando a quello che è successo nelle regionali e anche a quello che dicono determinati exit poll a Chieti non solo il risultato è stato complessivamente deludente come se lo spiega tenuto conto che il Movimento 5 Stelle solitamente alle amministrative fa un po' più di fatica mentre il meglio lo esprime nel corso delle elezioni politiche ma che lettura dare su questo rendimento diverso sul fronte referendum e appunto sul fronte amministrative del Movimento 5 Stelle che è la principale forza di governo nazionale Allora sì la riflessione che mi viene da condividere con tutti coloro che oggi ci ascoltano è questa che bisogna ritornare sui territori sicuramente questo è quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto ovviamente l'impegno a Roma in una forza di governo ci ha tenuti magari un po' più distanti ma contiamo sulla forza dei consiglieri comunali dei consiglieri regionali che devono tornare sui territori assieme ai loro parlamentari prima di dare la linea a Jacopo Forcella che aveva una domanda per l'onorevole Torto saluto e ringrazio il collega Stanislao Liberatore di Metro News 24 che ci ha raggiunto qui a Palazzo De Maio grazie Stanislao buongiorno buongiorno e grazie a voi grazie buongiorno tra poco ascolteremo anche qualche domanda da Stanislao nel frattempo Jacopo non ti sentiamo Jacopo non ti sentiamo vediamo se riusciamo a risolvere il problema tecnico con l'audio allora facciamo fare la domanda all'onorevole Torto a Stanislao Liberatore e poi torniamo da te Jacopo Stanislao sì sì ecco è una situazione un po' allora sembra dai dati così dalle prime proiezioni che quasi sicuramente si aprirà il ventaglio del ballottaggio stavate pensando questo voglio dire un pensiero c'era no? un pensiero al ballottaggio c'era per il Movimento 5 Stelle certo ce lo siamo sempre augurato come è giusto che sia in un percorso di campagna elettorale quello che posso dirle è che il discorso del ballottaggio non lo vedo ancora precluso se pensiamo a forme di apparentamento e di ragionamenti su sostegno a ideali e programmi che il Movimento 5 Stelle potrebbe sposare ecco onorevole c'è stata c'è stato sicuramente insomma ne avrà sentito parlare questa almeno su Chieti il voto disgiunto insomma voglio dire non ha favorito i più eh perché voglio dire dare la preferenza come sindaco ad una persona e poi magari esprimere la preferenza per il candidato consigliere un'altra in un'altra lista magari questa cosa ha creato un po' di scompiglio io se questo effettivamente è stato così non glielo posso dire perché ovviamente al risultato ottenuto possiamo magari commentare questa questa situazione ovviamente chi vota il Movimento 5 Stelle e lo fa perché crede in un progetto in un'idea anche esulando a volte dal dare la propria preferenza alla singola persona allora Jacopo Forcella penso abbiamo risolto il problema tecnico a te Jacopo sì di nuovo buon pomeriggio a te Alfredo buon pomeriggio anche all'Onorevole Torto a cui volevo chiedere visto che avete parlato prima di di quelle che sono state le manovre rispetto alla possibilità di una unione del centro-sinistra Chieti con il Movimento 5 Stelle volevo chiedere all'Onorevole in virtù anche dei risultati di ieri delle regionali per esempio in Liguria l'alleanza PD Movimento 5 Stelle così come era stato in Umbria poi effettivamente alla prova del voto non ha retto alla sfida con il centro-destra ecco volevo chiedere un giudizio e come come se lo come se lo spiego allora ovviamente è un percorso che va costruito con dei tempi più ampi siamo al governo da poco più di un anno per cui costruire una realtà unita sui territori ha necessità di un buon tempo di ragionamenti e di linee programmatiche condivise per cui azzardare subito l'ipotesi che questa alleanza sia disfattista mi sembra alquanto prematuro però c'è una base uno zoccolo duro del Movimento 5 Stelle che ce l'ha un po' col Partito Democratico questo non possiamo negarlo assolutamente sì ovviamente l'identità del Movimento 5 Stelle nasce in una situazione completamente diversa ovviamente una legge elettorale che ci obbliga a convivere con un'altra forza politica ci ricorda anche che è necessario poi arrivare ad un punto di incontro per ottenere qualcosa di buono io credo che sia la Lega Prima sia il PD oggi si siano trovati se vogliamo dire costretti a seguire la linea del Movimento 5 Stelle e non il contrario ovviamente è difficile ancora diciamo da far capire questo ragionamento perché è un ragionamento che va maturato Stanislavo non so se avevi una riflessione su questo diciamo binomio PD Movimento 5 Stelle tra l'altro sono intanto sono d'accordo con la tua domanda e anche la risposta è quella che fondamentalmente mi aspettavo dell'onorevole stavo pensando invece se posso permettermi onorevole di allargare un po' a questa vittoria strabordante del sì è importante per il Movimento 5 Stelle giusto? assolutamente sì io credo che la vittoria del sì vada a legittimare quello che è il Parlamento oggi perché è una riforma appunto portata avanti all'interno delle Camere e alla quale i cittadini oggi con grande entusiasmo ci danno ragione per cui siamo sulla strada giusta anche se onorevole ricordiamo poi i tempi tecnici saranno quelli che saranno voglio dire non sono quelli del domani ecco assolutamente sì stiamo parlando diciamolo perciò tante volte qualcuno pensa che domani allora no no assolutamente questa legislatura appunto ripeto si legittima così e darà il via alla prossima per una riduzione dei parlamentari e spero per una riduzione degli stipendi dato che il movimento già lo fa da sempre è un vostro punto di riferimento una battaglia tavica questa sì sì ma durante questa campagna referendaria ho trovato molte altre forze politiche d'accordo con il taglio degli stipendi meno con la riduzione dei parlamentari vedremo adesso se lo saranno ancora certo adesso diciamo dopo il voto del 2018 avete un'amplissima maggioranza come Movimento 5 Stelle in Parlamento sarà impegnativo riconfermarla anzi con i dati di adesso sarà molto molto difficile quindi vi attende anche un lavoro da qui al 2023 abbastanza duro sì quello che mi auguro è che ecco come dicevo prima si torni a lavorare sui territori perché questa è la forza del Movimento 5 Stelle che va rinvigorita da studio Jacopo e Andrea a voi sì un'altra considerazione è chiaro che l'esito del referendum dà forza al governo in generale anche l'esito delle regionali però sembra rafforzare ancora di più la posizione del PD ecco questo per il Movimento 5 Stelle può essere nell'ambito dei rapporti di forza un problema uno dei prossimi problemi da gestire abbiamo visto anche sfogliando i giornali c'è l'ipotesi di Zingaretti vice premier ieri lo stesso segretario del PD è tornato a spingere sulla questione MES che invece trova il contrario il Movimento 5 Stelle e il premier Conte ecco nell'ambito dei rapporti di forza anche se i numeri sono in grande prevalenza per il Movimento 5 Stelle dopo quello che è successo il 4 marzo 2018 ma questi rapporti di forza possono essere rivisti alla luce della prova del PD in queste amministrative in particolare alle regionali guardi non sono propriamente d'accordo con con questa osservazione io credo che il migliore interprete di questo referendum e quindi di questo consenso poi cittadino sia stato il Movimento 5 Stelle in modo particolare nella persona di Luigi Di Maio che si è speso tantissimo per questa campagna referendaria per cui sicuramente ne risulta rafforzata questa forza politica e la persona del del ministro ma sicuramente ecco ci saranno delle potrebbero esserci delle evoluzioni come giusto che sia in un percorso come dicevo prima di condivisione tra più forze politiche ancora Andrea da studio non so se vuoi restare su questo tema se ha altre domande altrimenti procediamo noi qui da Chieti no chiaramente insomma questa è una riflessione che abbiamo fatto alla luce di quello che hanno detto le regionali perché se questo governo poi effettivamente ha tenuto se non c'è il rischio di tornare subito al voto se questa spallata è stata frenata è proprio per la prova del del partito democratico in determinate regioni sappiamo che ad esempio in Puglia la leadership di Emiliano era messa a forte rischio dalla presenza di di Fitto doveva essere un testa a testa sembrava fosse un testa a testa poi è stata una vittoria piuttosto larga così come anche in Toscana la Toscana rischiava di perdere quella pardon il centro-sinistra rischiava di perdere quella che era una roccaforte come appunto la Toscana e invece poi anche lì c'è stato un discreto divario tra il candidato del centro-sinistra Gianni e quello del centro-destra Ceccardi quindi il mio riferimento era proprio non tanto a quello che ha detto il referendum che è un dato piuttosto consolidato ma a quello che hanno detto effettivamente le regionali quindi io torno per chiudere insomma su questo aspetto non so se vuole aggiungere qualcosa l'onorevole torto No, provo a interpretare io Andrea faccio una osservazione un po' più dettagliata perché ieri Emiliano è stato anche abbastanza duro anche con il Movimento 5 Stelle e quindi diciamo che probabilmente politicamente adesso ci sarà quella che giornalisticamente noi definiamo una resa dei conti anche se forse è un termine un po' troppo bellicoso però provo a interpretare la domanda del collega a porla in maniera un po' più semplice questo rimpasto alla fine di governo ci sarà o no? Vediamo chi e se lo chiederanno io ovviamente il Movimento funziona così che ci sono delle sensibilità locali che poi decidono cosa e come muoversi io da Abruzzese non mi sento di poter commentare le scelte fatte nella regione Puglia per cui vedremo saremo a vedere allora Andrea so che ci sono i primi dati da Montoreo al Vomano quindi possiamo venire da voi in studio per osservare i primi dati andiamo da Jacopo proprio per avere i primi dati caldi caldi Jacopo vediamo i dati di Montoreo al Vomano ovviamente fanno riferimento a molte sezioni ma parte di loro è in netto vantaggio altitonante con il 47,5% sono 193 voti scrutinati non abbiamo messo le sezioni perché in realtà sono molte non tutte e parte di esse ovviamente non è appena iniziato lo scrutinio quindi sarebbe stato inutile darvi il numero di sezioni che non sono complessive sono 15 in totale sono la prima parte di una decina di sezioni altitonante al 47,5% segue Di Giambattista con il 34,7% e poi Magno con il 17,7% dunque in questo momento è avanti il candidato sindaco del centrodestra altitonante poi ovviamente vedremo questi sono dati assolutamente parziali però danno già una tendenza di quello che è il voto di Montorrio al Vomano poi vedremo se ovviamente saranno confermati la tendenza è di un vantaggio del candidato sindaco del centrodestra questi sono i dati da Montorrio al Vomano che abbiamo in possesso al momento alla luce di questi dati Jacopo altitonante al momento sta diciamo usufruendo di questa spaccatura che c'è stata in seno al centro sinistra con la candidatura last minute di Alessandro Di Giambattista che evidentemente sembra stia togliendo voti a Eleonora Magno quindi insomma questo è il primo dato che possiamo desumere chiaramente siamo all'inizio dello spoglio sì assolutamente lo ripetiamo i voti che vi abbiamo mostrato sono voti reali cioè sono voti scrutinati chiaramente fanno riferimento a una decina di sezioni su 15 ma ovviamente siamo nella parte iniziale chiaramente così come arrivano dalle varie sedi dai vari seggi noi ve le proponiamo in questo momento questa è la tendenza chiaramente con tre liste e due fondamentalmente che fanno riferimento all'area di centro sinistra evidentemente è il classico esempio della terza via che ha gioco gioco facile tra i due litiganti ovviamente il terzo sostanzialmente quando si tratta di elezioni nove volte su dieci gode ed effettivamente se fossero confermati questi dati sarebbe un successo da parte del centrodestra che di fatto avrebbe la possibilità di sfruttare questa spaccatura nel centro sinistra ricordiamo di Gian Battista ex sindaco di Montorio Albumano poi c'è Leonardo Ramagno che comunque fa riferimento all'area di centro sinistra questi sono i dati appena ne avremo di più aggiornati però erano davvero i primi che potevamo mostrarvi e allora ve li abbiamo mostrati perché fanno riferimento comunque ad una tendenza Montorio Albumano è un comune che viene da due commissariamenti consecutivi perché è caduta la giunta di Centa poi è caduta qualche mese fa la giunta Facciolini quindi insomma è un comune dove si sono registrati due commissariamenti probabilmente insomma da questi primi dati evidentemente ancora presto sembra esserci voglia di un cambiamento radicale ma insomma vedremo quello che dirà il voto successivamente torniamo a Chieti per altre considerazioni con il collega Alfredo Primante anche se scusami Alfredo sto vedendo stiamo per andare anche ad Avezzano all'esterno di Palazzo di Città probabilmente occorrerà ancora qualche minuto per approntare il collegamento allora torniamo da Alfredo Primante a Chieti e poi saremo anche ad Avezzano a te Alfredo sì nel frattempo mi arrivano altri dati da Montorio che confermano sostanzialmente la tendenza che avete fatto vedere in precedenza cioè altitonante in vantaggio nettamente rispetto agli altri due candidati e aggiungo per completare il discorso su Montorio che è un dato abbastanza sorprendente se si guardano i sondaggi della vigilia che invece davano una classifica completamente diversa con Lamagno in vantaggio su altitonante dunque evidentemente i sondaggi in questo caso hanno sbagliato come spesso accade ma torniamo un attimo a Chieti al discorso di Chieti ancora con l'onorevole Torto perché sarà importante vedere anche il distacco che c'è fra Ferrara e eventualmente di Stefano perché anche il gap da colmare sarà un discorso fondamentale nei prossimi 15 giorni nel caso in cui si dovesse andare al ballottaggio sì vedremo i risultati ovviamente ecco come dicevo prima mi astengo dal commentare tutto in precedenza anche perché abbiamo l'inizio dello spoglio insomma forse da un po' da neanche un'ora quindi mi sembra davvero prematuro magari ecco come dicevi prima tu è tutto stravolto e quindi l'exit poll e il sondaggio magari non sono attendibili perché il sondaggio della vigilia parlava Stanislao anche di una vittoria al primo turno di Stefano almeno il famoso sondaggio tanto contestato da Mauro Febbo e da Bruno Di Orio sì questo è vero è vero Fabrizio Di Stefano prima indicativamente una settimana più o meno prima ma forse dieci giorni prima una cosa del genere aveva detto che stava intorno al 54% c'era questa percentuale in questo sondaggio che aveva commissionato e che lui ovviamente è assolutamente attendibile secondo le sue fonti eccetera e poi c'è quest'altro delle ultime ore che sembra insomma non dare così sì c'è una forchetta di un 4% sì dal 40 al 44 però ha ragione l'onorevole Torto aspettiamo un attimo prima di insomma di sbilanciarci più di tanto anche se anche se insomma è altrettanto vero che i due poli ci sono i due poli in gara ci sono c'è la destra il centrodestra e la sinistra o pseudotale insomma centrosinistra quindi staremo a vedere perché poi vediamo anche che ruolo avranno queste liste civiche perché io credo Alfredo che sia importante parlare anche di questo perché le liste civiche si sono date grande battaglia durante questa campagna elettorale e il fatto che comunque c'è una forchetta anche per loro importante insomma staremo a vedere anche perché da lì uscirà la eventualmente la sorpresa l'onorevole Torto vi sbigliava qualcosa prego dicevo che si ci deve quasi lasciare per un altro impegno semplicemente completare un attimo il discorso con testa che è interessante questo delle civiche perché è anche vero che questo exit poll dà in vantaggio Ferrara ma non di moltissimo quindi potrebbe anche esserci la sorpresa diciamo di un magari di un Bruno Di Orio che potrebbe scavalcare il polo di centrosinistra ma se così non dovesse essere e dovesse essere Ferrara ad andare al ballottaggio e le percentuali insomma sono lì e non spostano di molto sarà interessante invece vedere quale ruolo assumerà oltre al Movimento 5 Stelle che mi pare abbastanza chiaro che appoggerà Ferrara ma Paolo De Cesare ad esempio chi appoggerà se appoggerà qualcuno questo è pure un tema interessante perché ha una percentuale stando sempre a questo exit poll abbastanza corposa sai Alfredo io intanto credo che tu mi abbia letto nel pensiero perché è così Paolo De Cesare io allora se vogliamo fare se vogliamo passare ai raggi X i candidati nel nel polo civico di Paolo De Cesare beh c'è una grande maggioranza di destra formato da elementi di destra da elementi di conclamata no espressione di destra troverei inusuale troverei davvero inusuale o comunque non dico fuori luogo ma insomma il fatto che si possa uscire dai binari eventualmente per appoggiare il candidato Ferrara quindi c'è una lista formata gran parte da espressioni da militanti di destra quindi voglio dire c'è Giustino Angeloni che non ha bisogno di presentazioni per fare un nome sto facendo un nome ovviamente che non ha bisogno di presentazioni poi è un sanguigno è uno che insomma continua a battersi il petto con i valori della destra mi sembra davvero difficile che la lista il polo civico di Paolo De Cesare possa andare ad appoggiare Ferrara è altrettanto vero è altrettanto vera una cosa però e qui ce lo insegna all'onorevole Torto cioè alla fine decidere l'elettore cioè non è che si può fare lo shampoo all'ultimo momento soprattutto alle comunali si può passare shampoo e balsamo all'elettore all'ultimo momento dicendo ma sai che allora no e quello dice senti io sono una mente pensante se permetti no è anche vero che c'è comunque un filo conduttore una ideologia un modo di leggere la vita politica questo è vero però io non credo che all'ultimo istante conoscendo bene questa città conoscendo molto bene la realtà di Chieti non credo che all'ultimo istante si possa andare a battesimare questo o quell'altro da questo punto di vista che riflessione fai in conclusione poi la lasciamo andare sì sono d'accordo sarebbe alquanto singolare e forse un pizzico incoerente questa diciamo questo apparentamento contro esatto questo eventuale apparentamento stiamo facendo fanta politica chiaramente però la mia considerazione partiva da questo che è stata una campagna elettorale del tutti contro uno fondamentalmente tutti contro Di Stefano che era il vincitore annunciato la grande corazzata di centrodestra con Stanislao me lo confermerà praticamente tutta l'amministrazione di primi o quasi all'interno delle liste di Di Stefano e così confermo Stanislao quindi diciamo una grande corazzata e la mia domanda era siccome si è partiti dal tutti contro uno adesso al ballottaggio bisognerà capire come ci si riposiziona perché De Cesare è attaccato in maniera pesante anche Di Stefano sul fronte della famosa teatinità di Iorio stessa cosa magari Ferrara ha scelto un profilo diverso di campagna elettorale lo stessa cosa ha fatto Amicone ecco perché avevo diciamo portato questa suggestione beh io quello che mi auguro è che il fronte antisalviniano abbia il suo buon effetto quindi conferma la mia la mia sensazione che c'è un fronte antisalviniano per evitare che che la destra torni perché qui insomma Chieti è da ventennio credo amministrata più o meno dal centrodestra allora dobbiamo salutare l'onorevole Torto io la ringrazio io ringrazio voi per il servizio per la disponibilità e tutti coloro che ci ascoltano grazie allora all'onorevole Torto la lasciamo andare via linea che può tornare a te Andrea forse siete pronti anche con Avezzano e poi torneremo fra poco allora intanto grazie Alfredo intanto andiamo di nuovo da Jacopo perché ci sono ulteriori aggiornamenti che arrivano dal comune di Montorio dopodiché siamo ad Avezzano a te Jacopo Andrea allora ti do gli ultimi gli ultimi numeri e prego Claudio Di Giacomo di metterli in onda che riguardano il comune di Montorio aggiornati che sostanzialmente confermano il vantaggio di Fabio Altitonante candidato sindaco del centrodestra al comune di Montorio con 273 voti pari al 47,5% e poi di Giambattista 196 voti pari al 34,1% e poi Magno 106 pari al 18,4% peraltro ho anche altri dati che tra un po' aggiorneremo che confermano il vantaggio che si fa sempre più netto di Fabio Altitonante che dunque si avvia in maniera diciamo abbastanza evidente a diventare il primo cittadino del comune di Montorio al Vomano con una forchetta che si sta anche se vogliamo allargando qui siamo nell'ordine degli 80 voti io ho altri dati sono 110 voti di differenza tra Fabio Altitonante e di Giambattista e dunque si profila un netto successo per il candidato sindaco dello schieramento di centrodestra al comune di Montorio al Vomano poi se vuoi Andrea ti faccio vedere anche le prime cento schede del comune di Chieti e si conferma un testa a testa per il ballottaggio tra Diego Ferrara e Bruno Di Iorio ovviamente Fabrizio Di Stefano in vantaggio con il con 45 voti ma ripeto siamo parlando di numeri molto molto piccoli molto molto relativi da prendere con le pinze se non di più 40,5% per Fabrizio Di Stefano con 45 voti 25 voti per Diego Ferrara candidato sindaco del centrosinistra 22,5% e poi Bruno Di Iorio con 23 voti due di meno pare al 20,7% e poi ci sono gli altri due candidati sindaco Paolo De Cesare con 15 voti pare al 13,5% e Amicone nel Movimento 5 Stelle con 3 voti pare al 2,7% questo chiaramente lo ripetiamo e lo capite da soli dalla portata del numero di voti complessivi sono davvero i primi i primi voti scrutinati di cui si ha conoscenza però che fotografano molto bene quello che era l'exit poll di ieri pomeriggio di Opinio Italia per Rai ovvero Fabrizio Di Stefano con una forchetta tra il 40 e il 44% comunque in netto vantaggio ma con un vantaggio non sufficiente a garantirsi la vittoria al primo turno e poi l'altra vera notizia è questo che era anche confermata dall'exit poll di ieri questo testa a testa tra il centro-sinistra con Diego Ferrara e Bruno Di Iorio per chi sarà lo sfidante di Fabrizio Di Stefano al ballottaggio tra due settimane ecco questa era più o meno la fotografia questa è la fotografia rispetto veramente poco più di un centinaio di schede eh sì poi insomma abbiamo mostrato in precedenza l'exit poll questi sono dati nudi e crudi sono dati freschi appena usciti dalle urne quindi insomma sono dati veritieri per quanto i numeri siano estremamente esigui però insomma intanto è qualcosa andiamo ad Avezzano che è l'altro comune in questo caso non capoluogo di provincia ma altro comune sopra i 15.000 abitanti dunque con prospettiva chissà anche di ballottaggio visto che anche in questo caso sarà una battaglia serrata 6 i candidati sindaco in competizione 25 le liste e insomma ci sarà tanto da dire anche sul principale centro della Marsica buongiorno a Paolo Renzetti Paolo ciao Andrea buongiorno un saluto ai nostri telespettatori siamo in piazza della Repubblica ad Avezzano nella piazza alle nostre spalle vedete il municipio piazza che è stata recintata dalle forze dell'ordine dalla polizia locale in questo caso per permettere appunto le operazioni post voto tra l'altro alle mie spalle forse potete vederlo inquadrato da Roberto Pulimanti c'è anche un mega schermo che servirà tra qualche minuto è nel corso della mattinata della giornata per far seguire anche ai cittadini di Avezzano presenti qui in piazza della Repubblica lo svolgimento appunto dello spoglio per queste importanti elezioni comunali nella città di Avezzano come dicevi tu Andrea il comune il secondo comune più importante dopo Chieti tra l'altro comune che era stato commissariato dopo la caduta del sindaco De Angelis dunque poi tra poco cercheremo di ascoltare anche il commissario del comune di Avezzano che in pratica termina in queste ore il suo lavoro e dunque da questa sera si capirà se si andrà al ballottaggio o se ballottaggio ha diciamo abbastanza prevedibile considerando i sei candidati o se già questa sera ci sarà il nome del nuovo sindaco della città di Avezzano sei candidati dunque c'è Gianni Di Pangrazio con otto liste civiche tra l'altro ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio fratello dell'ex presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e poi un centrodestra che si presenta si è presentato al voto qui ad Avezzano diviso con Anna Maria Taccone quattro le liste a suo supporto tra cui quella di Forza Italia poi l'esponente del partito democratico Mario Babbo e poi Tiziano Genovesi Mario Babbo che avrà delle liste a supporto di quella principale del partito democratico poi l'esponente coordinatore provinciale della Lega dell'Aquila Tiziano Genovesi appoggiato dalla Lega stessa da Fratelli d'Italia dall'Udc e da La Lista Cambiamo il Futuro e poi c'è Antonio Del Boccio ex Fratelli d'Italia due le liste per De Boccio io per Avezzano e Civiltà Italiana infine Nicola Stornelli candidato di Rifondazione Comunista e di Potere al Popolo con la lista Avezzano Bene Comune dunque sei candidati alla carica per la carica di primo cittadino e come detto c'è forte rischio che si possa arrivare al ballottaggio che come ricordavate anche voi da studio è in programma il 4 e 5 ottobre prossimi e dunque un test importante quello di Avezzano così come importante ovviamente quello di Chieti soprattutto in chiave centrodestra perché la divisione ancora più netta di quella che c'è stata a Chieti la divisione del centrodestra qui ad Avezzano sicuramente avrà ripercussioni sia a livello regionale ma anche a livello nazionale come a Chieti anche qui ad Avezzano Forza Italia non ha appoggiato come invece è stato a livello nazionale il candidato della Lega Tiziano Genovesi le operazioni di spoglio sono iniziate da circa un'ora forse qualche minuto in meno sono le 9 e 59 minuti ovviamente non abbiamo ancora dati seppur molto molto parziali tra poco ci porteremo all'interno di Palazzo di Città per andare a vedere e andare a ascoltare anche la voce del commissario prefettizio della città di Avezzano a te la linea Andrea parlato di questa divisione in seno al centrodestra che ha portato a due diverse candidature quella di Tiziano Genovesi e quella appunto di Anna Maria Taccone anche sul fronte centrosinistra il Partito Democratico è tra le otto liste che appoggiano Mario Babbo e poi c'è l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio che è un altro esponente del centrosinistra che è invece appoggiato da una coalizione civica da un insieme di liste civiche sono sei le liste che appoggiano Mario Babbo tra questi il PD otto le liste civiche che appoggiano Gianni Di Pangrazio quindi anche nel comune di Avezzano ci sono state delle divisioni è sul fronte centrodestra e sul fronte centrosinistra sì più marcate per quanto concerne il centrodestra giustamente come dici tu anche nel centrosinistra c'è la candidatura ufficiale in chiave PD di Mario Babbo e poi c'è la candidatura di Gianni Di Pangrazio che è stato sindaco con una coalizione di centrosinistra nella città di Avezzano che si presenta con ben otto liste civiche chiaro che questa è una divisione un po' più sfumata rispetto a quella del centrodestra ma anche in questo caso giustamente bisogna rimarcare questa questa divisione dunque un test elettorale che ha una grande valenza per quanto concerne proprio la città di Avezzano sicuramente questo queste divisioni nelle due coalizioni hanno origini lontane e non è un caso che proprio ad Avezzano ci sia stato fino ad oggi il commissario proprio per far sì che potessero svolgersi queste elezioni elezioni molto attese abbiamo un po' girato per il centro di Avezzano prima di questo collegamento del primo collegamento c'è grande attesa c'è grande fermento tra i cittadini della città marsicana perché questo è un test davvero importante a proposito di Marsica Andrea tra l'altro ricordiamo che ovviamente il test principale per la Marsica riguarda Avezzano ma ci sono altre elezioni nei comuni della Marsica importanti soprattutto a Celano siamo a pochi chilometri da Avezzano con la sfida tra il sindaco uscente Settimio Santilli e Gesualdo Ranalletta e poi ci sono test elettorali anche in altri comuni della Marsica o comunque al confine con la Valle Peligna come Collarmele Collelongo Rocca di Botte Cappadocia Aielli e Sante Marie dunque questi test elettorali ovviamente qui parliamo di comuni dove non è previsto il ballottaggio dove ovviamente nel primo pomeriggio in tarda mattinata avremo già il avremo i nomi dei nuovi primi cittadini di questi centri ovviamente Avezzano e poi Celano sono i due centri principali ricordiamo che insomma anche prima abbiamo detto di Montorio ci sono stati due commissariamenti consecutivi anche Avezzano ha avuto una storia piuttosto tormentata negli ultimi anni intanto partendo dalle ultime elezioni comunali quando Di Pangrazio si presentava come sindaco uscente ebbe la maggioranza dei voti al primo turno ma non riuscì a imporsi ci fu ballottaggio con De Angelis che aveva diversi punti percentuali da rimontare e la rimonta di De Angelis poi avvenne e a sorpresa ci fu la vittoria proprio dell'esponente allora del centrodestra poi però problemi di una maggioranza risicata si sono riversati sull'amministrazione fino a che non c'è stata la caduta della giunta poco più di un anno fa e da lì poi si è insediato il commissariamento quindi insomma da un certo punto di vista Di Pangrazio ora ci riprova anche se la sfida è piuttosto diciamo così frammentata vedremo anche quello che sarà il risultato di Anna Maria Taccone che ha al suo interno esponenti che sono vicini all'ex sindaco De Angelis quindi tra le righe insomma dovremmo cercare di decriptare questa sfida in questo senso dunque anche Avezzano viene da una storia recente amministrativa piuttosto tormentata e beh sì hai fatto bene ricordarlo perché un anno fa ci fu la caduta per via dell'anatra zoppa della giunta De Angelis con l'insediamento del commissario De Angelis è diciamo il fautore insieme a Forza Italia o comunque quell'altra parte di centrodestra che è entrata in rotta di collisione non solo ad Avezzano con la Lega e anche Fratelli d'Italia fa autore di questa lista di questa candidatura di Anna Maria Taccone che come detto è supportata dalla lista principale di Forza Italia e da altre tre liste dunque anche in questo caso bisognerà capire quale sarà il risultato di Anna Maria Taccone e soprattutto capire se per quanto riguarda un eventuale ballottaggio che sembra a questo punto direi piuttosto scontato questo ballottaggio possa vedere di fronte quali esponenti perché è chiaro che i favori della vigilia vanno al candidato del centrodestra genovesi però c'è anche il candidato del centrosinistra con il partito democratico ed altre liste Mario Babbo e poi come detto le otto liste civiche di Pangrazio e come detto Anna Maria Taccone poi ovviamente gli altri due candidati che sono Antonio Del Boccio e l'esponente della sinistra Nicola Stornelli dunque tutto ancora in gioco tra poco come detto Andrea ci recheremo all'interno di Palazzo di Città per ascoltare le prime impressioni D'Avezzano è tutto in linea allo studio grazie grazie sfida dunque accesa D'Avezzano allora torniamo da Jacopo Forcella ulteriori aggiornamenti da Montorio al Vomano Jacopo dati che si consolidano sono 1045 le schede scrutinate a Montorio al Vomano come vi dicevo prima netta pare l'affermazione di Fabio Altitonante 493 voti pare al 46,8% poi Alessandro Di Giambattista al secondo posto 328 voti pare al 31,1% terza Eleonora Magno con 233 voti pare al 22,1% delle preferenze è chiaro che anche queste fanno riferimento a dati parziali di 10 sezioni scrutinate ma la tendenza pare essere abbastanza evidente con un successo per Fabio Altitonante candidato sindaco del centrodestra al comune di Montorio che si avvia dunque alla carica di primo cittadino poi ti faccio vedere altri dati che riguardano Chieti qui siamo a dati ancora più parziali quindi mentre a Montorio al Vomano c'è già una tendenza ben definita qui siamo davvero davvero alle primissime battute poi peraltro non sappiamo a quali sezioni fanno riferimento questi questi voti scrutinati quindi potrebbero essere comunque dei voti tra virgolette dopati dal fatto che possano arrivare da alcune sezioni e non da altre quindi davvero prendetele con il beneficio del dubbio perché chiaramente sono assolutamente parziali però insomma l'exit poll di ieri viene comunque rispettato almeno nei primi posti Fabrizio Di Stefano 111 voti 34,6% e poi continua questo testa a testa tra Diorio e Ferrara vedete 78 a 74 voti parliamo di 4 voti di differenza quindi nulla è assolutamente e nel complesso parliamo di 300 voti scrutinati quindi davvero pochissimo però insomma quello che probabilmente dovremo seguire è questo testa a testa per il secondo per il secondo posto tra Diorio e Ferrara in questo momento avanti di 4 voti Diorio ma veramente conta conta quello che conta poi bisogna vedere quando si andrà più in là e poi al quarto posto De Cesare con 42 voti e Amicone con 16 questi insomma sono i dati reali poi quanto siano soprattutto a Chieti a Montorio e a Romano il discorso è molto diverso quanto siano attendibili ovviamente lo scopriremo solo con il passare dei minuti e quando arriveranno dei dati più consistenti e che daranno una visione un po' diversa un po' più generale e consolidata della situazione al comune di Chieti però insomma l'exit Poli Jacopo dava queste forchette sovrapposte in alcuni margini proprio tra Ferrara e Diorio diciamo che questi primi esigui dati vanno in quella tendenza no? Siamo lì? Assolutamente sì io credo che saremmo di fatto ci terrà incollati ovviamente allo schermo vedere e sapere chi tra i due candidati sindaco Ferrara e Diorio andrà al ballottaggio poi chiaramente molto dipenderà molto dipenderà dal dipenderà molto quello che accadrà al secondo turno rispetto a chi andrà al ballottaggio perché è evidente che come diceva prima Stanislaw Liberatore prima ci sono alcune liste che rimarrebbero fuori per esempio che hanno al loro interno persone civiche sicuramente candidati civici ma che fanno magari riferimento a un'area oppure all'altra che vada a Ferrara o vada a Diorio al secondo turno sarà importante perché poi da qui a due settimane i movimenti politici gli apparentamenti se ci saranno o comunque gli appoggi esterni sostanzialmente chiamiamoli così saranno fondamentali rispetto a chi effettivamente al ballottaggio ci andrà ok grazie visto che parliamo di voti nudi e crudi i primi che sono arrivati arrivano dalle varie sezioni siamo proprio all'esterno di alcune di queste sezioni vedo 3 4 5 6 andiamo da Giuseppe Dintino buongiorno Giuseppe che si trova a Chieti per le vie di Chieti nei pressi di alcune sezioni a te buongiorno Andrea buongiorno telespettatrici siamo qui fuori uno di Chieti fuori all'esterno dalle 9 di questa mattina si sta provando il scrutinio dei voti i numeri che Jacopo stava in questi primi parziali il ball che era la fase ha confermato con ogni prova di un vantaggio perché il caninio di testa quello del centro di testa non è stato dobbiamo rientrare perché c'è qualche problema sulla linea audio che va e viene quindi cerchiamo magari se è possibile di risolvere diamo un aggiornamento perché ad Avezzano fra poco alle 10 e 15 dovrebbero arrivare le prime proiezioni quindi insomma tra poco cercheremo di tornare anche da Paolo Renzetti appena ci saranno i primi dati disponibili per avere le prime proiezioni dal comune di Avezzano io provo a tornare da Giuseppe Dintino purtroppo c'era qualche problema a livello audio torno da lui per ripristinare il collegamento Giuseppe eccoci spero che mi grazie a che punto ascoltato prima dicendo che appunto da qui si può uno di chiedi possiamo i numeri che ha dato Jacopo che in testa il centrodestra non avrebbe superato non ci siamo quindi dobbiamo dobbiamo rientrare cerchiamo chiaramente di approntare una soluzione che sia migliore torno dunque a Chieti eravamo a Chieti ci restiamo ma torniamo al quartier generale da Alfredo Primante Alfredo sì allora Andrea siamo in attesa del candidato scusate dell'ex sindaco Umberto Di Primio che dovrebbe arrivare tra poco qui nel nostro studio approntato a Palazzo De Maio per commentare insieme il voto questi primi dati ma anche per fare un bilancio della sua amministrazione che è durata dieci anni di primo infatti non si è ricandidato perché al secondo mandato dunque a scadenza diciamo della periodo naturale dei due mandati consentiti dalla legge ho visto i primi dati insomma confermano quello che in qualche maniera abbiamo detto questa mattina assieme all'onorevole Daniela Torto assieme a Stanislao Liberatore questo testa a testa tra Ferrara e Diorio per il secondo posto e per accedere dunque al ballottaggio del 4 e 5 di ottobre Fabrizio Di Stefano insomma non c'erano dubbi che potesse essere in vantaggio vista la grande mole anche di candidati consiglieri all'interno delle sue liste e soprattutto vista la tradizione di Chieti dobbiamo sempre ricordare che questa è una città in cui il centrodestra amministra da oltre 20 anni e comunque sia al di là di tutto al di là della parentesi dell'amministrazione Ricci di centrosinistra è sempre stata una città fondamentalmente di centro o di centrodestra a seconda dei momenti storici però è chiaro che a questo punto insomma anche per Ferrara per esempio potrebbe essere una buona occasione per espugnare una roccaforte del centrodestra in Abruzzo centrodestra che in queste elezioni l'avete ricordato voi da studio si è presentato sostanzialmente diviso la spaccatura c'è stata soprattutto con l'assessore regionale Mauro Febbo che ha deciso di andare per conto suo di mettersi in proprio di non appoggiare la candidatura di Fabrizio Di Stefano e dunque di proporre la sua lista assieme a Bruno Di Orio ed assieme ad una parte del centrosinistra i Renziani che appunto hanno credo posso dire sottratto dei voti a questo punto a Ferrara che se i Renziani lo avessero appoggiato Alfredo scusami ti interrompo perché ci sono le prime proiezioni che arrivano dal comune di Avezzano non so se ci ascolta Paolo Renzetti però possiamo anche andare in video perché almeno abbiamo questi dati da mostrarvi sono no andiamo andiamo ad Avezzano proprio con Paolo ci ascolti comunque 35,16% per Giovanni Di Pangrazio 21,34% per Tiziano Genovesi poi Mario Babbo 18,06% Anna Maria Taccone 17,74% Antonio Del Boccio 6,31% Nicola Stornelli 1,39% queste sono le proiezioni analisi effettuata sulle prime mille schede scrutinate sono dati che arrivano dal comune di Avezzano con un vantaggio piuttosto evidente piuttosto netto di Giovanni Di Pangrazio ex sindaco di centro-sinistra del comune di Avezzano che si è presentato con otto liste è una coalizione civica dietro di lui Tiziano Genovesi candidato della Lega sostenuto anche da Fratelli d'Italia dall'Udc e da una civica c'è un divario piuttosto evidente 35,16% contro 21,34% e poi una seconda posizione di Genovesi che è insidiata da Mario Babbo candidato del PD più altre 5 liste civiche e Anna Maria Taccone altra candidata sul fronte centro-destra in particolare Forza Italia Allora questo arriva dal comune di Avezzano io non so se c'è Paolo Renzetti che ci ascolta e magari può darci qualche ulteriore dettaglio Paolo Sì ci sono ci sono Andrea mi ascolti? Ok sono dati come li possiamo commentare sono dati sorprendenti o no? Ma io credo che sicuramente ci sia la sorpresa soprattutto del distacco tra Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi parliamo di un distacco poco superiore al 13% come hai detto anche tu da studio l'ex sindaco di Avezzano è quello candidato fino a questo momento con le prime mille schede scrutinate che è in netto vantaggio 35,16 e poi ci sono tre candidati invece tre altri candidati sindaco che sono davvero a poca distanza l'uno dall'altro perché c'è Tiziano Genovesi con il 21,34 poi Mario Babbo del Partito Democratico centro-sinistra col 18,06 ma subito dopo c'è Anna Maria Taccone col 17,74 quindi un distacco tra l'esponente della Lega Tiziano Genovesi e poi Babbo e Anna Maria Taccone di tre punti percentuali poco più dunque un distacco minimo con Gianni Di Pangrazio che è invece nettamente avanti ovviamente il riferimento è alle mille schede scrutinate ma credo che per questo primissimo dato che arriva da Avezzano si possa sicuramente parlare di sorpresa tra l'altro tra poco Andrea dovremmo avere a nostro microfono il commissario prefettizio di Avezzano il dottor Mauro Passerotti e dunque ascolteremo anche dalla sua voce insomma innanzitutto come proseguono le operazioni di scrutinio e poi insomma è quello che accadrà anche da qui alle prossime ore poi cercheremo ovviamente anche di parlare da un punto di vista più politico non tanto con il commissario prefettizio ma con qualche altro ospite che tra poco dovrebbe palesarsi qui a Palazzo di Città ad Avezzano per il momento allora io ti restituirei la linea e quando ovviamente ci sarà il commissario dottor Passerotti al nostro microfono torneremo qui da Avezzano linea allo studio dunque ad Avezzano come a Chieti c'è un voto piuttosto frammentato però diciamo che c'è questa sorpresa di questo divario tra i primi due candidati in base alle proiezioni oltre il 35% di Pangrazio 21% genovesi sono circa 14 punti percentuali di differenza una differenza evidente anche se sono proiezioni su mille su mille schede scrutinate torniamo riproviamo da Giuseppe Dintino a Chieti Giuseppe eccoci buongiorno ci siamo leggermente spostati spero che adesso il segnale sia eh no non siamo fortunati allora andiamo ad Alfredo Primante sempre a Chieti ma nello studio centrale a te Alfredo sì grazie Andrea ci ha raggiunto Luca Macione di Azione Politica con il quale cominciamo a commentare questi primi dati che arrivano dai voti reali non quelli insomma dei sondaggi degli exit poll come possiamo leggere la situazione anche se siamo alle prime schede beh sì diciamo che attualmente i voti scrutinati sono davvero pochi le notizie che arrivano dai nostri rappresentanti presso le sezioni parlano insomma di un sostanziale equilibrio tra in questo momento sia la coalizione di Ferrara che quella di Bruno Iorio ma anche la nostra che vede Paolo De Cesare come candidato sindaco è in sicuramente rimonta e i dati che abbiamo noi ci danno ci attestano su una percentuale sicuramente superiore rispetto a quella attribuitaci ieri dagli exit poll quindi diciamo che sostanzialmente secondo voi si rispetterà la previsione della vigilia che vi dava intorno al poco meno del 20% sì noi siamo molto fiduciosi abbiamo lavorato bene a detta di tutti abbiamo fatto la campagna elettorale migliore quindi crediamo nel nostro elettorato pensiamo che comunque saremo in grado di dare un apporto decisivo alla prossima consigliatura e vediamo quello che accadrà credo che il vero dato politico che ormai possiamo dare per acquisito è quello che il ballottaggio che qualcuno aveva escluso a priori deve considerarsi pressoché sicuro e mi sembra anche di poter dire che il centrodestra rispetto alla scorsa tornata elettorale amministrativa subisce un calo considerevole perché dobbiamo considerare che rispetto al 38% che prese al primo turno Umberto Di Primio cinque anni fa quest'anno lo schieramento di centrodestra annoverava tra le sue fila anche Bruno Di Paolo che prese dell'8% cinque anni fa e la Lega che prese una percentuale intorno al 3% quindi complessivamente non era la Lega di adesso ma complessivamente questi tre schieramenti che oggi sono inglobati nella coalizione di centrodestra sommavano tra di loro circa il 50% credo che difficilmente Fabrizio Di Stefano riuscirà ad arrivare oltre il 42-43% Allora la tengo ancora un po' qui anche perché dovremmo parlare poi dell'eventuale ballottaggio insomma i temi sono tanti però andiamo un attimo da Andrea forse c'è Avezzano pronta con un collegamento a te Andrea Sì 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 grazie Alfredo torniamo tra poco da te ma siamo di nuovo da Paolo Renzzetti ad Avezzano Paolo Sì grazie grazie prendiamo nuovamente la linea in diretta ad Avezzano sempre piazzale della Repubblica con il dottor Mauro Passerotti commissario prefettizio della città di Avezzano allora dottor Passerotti siamo il giorno decisivo insomma per queste elezioni almeno per questo primo turno perché anche se questi sono dati davvero molto molto diciamo i primi dati su mille schede scrutinate si profila quello che si pensava alla vigilia cioè il ballottaggio un giorno importante ma diciamo che caratterizzato da un commissariamento molto lungo ma credo basato sulla efficienza e sulla presenza di governo in questo senso la città non ha dovuto soffrire la carenza del governo e molte decisioni anche sono state prese direi largamente condivise si è operato come avete visto anche in questa circostanza con la massima apertura al dialogo e questo è il messaggio credo e l'azione che lasciamo alla nuova amministrazione ripeto spero con il gradimento sono sicuro con il gradimento della maggior parte per lei che esperienza è stata questa di Avezzano? io sono abituato perché sono negli ultimi 10-15 anni mi occupo di commissariamenti di comuni dell'Italia centrale e del sud e alcuni molto disastrati quindi sono allenato da questo punto di vista e ho trovato una calorosa accoglienza per la conoscenza di questo territorio pregressa per altri commissariamenti nella regione Abruzzo e questo mi ha fatto molto piacere e ho condotto come le dicevo con la massima apertura nei confronti di tutti l'ascolto prendendo però anche delle decisioni che poi sono al vaglio di tutti insomma comunque sono condivise dalla maggior parte quindi sapevamo di arrivare a questo momento probabilmente se continuano questi dati ci sarà anche il ballottaggio aspettiamo i dati finali per poter poi dire giusto alla fine vedendo i numeri non le proiezioni operazioni di voto che si sono svolte nella massima regolarità sì e anche con una certa efficienza non ci scordiamo in questo momento io ho abbassato la mascherina perché per far sentire meglio la voce tenendo la distanza ma siamo tutti abbiamo tutti esercitato delle elezioni per la prima volta in uno stato di emergenza comunque con delle norme di precauzione nonostante questo c'è stata una larga adesione dei votanti un'altissima percentuale e quindi vuol dire che tutto si sta svolgendo si è svolto e si sta svolgendo regolarmente nonostante le regole che stiamo osservando perfetto grazie al dottor passerotti commissario di Avezzano linea che può tornare allo studio grazie grazie allora prima di tornare a Chieti diamo i primi verdetti sono piccoli comuni ma insomma a Villa Santa Lucia in provincia dell'Aquila il sindaco è Antonio Paride Ciotti della lista noi per Villa Santa Lucia e Carrufo che ha vinto con 67 preferenze contro le sole 2 di Federica Greco di Villa Santa Lucia domani e poi c'è il verdetto anche a Guilmi dove c'è la riconferma di Carlo Racciatti sindaco uscente per la lista buon governo per Guilmi 208 preferenze netta affermazione su Vincenza Berardi 56 preferenze Andrea Ranalli e Riccardo Laudadio una sola preferenza zero preferenze per Gianfranco del Bonifro come leggiamo 904 elettori chiamati alle urne ben 5 candidati a sindaco ma la riconferma di Carlo Racciatti a primo cittadino di Guilmi piccolo comune in provincia di Chieti torniamo a Chieti capoluogo di provincia torniamo ad Alfredo Primante Alfredo sì allora riprendiamo la linea qui da Chieti continuiamo la nostra chiacchierata di commento al voto con Luca Macione di Azione Politica dato importante e sicuramente quello che lei sottolineava un dato di novità la vostra coalizione partiva praticamente da zero non esisteva prima del voto e comunque siete arrivati a un risultato non sappiamo adesso le percentuali precise ma comunque tra il 15 e il 20% è un risultato di tutto rispetto però altro dato politico la spaccatura che pesa all'interno del centro-destra e che probabilmente ha fatto sì che si vada al ballottaggio beh allora per quanto riguarda la posizione della nostra coalizione è chiaro che si profila un risultato comunque straordinario perché come giustamente diceva lei abbiamo avuto la capacità in questi mesi di aggregare partendo da zero un polo civico costituito da quattro liste da 128 candidati consiglieri un polo civico che è stato davvero trasversale civico perché non avevamo presenti in nessuna delle quattro liste amministratori uscenti e peraltro anche il numero degli ex amministratori era risicatissimo quindi davvero una coalizione sotto questo profilo civica e trasversale credo che sotto questo profilo il nostro successo lo evidenzi già il primo dato certo che abbiamo in questa tornata elettorale che è quello dell'affluenza hanno votato grossomodo 30.000 cittadini questo è un dato che in un periodo storico come questo è davvero significativo in controtendenza in controtendenza e diciamo che rispetto a quello che era il dato atteso dei 27 massimo 28.000 votanti vuol dire che c'è stato un elemento di novità che ha spinto la cittadinanza a regarsi con questa consistenza al voto è chiaro che se devo guardare un pochettino quella che era l'offerta politica presente in questa tornata mi sembra che l'elemento di novità che sia stato in grado di essere attrattivo verso l'elettorato sia stato chiaramente il nostro per quanto riguarda la questione della spaccatura nel centro-destra beh mi preme rimarcare come il senatore di Stefano per tutta la campagna elettorale abbia parlato di centro-destra unito ed abbia messo anche il simbolo di Forza Italia su tutti i manifesti elettorali in tutte le manifestazioni pubbliche e quant'altro quindi poi questa spaccatura non c'è il simbolo però in tutti i manifesti c'è stato per tutta la campagna elettorale si è parlato di centro-destra unito quindi prendo atto di quelle che sono le parole del senatore di Stefano non posso parlare di spaccatura poi tra l'altro c'è stata anche una contesa con Forza Chieti la lista di Mauro Febbo sul simbolo non entro in questione ma era per completezza sì quindi io non posso che prendere atto delle parole di tutta la coalizione di centro-destra che per tutta la campagna elettorale ha tenuto a precisare che si trattava appunto di una coalizione unita forte e coesa per cui ecco prendo atto semplicemente che quattro consiglieri uscenti che facevano parte del gruppo consigliare di Forza Italia si sono presentati con una lista dichiaratamente civica poi sulla natura civica i cittadini hanno fatto le loro valutazioni però il centro-destra ci ha tenuto per tutta la campagna elettorale a dire che si trattava di uno schieramento coeso e unito adesso che cosa accadrà al ballottaggio insomma anche voi dovrete insomma capire dove posizionarvi in questo ballottaggio ovvio stiamo ragionando non sapendo chi è lo sfidante di Stefano però se dovesse essere ad esempio il centro-sinistra che succederà? Beh premesso che noi speriamo di essere protagonisti diretti nel ballottaggio speriamo insomma che la seconda posizione vada al pannaggio di Paolo De Cesare se così non dovesse essere dobbiamo partire da un presupposto fondamentale la nostra coalizione è nata per un'esigenza molto precisa riteniamo che i partiti oggi non siano assolutamente rappresentativi dei territori sotto questo profilo è nata la nostra idea politica e queste sono queste sono le idee che vogliamo continuare a portare avanti per questo motivo in caso di eventuale ballottaggio che non ci vedesse protagonisti diretti è chiaro che dovremmo utilizzare una metodologia diversa da quella dei partiti che vedono che tendono sempre più a decidere in assise ristrette formate da pochissime persone quindi sotto questo profilo ecco io ritengo che noi dobbiamo rappresentare una novità anche sotto il profilo metodologico e quindi dovremmo aprire certamente una discussione interna che veda protagonisti i nostri candidati io direi anche una parte del nostro elettorato e in quella sede chiaramente prendere una decisione condivisa che venga dal basso perché noi siamo nati con l'esigenza di riportare la politica sul territorio dal basso e chiaramente non possiamo sotto questo profilo essere incoerenti con la nostra idea e con noi stessi quindi ecco è chiaro che non sarà una decisione che prenderemo in pochi ma sarà una decisione condivisa con la base un discorso che potete applicare sia da secondi che non mi sembra di capire cioè che vale sia se siate voi assolutamente sì noi ecco sotto questo profilo voglio parlare anche a titolo personale io credo che i partiti siano la massima espressione di democrazia che abbiamo nelle nostre società definiamole civili forse un po' di civiltà la stiamo perdendo sotto questo profilo quindi io in assoluto non ho assolutamente nulla contro i partiti però è chiaro che da qualche anno stiamo vedendo un fenomeno ormai chiaro quello per il quale i partiti tendono sempre più a accentare le decisioni verso Roma piuttosto che verso l'Aquila a livello regionale noi vogliamo invece che la politica torni tra la gente come era una volta come c'erano le sezioni quindi sotto questo profilo il metodo è uno strumento importante e sotto questo profilo ripeto è chiaro che noi cercheremo di allargare la decisione quanto più possibile a quella che è la nostra base sempre restando al discorso ballottaggio perché c'è un almeno ai primi dati stando ai primi dati ci sarebbe questo testa a testa Ferrara Diorio con De Cesare leggermente più staccato poi vedremo magari rimonterà De Cesare però Diorio ha fatto una campagna elettorale sulla teatinità De Cesare ha puntato molto sulla teatinità Ferrara ha scelto un altro profilo bisogna essere onesti così come amicone ma chiaramente ognuno poi fa la campagna elettorale che crede però la questione teatinità è stata centrale in questa campagna elettorale tornerà anche nel ballottaggio questo diciamo sentimento di teatinità che poi si riferisce chiaramente a Di Stefano che è originario di Tollo anche se abita a Chieti no io credo che sono sono certo che il tema centrale sarà quello della teatinità legato al fatto che purtroppo la teatinità da troppi anni sconta un prezzo troppo alto qui per teatinità non intendiamo la mera appartenenza ad una bandiera o a decolori ma condizioni di vita condizioni economiche condizioni sociali che in questo momento ok rientriamo rientriamo perché c'è qualche problema sul fronte audio prima di andare da Jacopo Forcella c'è un un altro sindaco che è stato eletto comune di Fagnano Alto netta affermazione per il sindaco uscente Francesco D'Amore lista civica per Fagnano 252 preferenze 96,92% dei voti per lui al secondo posto lo sfidante Domenico di Pasquale appena 8 preferenze lista insieme dunque Fagnano Alto riconferma per Francesco D'Amore andiamo da Jacopo Forcella Jacopo un paio di aggiornamenti quello su Montori Albumano 2241 schede scrutinate e si conferma il vantaggio che oramai possiamo dire che dovrebbe portare al successo Fabio Altitonante con 1.001 voto pari al 45% al secondo posto Alessandro Di Giambattista 727 voti pari al 32,7% delle preferenze poi chiude Eleonora Magno con 495 voti pari al 22,3% delle preferenze prima vi avevamo fatto vedere altri numeri del Comune di Chiedi che sono leggermente aggiornati Fabrizio Di Stefano in vantaggio con 301 voti 38,2% al secondo posto Bruno Di Iorio con 158 voti 20,1% tallonato da Diego Ferrara 151 voti 19,2% e poi vediamo effettivamente un recupero di Paolo De Cesare 111 voti 14,1% e poi a chiudere Amicone con 67 voti pari all'8,5% così e poi vediamo anche degli aggiornamenti che riguardano il Comune di Torre dei Passeri dove è in vantaggio Giovanni Mancini con la lista solo per Torre 406 voti vantaggio netto al secondo posto invece c'è Antonello Linari con 184 voti quindi molto staccato chiude un'altra Torre di Maurizio calore con 111 voti questo è il Comune di Torre dei Passeri in provincia di Pescara e dunque Giovanni Mancini che si avvia con ogni probabilità ad essere il nuovo primo cittadino del Comune di Torre dei Passeri beh anche qui spendo due parole perché è un risultato sorprendente anche nelle dimensioni quello che sta che si sta concretizzando Torre dei Passeri perché comunque Antonello Linari è un personaggio Fortex vicepresidente della provincia di Pescara ai tempi della giunta dei Dominicis già sindaco per due mandati consecutivi dal 2004 al 2014 di Torre dei Passeri nella scorsa tornata elettorale lo abbiamo ricordato si è presentato come unico candidato ma non si è raggiunto il quorum e dunque c'è stato il commissario per un anno e ora in questa nuova tornata elettorale per ora si sta profilando una netta sconfitta per Linari con Giovanni Mancini della lista solo per Torre in chiaro vantaggio torniamo da Alfredo Primante a Chieti Sì spero che adesso si siano risolti i problemi di audio volevo far completare Luca Maccione il ragionamento che stava facendo in precedenza Sì si parlava di teatinità come elemento centrale di questa campagna elettorale io ripeto il concetto che abbiamo cercato di esprimere noi non è quello di teatinità come mera appartenenza dei colori sociali ma come necessità di riscatto economico e sociale per una città che negli ultimi anni ha attraversato e purtroppo sta attraversando dei grossi problemi che vanno ben al di là di quella che è la situazione contingente nazionale ed internazionale che ben conosciamo sotto questo profilo quindi la contestazione che è stata fatta al senatore Di Stefano non è tanto quella del non essere nato a Chieti quanto quella che in cinque anni da senatore cinque anni da deputato cinque anni otto anni da consigliere regionale e cinque anni da presidente del consigliere comunale non mi sembra che abbia ottenuto straordinari risultati per la città ma io temo e dirò di più purtroppo anzi ancora di più il concetto di teatinità non può essere applicato al suo schieramento politico perché purtroppo aver deciso di ricandidare in blocco coloro che negli ultimi dieci anni hanno avuto la responsabilità amministrativa di questa città sia a livello individuale che collegiale ecco io penso che sia stato l'elemento che chiaramente ha posto quella coalizione in contrasto con gli interessi della città e mi sembra che i primi dati che stiano arrivando vadano in questa direzione perché fino a un mese fa ricordo ma anzi fino a qualche giorno fa si parlava di vittoria certa al primo turno di percentuali schiaccianti addirittura vicine e prossime al 60% ecco credo che siamo ben distanti da quei dati Salvini è venuto più volte a Chieti e anche questo traino di Salvini ci si aspettava forse che desse un impulso maggiore o sbaglio? Probabilmente lo ha dato nel senso che io ritengo che probabilmente la coalizione fosse anche al di sotto di queste percentuali perché il sentiment che è venuto fuori nel corso della campagna elettorale che noi davvero abbiamo fatto tutti i giorni in mezzo alla gente andava in questa direzione è chiaro che poi qualcuno ha cercato come lecito e legittimo fare ha cercato aiuto in alcuni personaggi di spessore faccio anche notare che però a differenza di Salvini altri leader del centro-destra qui non mi sembra che si siano visti probabilmente non hanno voluto spendersi più di tanto per la nostra città a sostegno di quella coalizione noi al contrario dello schieramento di centro-destra non abbiamo avuto mai personaggi politici di spicco alle nostre conferenze stampa alle nostre assise alle nostre riunioni se non se non nel caso dell'euro deputato Martuscello che è venuto non solo a sostenere la candidatura di Paolo De Cesare ma soprattutto a rappresentare alla cittadinanza la sua disponibilità a mettersi a disposizione della città di Chieti per far sì che la nostra capacità di intercettare finanziamenti europei anche diretti possa cambiare perché insomma negli ultimi anni che che ne dica il nostro sindaco uscente diciamo che a Chieti di finanziamenti europei ne abbiamo visti davvero pochi vediamo se riusciamo a collegarci con Giuseppe Dintino che è in giro per Chieti per così ampliare un po' anche il discorso relativo a questo scrutinio non so se Andrea Giuseppe è collegato dine a te allora ci dovremmo essere quasi speriamo di essere un filo più fortunati no non non lo non siamo effettivamente anche fortunati allora Alfredo non so se dovevi concludere altrimenti possiamo anche andare in pubblicità chiedo a te Alfredo ah c'è Jacopo no solo per di fatto dirti che siamo in attesa praticamente degli ultimi degli ultimi delle ultime schede da scrutinare però possiamo dire che Fabio Altitonante è il nuovo primo cittadino di Montorio al Vomano e si impone su Alessandro di Giambattisa che aveva già ricoperto questa carica ed è l'onora Magno dunque Montorio al Vomano va al candidato sindaco di centrodestra tra l'altro Jacopo c'è questa curiosità questa partitorialità che riguarda Fabio Altitonante che è anche consigliere regionale in Lombardia è stato eletto tra le fila di Forza Italia nella circoscrizione di Milano nelle regionali del 2018 le regionali che sono state vinte dall'attuale governatore esponente della Lega Fontana quindi insomma Altitonante dovrà se appunto saranno confermati questi dati che lo vedono in chiaro vantaggio ormai possiamo già sbilanciarci dovremmo avere dovremmo avere dovremmo avere tra poco anche un video del un video proprio da Montorio al Vomano proprio dalla sede di Fabio Altitonante non c'è ancora il candidato sindaco almeno non lo vedo nelle immagini però c'è c'è esultanza all'interno del del comitato del candidato sindaco del centrodestra ringraziamo la nostra Ania Cantagalli che è proprio a Montorio al Vomano e ci ha inviato il video eccolo qua che è il testa del meravigliere però già capite dal fatto che tendoci in musica ad alto volume e sono le 10.47 di mattina e questa è la spia principale che probabilmente ci abbiamo al successo che vi avevamo dato dall'inizio sostanzialmente era una tendenza che mano a mano i numeri confermavano e questi sono insomma c'è gente che balla alle 10.47 se non hai vinto davvero la vedo complicata ecco questa probabilmente nelle elezioni questi sono i segnali più importanti anche quando le schede da scordinare restano ecco Jacopo Montorio sceglie appunto la novità prova a cambiare decisamente pagina rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni secondo me è una tendenza rispetto ai comuni dove probabilmente c'è stata una continuità nelle amministrazioni e poi c'è comunque ci sono delle situazioni di shock di frattura e quant'altro a quel punto l'elettorato sceglie quasi non dico automaticamente perché non è così però tende poi a cambiare un po' per punire probabilmente chi ha creato determinate situazioni chi va diviso d'altronde lo abbiamo visto in più di una circostanza e un po' perché evidentemente non vuole replicare quello che c'è stato prima e vuole dare la possibilità a chi si propone come novità di tentare la strada del quinquennio di amministrazione e appunto dovrà attivarante anche gestire questo doppio profilo futuro sindaco di Montorio e anche consigliere regionale in Lombardia è il momento di fermarci primo break di questa mattinata poi riprendiamo con l'Election Day abbiamo un nuovo sindaco nel comune di Canzano in provincia dell'Aquila siamo nell'area Peligna Luca Malvestuto è il nuovo sindaco di Canzano con 96 preferenze pari al 69 06 per cento ha avuto la meglio su Massimo di Silvio di Progettiamo Canzano e di Stefano Liberatore che ha avuto una sola preferenza per la lista la nuova scelta dunque Luca Malvestuto sindaco a Canzano torniamo a Chieti Alfredo Primante sì grazie della linea Andrea nel frattempo durante la pausa pubblicitaria ci ha raggiunto anche il sindaco uscente di Chieti Umberto Di Primio grazie Di Primio per essere con noi buongiorno buongiorno grazie a voi e ancora con noi chiaramente anche Luca Maccione di Azione Politica io ripartirei proprio da Umberto Di Primio per chiedergli insomma un po' di tracciare il bilancio di questi dieci anni alla guida del comune di Chieti tracciare il bilancio è cosa non semplice ma sicuramente posso sintetizzarlo con alcuni numeri sono stati dieci anni difficili per le condizioni nelle quali siamo trovati a lavorare di carattere politico cioè mi riferisco ai tanti tagli che hanno subito gli enti locali a livello nazionale i comuni sono stati saccheggiati dai governi nazionali che sono succeduti in questi anni ma anche a livello locale politicamente perché non poche sono state le difficoltà che ho incontrato nell'amministrare il consiglio comunale ad esempio con diverse defezioni sia nel primo quinquennio che nel che nel secondo ciò nonostante siamo riusciti a portare in città 132 milioni di euro di finanziamenti per il 97% di carattere europeo quindi credo sia un dato assolutamente importante e significativo di come si possa anzi si debba innanzitutto immaginare sognare programmare progettare e quindi arrivare poi a richiedere finanziamenti e se così arrivano anche i soldi da spendere in città ci sono ancora circa 60 milioni di euro da spendere in città con cantieri da aprire il cantiere di San Giustino è stato appena aperto la scorsa settimana si è tenuta la commissione per aggiudicare l'appalto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Gran Sasso raddoppiando gli attuali posti auto e per realizzare la nuova scala mobile è totalmente nuova così come sono partite le attività per realizzare il nuovo parcheggio all'interno della caserma Berardi dove crescerà e nascerà la cittadella della pubblica amministrazione insieme al nuovo liceo scientifico sono importanti interventi molti non sono visibili perché hanno riguardato i servizi sotto servizi la messa in sicurezza della città attraverso interventi per la mitigazione del distesso ideologico piuttosto che per il recupero di frane esistenti o di smottamenti significativi penso che molti ricorderanno il cratere che si era aperto sotto a San Giustino due o tre anni due o tre anni fa molti ricordano ancora abbiamo soltanto ieri finito i lavori almeno di parte dell'intervento su via Sine Aereo un altro cratere che si è aperto vicino all'ex genio civile che abbiamo risistemato mettendo in sicurezza quell'area altri ricorderanno la frana lungo via Coronette anche lì la regione con un po' di ritardo ma ci ha mandato i soldi necessari per poter recuperare e ripristinare quel tratto di collina sono finiti ormai i lavori a Santa Maria Calvona oltre un milione di euro di lavori su Santa Maria Calvona anzi su Santa Maria Calvona sono 350 monte di Santa Maria Calvona cioè nella zona del Tiate Center sono 1 milione e 700 mila euro quindi 2 milioni di euro su quel versante della collina tiatina e altri 800 mila euro sempre per il distesso di studio geologico dall'altra parte della collina cioè quella che guarda verso la Val Pescara e mi riferisco a via Modesto della Porta la zona di Madonna degli Angeli per chi è come dire domestico rispetto a queste geolocalizzazioni ma questi sono alcuni numeri sono i numeri che non possono essere contestati neppure in una campagna elettorale sono il lavoro che noi dovevamo fare e che abbiamo fatto ma penso di poter essere ancora più orgoglioso invece di un altro dato che caratterizza anche l'essere di un'amministrazione di centrodestra con un sindaco di destra che non si improvvisa che non si candida perché vuole fare il sindaco ma perché arriva alla fine di un percorso che lo ha portato evidentemente a ricercare quella carica attraverso il consenso dei cittadini e parlo dei 29 milioni 32 milioni di euro in 10 anni investiti nel sociale sono progetti ovviamente anche questi europei ma molto per esempio l'80% del piano sociale è finanziato dal comune una scelta quella di finanziare noi le politiche sociali e lo abbiamo fatto con 32 milioni 21 milioni e mezzo li abbiamo investiti soltanto nell'ultimo quinquennio ecco in questi numeri io credo si possa ritrovare un po' la storia della mia amministrazione ma c'è un elemento che però su tutti credo possa essere almeno per quel che mi riguarda essere posto che è l'aver ottenuto un finanziamento da 210 mila euro per realizzare il dopo di noi c'è una struttura dove poter ospitare le persone con disabilità psichica che non hanno più una famiglia presso la quale stare il comune ha messo a disposizione un immobile presso quell'immobile realizzeremo realizzeremo l'amministrazione che entrerà potrà realizzare la struttura del dopo di noi che credo sia per davvero una delle cose più importanti che la mia amministrazione non per dimensione economica ma per dimensione morale e sociale sicuramente una delle cose più importanti così come credo che vada sottolineata la grande capacità che abbiamo avuto di fare sinergia con le istituzioni ma anche lì non basta predicarle bisogna coltivarle nel tempo io ho avuto la fortuna di amministrare dieci anni ho avuto il grande onore di poter essere il vice presidente nazionale del Lanci che mi ha evidentemente agevolato anche in alcune relazioni ma la nostra città ha ottenuto lo scorso mese di giugno il via libera per avere 11 milioni e mezzo di euro per realizzare la casa dello studente in pieno centro storico utilizzando una caserma di proprietà comunale la caserma Pierantoni dove verrà appunto realizzata la casa dello studente per 200 studenti universitari è la prima casa dello studente pubblica che viene realizzata in una città che ha la straordinaria fortuna di avere 17 mila studenti universitari fuori sede sui 30 mila iscritti all'UDA e quindi per la prima volta la città di Chieti potrà offrire ai propri studenti a quelli che vengono da fuori una struttura anche una struttura pubblica Macciano abbiamo sentito il resoconto di di... potrei continuare lo immagino lo immagino rapido di questi 10 anni di amministrazione di primio lei prima ci diceva i fondi pubblici i fondi europei non sono arrivati invece il sindaco ha sottolineato come primo aspetto proprio questo se trovo un punto di discordanza beh chiaramente la nostra analisi sotto questo profilo è diametralmente opposta nel senso che il nostro sindaco ci ha parlato di quelli che sono i cantieri che sono in fase di attivazione però è chiaro che ha avuto anche 10 anni di amministrazione nei quali oggettivamente riteniamo noi la società ha avuto la nostra città ha avuto un arretramento dal punto di vista economico dal punto di vista sociale siamo sostanzialmente in default commerciale come rilevato da una serie di istituti a ciò preposti io ammetto che 10 anni fa ho sposato con grande entusiasmo quello che era il progetto politico di Umberto e del centro-destra ricordo di un programma davvero molto interessante citerò giusto così a titolo meramente semplificativo e non esaustivo l'arretramento della ferrovia la riqualificazione del lungo fiume tutte opere che non sono state realizzate e che non sono neanche state messe in cantiere non sono state proprio ideate siamo fermi a un piano regolatore del 1969 non è stato fatto un PUMS non vediamo un'idea di città un'idea di qualcosa di diverso dal punto di vista commerciale ripeto il centro storico vive una situazione di difficoltà estrema e riteniamo che sotto questo profilo non sia stato fatto abbastanza né sotto il profilo degli eventi e del calendario che sicuramente possono rappresentare uno stimolo mi sembra che negli ultimi anni la nostra città abbia perso tutta una serie di eventi che davano ossigeno quantomeno a quello che era il commercio soprattutto il centro cittadino il nostro sindaco parla del progetto di riqualificare la caserma Pierantoni con un dormitorio però mi sembra anche che non sia stato fatta assolutamente sinergia con l'università non mi sembra che ci sia un progetto di riportare sul colle una facoltà sotto questo profilo e quindi voglio dire mi sembra che si sia fatto meno di quello che era previsto nei programmi io dico molto meno anche sul sociale sono stati fatti dei tagli significativi attualmente è aperto solamente un asino nido è stato tagliato il servizio di scuola bus poi l'attuale coalizione di centrodestra ha proposto sotto questo profilo anche l'introduzione del servizio del pedibus che francamente a Chieti per morfologia per condizioni climatiche mi sembra difficile da attuare soprattutto laddove debba andare integralmente a sostituire un servizio che la nostra città non offre più quindi chiaramente io ripeto parlo da cittadino parlo da quello che è stato elettore e fervido credente del programma e del progetto politico del nostro sindaco qui presente però sotto questo profilo il mio giudizio lo confermo non può che essere negativo e proprio in quest'ottica noi abbiamo dato vita a questo progetto politico che ripeto mi sembra anche la cittadinanza stia premiando probabilmente al di là di quelle che erano le aspettative al momento della genesi del progetto stesso torneremo tra poco qui da Palazzo De Maio Andrea linea a te perché ci dovrebbe essere di pangrazio c'è un raggiante Gianni di pangrazio con Paolo Renzetti ma prima di andare da loro infornata di sindaci andiamo con altri verdetti in provincia dell'Aquila Roccapia il nuovo sindaco è Pasquale Berarducci della lista Roccapia tradizione e futuro con 91 preferenze contro le 26 di Maurizio Leone e poi ancora Gagliano Aterno il sindaco è Luca Santilli con 130 preferenze la meglio su Enrico Casale 59 preferenze nessuna per Angelo Fantauzzi a Collepietro sempre nell'Aquilano Mauro Colangeli è sindaco con 86 preferenze contro le 56 di Giuseppe Bonsignore e poi ad Ateleta sempre in provincia dell'Aquila Marco Passalacqua è sindaco con 515 preferenze contro le 83 di Giuseppe Raimondi e poi in provincia di Chieti c'è una conferma a Palena Claudio De Miglio con 680 preferenze è confermato dunque sindaco di Palena comune del Sangro Aventino alla meglio su Francesco Pulsinelli che ha conquistato 42 preferenze un saluto e un in bocca al lupo augurio di buon lavoro per Claudio De Miglio che insomma conosciamo bene perché caro Paolo ci ha ospitato nella sua Palena per tanti stati per i ritiri del Pescara piccola digressione calcistica a te Paolo Sì grazie mi aspettavo un buon risultato questo è un risultato ancora più strepitoso perché mi vede davanti almeno di 14-15 punti questo significa che nonostante ci fossero 17 liste avversarie siamo riusciti a far primeggiare in qualche modo l'identità della città di Avezzano noi abbiamo formato 8 liste civiche con i colori e i simboli della città di Avezzano e della Marsica è importante perché questo rafforza questo nostro territorio un territorio marsicano che ha bisogno di grande esperienza e adesso proprio che stiamo affrontando una pandemia così difficile alle porte non sappiamo cosa potrà succedere e la crisi economica che dobbiamo per forza risolvere ci vuole l'esperienza e la città penso sicuramente abbia scelto l'esperienza nella mia persona un progetto civico per stare un po' lontano dai partiti tradizionali ma un progetto civico perché i partiti tradizionali sono in qualche modo non ben rappresentati qui nel nostro territorio noi abbiamo bisogno di ricostruire l'identità anche dei partiti ma partendo dal nostro territorio di Avezzano e della Marsica ci sono altri territori che fanno da padrone noi abbiamo voluto chiaramente invertire il trend ripartiamo da Avezzano ripartiamo dalla Marsica per ricostruire la politica del domani scontato ovviamente lo abbiamo detto anche prima il ballottaggio adesso bisognerà vedere poi quando ci saranno i dati definitivi quello che accadrà ma Gianni Pangrazio già pensa a domani beh noi già stiamo ripartiti non ci siamo fermati stiamo portando davanti i progetti colloquiamo continuamente con la città ascoltiamo i cittadini e soprattutto chiaramente vogliamo riprendere il discorso da dove eravamo rimasti perché ci sono troppe cose da fare troppe cose da correggere e noi siamo già in pista poi conosciamo bene la macchina amministrativa quindi sappiamo che possiamo partire già dal 4 ottobre Andrea sì una domanda per Gianni Di Pangrazio visto che nel 2017 partiva in chiaro vantaggio al primo turno su De Angelis poi il ballottaggio ha visto il ribaltamento dei risultati con la vittoria di De Angelis quale errore Di Pangrazio non deve ripetere visto che al momento stando a questi dati la situazione di vantaggio ce l'ha ancora Gianni Di Pangrazio alla fine del primo turno ma è evidente che i dati devono essere ancora consolidati ma quale errore non dovrebbe ripetere di Pangrazio C'è una domanda dallo studio di Andrea Costantini lei nel 2017 era in vantaggio poi nel ballottaggio invece ci fu la vittoria di De Angelis quale errore oggi Gianni Di Pangrazio non dovrebbe ripetere Innanzitutto era il 26 di giugno quando l'influenza alle urne diminuì del 7-8% io chiaramente non mi accorsi di questa diminuzione di affluenza e naturalmente sono le condizioni totalmente diverse perché oggi abbiamo una squadra fantastica di giovani la città mi segue la città vuole riscattare Avezzano e vuole riscattare la Marsia quindi è stata un'esperienza che chiaramente la città conosce bene e non rifarà quegli errori grazie grazie a Gianni Di Pangrazio per il momento è tutto da Avezzano linea che può tornare allo studio grazie grazie Paolo grazie al candidato sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio torniamo subito a Chieti Alfredo Primante sì grazie Andrea della linea anche perché il sindaco Di Primio ci deve lasciare per degli impegni in comune non solo prima di congedarlo volevo fargli chiaramente la domanda sulla prospettiva che si apre rispetto a questi dati che abbiamo praticamente un ballottaggio è certo ormai di Stefano è certo che sarà uno degli sfidanti poi bisognerà vedere chi tra di Orio Ferrara adesso mi sembra più in vantaggio di Orio ma insomma le percentuali sono davvero vicine a chi andrà a sfidare di Stefano ecco che ballottaggio ci possiamo aspettare lei che ne ha insomma ne ha viste però ne ha viste di elezioni e quindi insomma da questo punto di vista l'ha anche vinto un ballottaggio sa come si fa io so come si fa a vincere questo è sicuro è un po' di presunzione dove ho sentito non mi mancherà non mi mancheranno le voci come quella che ho ascoltato prima di chi nega l'evidenza no? perché dire che non abbiamo ottenuto finanziamenti europei di fronte al 130 milioni di finanziamenti europei è come dire che non lo so insomma non mi voglio avventurare in frasi che mi farebbero perdere la plomb che ho avuto in dieci anni poi da lunedì quando non sarò più sindaco potrò iniziare anche a riessere un po' me stesso e a far capire alla gente come funziona per davvero la vita ma il discorso è questo è che oggi noi abbiamo un dato che subisce più elementi di influenza il primo è quello nazionale io parto dal dato del referendum il referendum che ottiene quel tipo di percentuale è un referendum simile a quello che subì Renzi quando personalizzò la sua riforma costituzionale questo vuol dire che esiste ancora nel tessuto sociale della nostra nazione e dei nostri comuni evidentemente una come dire una recudescenza di populismo che ha vantaggio ovviamente chi non è inquadrato abbiamo un piccolo problema di microfono chiedo un attimo la cortesia di fare un cambio perché altrimenti non riusciamo ad ascoltare dovrebbe andare bene adesso è il bello della diretta purtroppo non so cosa sia sentito di quello che ho detto però dicevo che il dato delle elezioni comunali anche va letto insieme a quello del referendum il 70% dei sì ci dice che c'è una buona parte della società che oggi continua a vivere in modo non razionale le vicende della politica cioè c'è ancora un purtroppo c'è ancora nel sangue di questa nazione in circolo quell'odio sociale che ha portato fino a qualche mese fa il Movimento 5 Stelle ad avere delle percentuali altissime e che oggi lo riduce a Chieti al 5% ed è ancora viva una parte di quella società che vorrebbe il fuori tutti però senza sapere che cosa metterci dentro è un esempio anche Chieti tutti si candidano al sindaco ma nessuno aveva fatto il consigliere comunale credo che sia un dato significativo non si improvvisa nulla nella vita men che meno nella politica e nell'amministrazione di una di una città i numeri che abbiamo i dati che abbiamo oggi adesso in questo momento a disposizione alle 11 del mattino ci dicono che è probabile un ballottaggio io ho sempre stimato sin dall'inizio della campagna elettorale la possibilità di una vittoria con non grandissimo margine e al contempo un ballottaggio invece con un centrodestra decisamente avanti rispetto alle altre altre liste io ritengo che se ballottaggio ci sarà il ballottaggio sarà ovviamente tra il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra questo perché il voto del centrosinistra è comunque un voto che poi troverà appeal nell'elettorato storico del centrosinistra che su Chieti è apprezzato sul 20-23% quindi la percentuale che potrà raggiunto il centrosinistra sarà del 20-23-24% a mio avviso 25% se dovessero entrare più voti per qualche ragione mentre il candidato del centrodestra ritengo che se dovesse andare al ballottaggio io spero di no anche per me così da domani mattina posso tornare a fare l'avvocato a tempo pieno senza problemi ma se dovesse esserci il il ballottaggio io credo che il centrodestra andrà oltre il 40% al ballottaggio quanto ha pesato la spaccatura con Mauro Febbo con il gruppo di Forza Italia che è andato via ma è evidente che ha pesato non ha pesato in termini di numeri e vedremo quanto la lista animata da quelle persone che hanno tradito il mandato elettorale prenderà ma sicuramente ha pesato a livello di opinione pubblica noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che oggi sì esiste una possibilità di indirizzo del voto cioè Umberto Di Primio può chiedere ad una parte dei propri elettori di votare in un certo modo ma poi la verità è che molta parte di quell'elettorato vive il proprio sentimento elettorale attraverso un voto di opinione quindi quello che probabilmente ha condizionato più che l'indirizzo politico di qualcuno l'elettorato di centrodestra è questa non suggestione ma purtroppo questa presa di coscienza che esiste una spaccatura nel centrodestra e le divisioni non fanno mai bene e si è visto anche da Vizzano dove il candidato della Lega è stato in qualche modo imposto e ha costretto il centrodestra a vivere una situazione imbarazzante di rincorse verso il tentativo di unione che però poi non paga gli elettori non hanno l'aldaso quindi alla fine gli elettori si rendono conto della anche poca capacità di rappresentanza che hanno i partiti quando non riescono a mettersi d'accordo questa è la cosa più importante l'ho detta prima in modo gercale cioè non hanno nè dal naso la verità è un'altra è che gli elettori intuiscono lo dico da chi ha sulle proprie spalle due campagne elettorali la prima fatta con grande slancio e supporto dei partiti nel 2010 ho vinto col 64% quasi ma era voglio dire un'amministrazione uscente di centro-sinistra tra le peggiori che abbiamo avuto in Italia non in città lo dice solo 24 ore il nostro sindaco di allora era al 97esimo posto su 100 io sono al 30esimo posto su 100 questa la dice anche su cosa pensano gli elettori e cosa pensano invece i candidati ma io credo per davvero che la gente sceglie il sindaco e lo farà ancora di più al ballottaggio se dovesse esserci fidandosi della persona non servono gli accordi non servono le pressioni serve che i cittadini abbiano fiducia in quella persona perché può essere il giorno dopo che è stato eletto sindaco il punto di riferimento questa è la cosa più importante e questa è la cosa che vedremo e apprezzeremo di qui a qualche ora domanda flash in chiusura vede un rischio teramo a Chieti quello che è successo a Teramo con Gian Donato Morra assolutamente no assolutamente no perché a Chieti non c'è un'amministrazione uscente che cade per mano di traditori interni quindi non c'è quella lacerazione forte all'interno del tessuto elettorale di centrodestra perché c'è un'amministrazione che esce con un voto di opinione parlo dei sondaggi che vedeva il sindaco al 57% a giugno quindi una percentuale molto alta e non temo questo risultato perché anche gli accordi saranno molto difficili nel caso ci fosse il ballottaggio e quindi in quel senso io penso che noi dovremmo andare come centrodestra ancora uniti come lo siamo stati adesso ma dicendo alla gente che siamo noi a garantire saremo noi a garantire l'amministrazione e non abbiamo bisogno di azionisti esterni grazie allora Alberto Di Primo per essere stato con noi microfono che può tornare grazie a Luca Macione di Azione Politica grazie al sindaco Umberto Di Primo che deve scappare sta arrivando sta tornando qui da noi anche Stanislao Liberatore col quale faremo qualche altra considerazione proviamo a ridarti Stanislao il microfono si lo poggiamo lì sulla sedia per Stanislao grazie 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 per per sì sì assolutamente e allora ripartiamo con la nostra discussione Andrea non so se se tu hai dei collegamenti in attesa altrimenti proseguiamo qui da Chieti dimmi tu Andrea possiamo dare altri dati di altri sindaci di piccoli comuni rapidamente a San Benedetto in Perillis la vittoria per Laura D'Abrizio con 40 preferenze contro le 12 di Elisio Piero Saturni e le 2 di Mauro Pignatelli dunque Laura D'Abrizio che è il nuovo sindaco del comune di San Benedetto in Perillis sono tutti comuni in provincia dell'Aquila quelli che stiamo dando in questo momento conferma a Fontecchio per Sabrina Ciancone di Fontecchio in Comune 110 preferenze contro le 78 di Domenico Di Nardo di Fontecchio Futura conferma per Fernando Fabrizio a Castel di Ieri 134 preferenze contro le 46 di Luca Terramani e le 36 di Giovanna Fabrizio e poi ancora un'altra conferma arriva a Villa Sant'Angelo con Domenico Nardis 226 preferenze contro le 120 di Daniele Antonini e le 0 di Pierluigi Centi non so se da Jacopo abbiamo altri aggiornamenti Jacopo sì Andrea allora prima l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto vedere quattro sezioni scrutinate a Guardia Grele dove si profila si sta profilando un successo del candidato della coalizione progetto per Guardia Grele Donatello di Prinzio e dunque si profila una sconfitta per il sindaco uscente Simone Dal Pozzo per Guardia Grele il bene in comune che ha 256 voti pare al 31,9% al terzo posto Gianna di Crescenzo con Guardia Grele per tutti 67 voti pare all'8,3% quelle che vi diamo sono come vedete quando inseriamo le sezioni vuol dire che sono sezioni già complete quindi esattamente come arrivano dalle prefetture al ministero dell'interno quindi sono voti e sono voti assolutamente reali facciamo un salto ad Avezzano ancora per farvi vedere il nuovo aggiornamento sempre in testa Gianni Di Pangrazio con 2342 preferenze pare al 33,8% Tiziano Genovesi 1495 voti pare al 21,6% segue Babbo con 1411 voti pare al 20,4% e poi andiamo alla seconda pagina perché i candidati sindaco come sapete sono 6 Taccone 1126 voti pare al 16,2% del Boccio 451 pare al 6,5% e poi Stornelli con 105 voti pare all'1,5% dunque si profila un ballottaggio tra Di Pangrazio e Genovesi vediamo l'ultimo aggiornamento che abbiamo sul comune di Chieti Fabrizio Di Stefano 2605 pare al 36,3% e poi Ferrara e Di Ioreo guardate stessa percentuale perché il distacco voti reali in questo momento chiaramente è di 4 voti 1653 per Ferrara 1649 per Di Ioreo questo sarà davvero il duello un duello al Cardiopalma da seguire fino alla fine per capire non perché per capire davvero chi andrà al ballottaggio con Fabrizio Di Stefano che non dovrebbe avere problemi ad andare al secondo turno e poi nella seconda pagina come vedete De Cesare 862 pare al 12% e Amicone 5,6% questi sono gli ultimi dati che abbiamo sì prima di andare dal fedoprimante riproponiamo i dati di Guardia Grele questa è una considerazione che giriamo anche allo studio di Chieti dove c'è molto da parlare di Chieti però ci sono degli spunti anche da Guardia Grele che è una roccaforte del centro-sinistra ma c'è un vantaggio davvero netto in queste quattro sezioni del candidato del centro-destra di Prinzio di Progetto per Guardia Grele 480 preferenze quasi il 60% e peraltro mettendo insieme i voti al momento raggranellati dal sindaco uscente dal Pozzo e dal di Crescenzo comunque il centro-sinistra non arriverebbe alla quota che al momento ha il candidato del centro-destra dunque davvero una svolta che sembra si vada profilando a Guardia Grele e andiamo da Alfredo Primante Sì allora Andrea volevo prima di salutare Luca Maccione fare un'ultima considerazione con lui tra poco avremo ai nostri microfoni anche il suo candidato sindaco Paolo De Cesare insomma si parlava di area civica si parlava di una novità che è arrivata a Chieti abbiamo ascoltato anche le parole di prima non sono mancate delle frecciate tra di voi però a questo punto mi sembra che il dato si vada consolidando per quanto riguarda l'eventuale ballottaggio che sembrerebbe insomma dare favorito Ferrara e dunque insomma bisognerà capire come rimescolare le carte nel ballottaggio sì diciamo che ormai i dati cominciano a prendere una direzione sotto questo profilo io ripeto secondo me il dato più significativo che sta emergendo è che il centro-destra si trovi nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative non solo si trovi al di sotto di quello che è il voto il dato aggregato riferito a 5 anni fa perché ripeto al primo turno Umberto Di Primio prese il 38% ma quella coalizione non comprendeva la presenza della coalizione di Bruno Di Paolo che invece questa volta è stata inglobata così come della Lega evidentemente il nostro sindaco prima parlava di evidenza è chiaro che i cittadini si sono resi conto di quella che è l'evidenza della nostra città del fatto che vi sia un calo demografico ormai difficilmente arrestabile che vi sia un default per quanto riguarda l'aspetto commerciale della nostra città la zona industriale che ormai è quasi desertificata un notevole crollo dei servizi sul sociale quindi voglio dire questa è l'evidenza dei dieci anni dell'amministrazione uscente così come voler attribuire una valenza meramente politica e di opinione a quello che è il dato che sta emergendo mi sembra che contrasti con quella che è l'evidenza dei fatti è chiaro che una piccola componente sotto questo profilo ci sarà sicuramente stata ma mi sembra altrettanto chiaro ed evidente che la cittadinanza ha inteso dare un segnale chiaro e forte rimanendo al di sotto di dati attribuendo dei dati notevolmente inferiori a quelli attesi a quella che è l'amministrazione uscente che è sostanzialmente riconfermata in blocco all'interno della coalizione per ciò che attiene il ballottaggio io non posso che ribadire quello che è quello che è il pensiero che è già espresso in precedenza cioè qualsiasi decisione riguarderà la nostra posizione non potrà che essere partecipata a diciamo a quella che è una base molto significativa che comunque è emersa piuttosto chiara in questa tornata elettorale i cittadini ripeto hanno inteso sicuramente premiare il nostro progetto perché i dati che ci arrivano sono significativi probabilmente anche superiori a proposito di dati c'è una prima proiezione sempre del consorzio opinio che aveva fatto l'exit poll ieri pomeriggio e i dati sarebbero questi però credo siano diciamo superati poi dai dati reali comunque Fabrizio Di Stefano intorno al 36% Bruno Di Orio 24-25% più o meno Diego Ferrara quindi candidato di centrosinistra al 19% questa è una prima proiezione anche se noi con i dati reali abbiamo una prospettiva leggermente diversa però insomma è bene anche dare questa proiezione allora ripeto il primo dato significativo è che ci sarà ballottaggio e questo a detta di qualcuno non era scontato aggiungerei non solo che ci sarà ballottaggio ma che si partirà da una situazione assolutamente tutt'altro che scontata ecco sotto questo profilo mi sembra che l'esempio di Gian Donato Morra non possa essere replicato a Chieti non fosse altro per il fatto che Fabrizio Di Stefano che sicuramente chiuderà al primo posto questo primo turno elettorale non partirà da una situazione di vantaggio come era quella appunto che ha avuto Morra a Teramo qualche tempo fa credo che qualche dato di riflessione anche l'amministrazione uscente su questo aspetto dovrebbe farlo sarebbe opportuno farlo l'evidenza dei numeri credo lo imponga va bene allora io ringrazio grazie a voi buona giornata stato con noi andiamo a ascoltare l'intervista che Giuseppe Dintino ha realizzato a Diego Ferrara e poi torniamo qui a Chieti con Paolo De Cesare ed eccoci alla sede elettorale di Chieti Alta del candidato sindaco Diego Ferrara il candidato sindaco del centro-sinistra secondo le prime schede esaminate nel corso di questi scrutini ci sarebbe Di Stefano in testa con una percentuale che si attesterebbe tra il 40 e il 45% quindi non sforando il tetto del 50% più un voto si dovrebbe andare al ballottaggio che si terrà il 4 e il 5 di ottobre adesso rimane da capire chi sarebbe l'avversario di Di Stefano a questo ballottaggio c'è in corso questo testa a testa Ferrara tra lei e il candidato Bruno Di Iorio se lo aspettava guardi io fino a pochi giorni fa mi aspettavo un risultato più eclatante per Di Stefano lo dico senza infingimenti e senza false parole gli ex poll di ieri mi hanno non solo ridato coraggio ma mi hanno confermato di aver agito bene durante questa campagna elettorale e pertanto poiché io sono l'uomo dell'ascolto e non metto paletti e ostacoli pregiudiziali verso nessuno penso che sarà una bella gara che avremo il ballottaggio e che chiunque arrivi al ballottaggio abbia ampie possibilità di dialogare con tutti ricordiamo che a Chieti è previsto il voto disgiunto ovvero la possibilità di poter scegliere un candidato sindaco al contempo una lista che non sostiene questo candidato secondo lei il voto disgiunto possa avervi in qualche modo ostacolato oppure no? Non penso non penso anzi potrebbe averci o avermi agevolato certamente questo lo sapremo con contezza oggi pomeriggio questa sera laddove i singoli voti o i voti totali dei singoli sindaci competitor si conteranno rispetto a quello delle liste da lì si vedrà se il voto disgiunto c'è stato e a quale livello e quale peso avrà poi nel ballottaggio ci conferma quello che ci ha detto prima di queste elezioni ovvero il fatto che se dovesse essere lei colui che va al ballottaggio da domani ci sarà una replicazione di quell'alleanza a livello nazionale tra PD e 5 Stelle e quindi anche voi con la compagine e grillina ma assolutamente io l'ho già ribadito nel corso di una trasmissione televisiva dando il nome di amicone seccamente come collaboratore come diciamo amico nel momento del ballottaggio ma ripeto ancora una volta sono l'uomo del dialogo quindi da parte mia nessuna ostatività a parlare con tutte le altre coalizioni che ci hanno viste in gara in questa campagna elettorale perché penso che nell'animo tutti opereremo per il bene di Chieti e quindi come ripeto ho già detto anche nell'ultima diretta televisiva non esistono nemici politici esistono avversari politici con i quali si possono creare alleanze per il bene della nostra città Chieti un'affluenza di circa il 65% degli aventi diritto come la giudica allora mi sembra che sia stata anche più alta intorno al 69% e la giudico alta come affluenza e questo significa che quando si parla del destino della nostra città i nostri concittadini rispondono sempre in massa lei prima mi diceva è stata un po' una rimonta che non si aspettava un risultato che comunque sembrerebbe poterla premiare nel caso cui ovviamente andasse al ballottaggio e così ma che siamo partiti sbandaggiati per una serie di eventi e penso che sia talmente sotto l'occhio di tutti che è inutile ribadirlo siamo partiti in ritardo ho subito sulla mia pelle lo strappo di una parte del PD che ha scelto altre strade e quindi il mio umore e la mia forza all'inizio non erano come quelle che poi ho creato durante la mia campagna elettorale che è stata un crescendo di consensi io penso di aver coagulato intorno al mio nome un tessuto connettivo di questa città di area di centro-sinistra e non solo che vedono in me nonostante i miei 66 anni un volto nuovo capace di ridare lustro e diciamo concretezza all'amministrazione di questa città una parte del centro-sinistra però diceva è andata via ovviamente si riferisce alla compagine di Renziani di Italia Viva capeggiati da Alessandro Marzoli e che ironia della sorte adesso si trovano a sostenere proprio quello che in questo momento è il suo principale competitor perché vi state giocando il balottaggio ovvero Bruno Di Iorio e questa diciamo divisione all'interno del centro-sinistra può essere l'ago della bilancia? ma io penso che sarà sicuramente l'ago della bilancia lei ha parlato di Marzoli ma non parliamo solo di Marzoli parliamo dell'ex sindaco Francesco Ricci di amici con i quali come Luca Caratelli ed altri ho condiviso battaglie nel PD di Chieti e che avevano fatto il mio nome da prima nel febbraio di quest'anno e che poi più o meno inspiegabilmente si sono allontanati da me e dalla mia coalizione una volta nei partiti tradizionali si diceva che i panni sporchi si lavavano in casa e che si rimaneva uniti comunque e a prescindere questo non è avvenuto io non do giudizi su nessuno non ho nessuna acrimonia verso nessuno però è chiaro che è un è un discorso che dovremmo riaffrontare insomma perché comunque loro sono di area e non riesco a a vederli votare diversamente insomma se votassero contro di me al ballottaggio e per il centro-destra veramente significa che siamo arrivati alla frutta in conclusione a proposito di questo Ferrara per il partito democratico scegliere il nome di Diego Ferrara come candidato sindaco è stata la scelta giusta a questo punto direi di sì dobbiamo fare i conti con con l'oggi e penso che il mio nome sia riuscito a coagulare tante persone del centro-sinistra che probabilmente non avrebbero votato o avrebbero votato altro grazie Diego Ferrara candidato sindaco del centro-sinistra linea allo studio e allora abbiamo sentito questa intervista realizzata da Giuseppe Dintino mi pare di poter sintetizzare nel caso in cui Ferrara dovesse essere lo sfidante di Stefano braccia aperte a eventuali alleanze Movimento 5 Stelle che sostanzialmente l'aveva già detto prima del voto che avrebbe appoggiato Ferrara anzi volevano insomma apparentarsi già prima del primo turno quindi a maggior ragione immaginiamo che possa accadere nel ballottaggio ringrazio per essere arrivato qui nei nostri studi Paolo De Cesare grazie buongiorno a voi e allora innanzitutto le chiedo se è soddisfatto di queste prime percentuali insomma sta tra il 20 e il 15% più o meno sì assolutamente sì considerando che noi siamo l'unica coalizione civica della competizione ci siamo basati solo ed esclusivamente sulle nostre forze di un gruppo di amici un gruppo di cittadini quindi insomma principalmente ho trainato io mi sembra di capire anche le liste un dato che forse non si era mai visto prima nella storia della città di Chieti come candidato civico non trova sicuramente precedenti una cifra davvero molto significativa io ho dati aggiornati alle mie sezioni che sono molto più alte rispetto anche a quelli del dell'ANSA degli ultimi dati usciti resi pubblici e quindi insomma mi ritengo soddisfatto considerato che è solo una base di partenza ripeto è che ci siamo basati solo su forze nostre senza apparati di partito alle spalle senza personaggi politici influenti senza un sistema che fa riferimento a parlamentari assessori regionali o qualcosa di questo tipo è tornato con noi anche Stanislao Liberatore allora chiederei a Stanislao di fare una domanda proprio rispetto a queste considerazioni che faceva De Cesare sì ma io allora intanto ho seguito da vicino molto da vicino ovviamente come giornalista la campagna elettorale e in particolare quella del dottor De Cesare io sono d'accordo sul fatto che probabilmente le percentuali che hanno loro che hanno loro come comitato siano più alte rispetto a quelle fin quadrate perché insomma percepisco andando in giro sento tasto il polso delle persone sia allo scalo sia nella parte alta della città ma anche e soprattutto nelle periferie per cui quello che dice Paolo lo condivido adesso però caro dottor De Cesare da domani in poi bisognerà pensare chi appoggiare vedo che il collega Alfredo Prima che strada prendere che strada prendere vedo che il collega Alfredo Prima mi dice bravo allora bisogna pensare anche a questo adesso tra tra Di Iorio F ci sono dei problemi a Chieti rientriamo per qualche istante il tempo di ripristinare intanto diamo altri altri dati inerenti nuovi sindaci nei comuni abruzzesi sempre in provincia dell'Aquila a Pettorano sul Gizio il nuovo sindaco è Antonio Carrara 499 preferenze contro le 201 di insieme per Pettorano rappresentata da Alessio Imperatore e poi a Ocre lo sfidante Gian Matteo Riocci batte l'uscente Fausto Fracassi 499 preferenze per Riocci il coraggio di cambiare 330 per Fausto Fracassi di Il Futuro in Mente e poi ancora a Castel del Monte vince la sfida Matteo Pastorelli di Nuova Idea CDM Castel del Monte 158 preferenze contro le 107 di Daniele Petricola uniti per Castel del Monte andiamo poi a vedere ad Anversa degli Abruzzi Gianni Di Cesare l'uscente si conferma sindaco con 139 preferenze lista Concordia e Progresso Alameglio su Massimo D'Alessandro 52 preferenze Antonio Di Giusto 26 Mike De Colibus una preferenza e poi ancora nuovo sindaco anche ad Opi siamo all'interno del Parco Nazionale Parco Nazionale dell'Abruzzo del Lazio e del Molise Antonio Di Santo per Opi Futura con 153 preferenze Alameglio di pochissimo su Massimo di Rocco di Siamo Opi 147 preferenze torniamo a Chieti da Alfredo Primante dai suoi ospiti Alfredo no non 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 riusciamo allora andiamo da Jacopo Forcella che forse ha qualche aggiornamento su alcuni comuni altri comuni Jacopo rispetto all'aggiornamento precedente ti do Torre dei Passeri comune in provincia di Pescara avevamo detto nell'aggiornamento precedente il vantaggio di Giovanni Mancini con la lista solo per Torre vantaggio incrementato perché ha 712 voti al secondo posto Antonello Linari con 369 e poi lista ricominciare Torre e poi chiude un'altra Torre di Maurizio Calore con 189 voti dunque stando così le cose si prospetta un successo anche abbastanza netto per la lista di Giovanni Mancini solo per Torre che dunque si avvia a diventare il neo sindaco neo primo cittadino del comune di Torre dei Passeri grazie allora andiamo ora a vedere la situazione a Capestrano il nuovo sindaco è Antonio D'Alfonso della lista tre spighe 368 preferenze per D'Alfonso Antonio D'Alfonso contro le 106 di Egnolesti rappresentante della lista la nuova svolta dunque Antonio D'Alfonso nuovo sindaco del comune di Capestrano tanti piccoli comuni dell'Aquilano sono 48 quelli in cui si votava in provincia dell'Aquila tantissimi anche sotto i mille abitanti insomma stiamo dando i vari risultati proviamo a tornare a Chieti da Alfredo Primante Alfredo sì allora stavamo dibattendo appunto degli scenari del ballottaggio Stanislao Liberatore aveva fatto la sua domanda ma la ripete perché non sappiamo cosa è arrivato a casa prego Stanislao sì esatto grazie fermo restando che anche io sono d'accordo con il dottor Paolo De Cesare sul fatto che i dati in suo possesso sono maggiori rispetto a quelli fin qui enunciati la mia domanda era questa dottor De Cesare da domani bisognerà pensare al futuro cioè a quale strada percorrere intendo dire la sua lista il suo gruppo di lavoro lei a che cosa sta pensando? Ma noi pensiamo al bene della città di Chieti quindi adesso con ci vogliamo differenziare dai metodi dei partiti per cui non ci danno input di un certo tipo neanche io determinerò da solo quella che sarà la nostra posizione non è detto che dobbiamo per forza prendere posizione adesso valutiamo bene una volta che ci sarà lo scenario definitivo e con il gruppo di amici che mi ha sostenuto con le liste di candidati decideremo a mente fredda a mente lucida cosa fare nel pieno interesse dei cittadini di Chieti e della città di Chieti Forse potrebbe esserci una maggiore affinità programmatica anche di area culturale con Bruno Di Orio piuttosto che con Diego Ferrara o sbaglio? Ma dobbiamo vedere dobbiamo vedere perché bisogna capire anche chi dei due appunto mi sembra di capire gli ultimi dati davano in vantaggio Ferrara e quindi si andrebbe a creare un discorso anche molto politico di area centrosinistra in competizione col centrodestra e vediamo dall'altro lato invece ci sarebbe un altro polo civico più o meno che è quello di Bruno Di Orio anche lì ci sono i partiti i partiti al di là della declinazione e della sintesi che alla fine hanno trovato per una questione di unità relativa a liste civiche ma comunque questi sono gli ultimi dati e sono punto a punto vediamo un attimino cosa succede però questi dati ci offrono la possibilità di fare una riflessione sulla coalizione di centrodestra che era la favorita ma ci voleva poco a pronosticarlo perché il dato che vediamo ammesso che sia questo sotto il 40% sarebbe un dato eclatante al contrario perché date le premesse insomma ci si aspettava credo una maggiore considerando che ci sono sei liste considerando che c'è la Lega considerando che è venuto più volte Salvini considerando che Chieti è una città di destra neanche di centrodestra io fossi i vertici regionali dei partiti e anche le segreterie nazionali i leader che hanno deciso la candidatura di Di Stefano insomma evidentemente qualcosa non è funzionato io una domanda me la farei qualcosa sicuramente non è funzionato appare evidente anche i sondaggi che io avevo evidentemente detto che non potevano essere attendibili sia per una vittoria al primo turno perché io poi il polso della città frequento quotidianamente la città e sia insomma i dati relativi ai sondaggi che davano non solo la vittoria al primo turno ma anche cifre significative di liste e del candidato sindaco ho sempre detto che non potevano essere non potevano essere quelle poi ieri quando ho visto gli exit poll il dato era notevolmente sensibilmente crollato rispetto a quei sondaggi e ulteriormente mi sembra di capire che siamo ancora più bassi cioè siamo sul 35-36% bisogna un attimino ragionare capire poi si vedranno anche i programmi non solo le persone vedremo bene analizzeremo bene ripeto nel pieno interesse dei cittadini chiedi Stanislao non so se volevi fare una considerazione sì la considerazione è che è giusto quello che dice il dottor De Cesare nel senso che si apre un momento di riflessione importante questo convengo e sono assolutamente d'accordo un momento di riflessione anche e soprattutto se posso permettermi da parte del dottor Di Stefano che deve un attimo guardarsi meglio dentro e intorno una riflessione che però indipendentemente ecco c'è questa forchetta tra minima minima veramente minima sarà un testa a testa fino alla fine sì sì ma se dovesse farcela Bruno Diorio io credo che che ci saranno faville scintille di quelle incredibili perché mentre e se ce la dovesse fare Ferrara si torna a Don Camillo e Peppone cioè la destra contro la sinistra o comunque no una sorta di schema classico schema classico sì il famoso braccio di ferro il bipolarismo il famoso braccio di ferro quello classico e con invece eventualmente Bruno Diorio al ballottaggio lì si aprono nuovi nuovi spiragli nuove prospettive e a questo punto Paolo De Cesare a questo punto vediamo ripeto bisogna vedere bisogna analizzare bene i dati bisogna approfondire bisogna io mi devo riunire con i miei e dobbiamo decidere veramente all'unanimità cosa fare perché non sarà una decisione semplice non sarà una decisione semplice ma non è detto anche che noi ripeto non dovendo per forza diciamo fare scelte politiche possiamo anche far tesoro di questa bellissima esperienza e soprattutto dell'ottimo consenso che abbiamo ricevuto rappresentare tutelare i cittadini di Chiedi insieme al Consiglio Comunale per quella che sarà la rappresentanza che ci verrà attribuita in base ai voti ottenuti e quindi poi valuteremo faremo magari una sana opposizione costruttiva oppure faremo parte di una maggioranza che ci vedrà convergenti sui programmi adesso insomma è tutto da vedere da analizzare i dati sono ancora parziali noi per esempio rispetto a quell'11% che vedo siamo certi anche i dati che abbiamo in nostro possesso presso il nostro comitato di stare abbondantemente sopra almeno due punti e mezzo sopra se non tre quindi vediamo un attimino cosa accade e poi insomma tireremo un attimino le conclusioni però quello che veramente mi onora e mi lusinga è come candidato civico come forze civiche non si erano mai cimentate nella competizione politica delle elezioni amministrative a Chieti a differenza anche invece di altre liste civiche che erano presenti e radicate nella città di Chieti e non solo abbiamo dato veramente un forte segnale perché dal nulla prendere questi voti che sono insomma tanti sono diverse migliaia di voti un 13 un 14 per cento mi onora veramente mi lusinga cioè per dare un dato di riferimento rispetto alle elezioni amministrative scorse la lista giustizia sociale che era una coalizione civica c'erano anche altre liste a supporto del candidato civico Bruno Di Paolo il quale è un personaggio che ha fatto il consiglio regionale il candidato presidente della provincia il vice sindaco vediamo dei dati che si aggiorano leggermente in avanti Ferrari quindi dicevo una persona che ha fatto il consigliere regionale il vice sindaco nel primo mandato di Di Primio candidato presidente della provincia tanti anni consigliere comunale un movimento civico presente da decine di anni ben radicato sulla città di Chieti e su tutto il territorio nel corso degli anni aveva sempre fatto comunque attività politica ha preso 2000 voti ha preso il 7 l'8% noi l'abbiamo quasi raddoppiato questo dato io non ho mai fatto politica mi sembra di capire che è un ottimo risultato Stanislaw volevo prima di ridare la linea allo studio allargare un attimo il ragionamento che facevamo prima sul centrodestra anche a livello regionale perché io credo che queste elezioni se non dovessero andare per il verso giusto per quanto riguarda del centrodestra a Chieti e a Vezzano vi sembra che la situazione sia ancora più complicata potrebbero aprire degli scenari importanti anche negli equilibri della regione Abruzzo perché certamente la Lega dovrà ripensare un attimino quella che è stata la sua strategia fino adesso sì è proprio così perché comunque poi la politica regionale in qualche maniera deve tener conto di quello che succede nelle città in una città capoluogo di provincia come Chieti ma in un centro importante come Avezzano sono quasi centomila abitanti esatto quindi sì quindi questa cosa va ripensata io sto pensando Alfredo a quello che sarà dopo il ballottaggio il ruolo di Mauro Febbo è perché non lo penso soltanto io lo pensano in tanti perché Mauro Febbo è stato detto ha fatto una scelta coraggiosa ha fatto una scelta però a questo punto indipendentemente adesso da come vada a finire fatto sta che si andrà al ballottaggio anche questi primi dati ce lo confermano c'è un ruolo importante lui ricopre un ruolo importante in regione ha un assessorato forte importante e tra l'altro è un assessorato che deve che ha il compito di dare la visibilità a questa regione se c'è una città che ha bisogno di visibilità per la sua storia per la sua tradizione per la sua cultura è Chieti Chieti ha necessità urgenza di avere visibilità questa visibilità che fino ad oggi non è stata così splendente e che tutti i candidati sindaci a partire da mi è accanto dal dottor De Cesare hanno giustamente rivendicato la visibilità della città di Chieti in qualche maniera dovrà uscire chi farà il sindaco della città della città di Chieti si deve prendere questa responsabilità immediatamente da subito e quotidianamente quotidianamente dovrà lottare per la visibilità di una città che è una storia più antica di quella di Roma ma non soltanto questo ha un patrimonio culturale che non è secondo assolutamente a nessuno quantomeno in Abruzzo allora dovremmo avere e chiedo il conforto di Maurizio Daguì in regia qui a Chieti l'intervista realizzata da Giuseppe Dintino a Fabrizio Di Stefano visto che ne stavamo parlando ascoltiamo anche le sue parole se la regia è pronta possiamo mandare in onte il contributo ed eccoci nella sede elettorale di Fabrizio Di Stefano il candidato sindaco del centrodestra Di Stefano lei al momento secondo le prime schede analizzate è in testa con una percentuale che si attesterebbe intorno al 40% non sufficiente per vincere al primo turno quello a cui lei puntava possiamo dire obiettivo mancato beh no lo sapevamo che era un obiettivo molto difficile noi lo spiegavamo questo però con 5 candidati tutti agguerriti era evidente che l'obiettivo non era semplice da raggiungere arriviamo aspettiamo il dato definitivo perché poi vediamo chiaramente dall'andamento è evidente che arriviamo al ballottaggio non sappiamo ancora neanche con chi arriviamo al ballottaggio non sappiamo con che percentuale quindi è un pochino prematuro fare altre valutazioni certo il ballottaggio credo ma noi lo eravamo già previsto l'altra sera quando ci siamo riuniti eravamo già pronti anche a questa evenienza l'auspicio non l'abbiamo colto ma lo volevamo soprattutto perché dopo domani si riempiono le scuole e volevamo essere già pronti insediati per ogni emergenza a Chieti la possibilità del voto di giunto ovvero quella di poter votare un sindaco e una lista di due schieramenti opposti pensa che questo possa avervi ostacolato in qualche modo ma più che il voto di giunto io credo la presenza di tantissimi candidati consideriamo che noi avevamo sei liste e dall'altra parte c'erano altre tredici liste quindi noi avevamo meno della metà di tutte le liste antagoniste a noi questo chiaramente è portato a una dispersione del voto perché molti candidati Chieti non è una città enorme quindi magari c'era chi aveva un parente in lista e con tredici liste contrarie che farà facile avere un parente un vicino di casa un amico e questo è trascinato è evidente che c'è stato un effetto di trascinamento sul candidato amico sul candidato vicino di casa sul candidato parente ma arrivare al ballottaggio nettamente primi mi pare che sia un risultato assolutamente da non disdegnare per dirle alla cara da nano meglio arrivare al ballottaggio primi che non arriverci per niente a Chieti si è recato alle urne quasi il 68% degli aventi diritto anche perché forse era in concomitanza col voto referendario come giudica questa affluenza? a Chieti hanno votato esattamente soltanto 100 elettori meno di 5 anni fa e ricordo a me stesso che 5 anni fa al primo turno il centrodestra di primio sindaco uscente prese il 37% al primo turno con un centrodestra indubbiamente compatto perché era tutto centrodestra compatto oggi un candidato in particolare certamente aveva un appoggio del centrodestra ma anche l'altro del cosiddetto civico veniva da uno schieramento di origine del centrodestra quindi arrivare con lo stesso numero di votanti nonostante 5 anni fa ci fossero stati più liste addirittura con lo stesso numero di votanti arrivare al ballottaggio mi sembra presumibilmente con un dato più alto di 5 anni fa e con un centrodestra che a differenza di 5 anni fa non ha avuto delle dispersioni credo che sia comunque un risultato importante e sia di buon auspicio per il ballottaggio a proposito di ballottaggio quasi sicuramente si dovrà scontrare con uno tra Ferrara e Diorio c'è un avversario che preferisce affrontare il ballottaggio ma io per il ballottaggio mi confronterò con i cittadini di Chieti non importa chi sarà il candidato avversario io ho fatto un progetto con una squadra splendida che ha avuto un'armonia straordinaria e con questa squadra andiamo a nuovamente cercare il voto e la fiducia dei cittadini al di là e oltre chi sarà il mio avversario in conclusione per la coalizione di centrodestra il nome di Fabrizio Di Stefano come candidato sindaco è stato quello giusto? questo lo dobbiamo chiedere ai partiti che mi hanno voluto lo dobbiamo chiedere anche la città di Chieti lo chiederemo magari meglio tra 15 giorni se adesso è ancora un po' presto perché i dati sono molto frazionati se però si conferma il dato che arrivo con un ampio margine di vantaggio sul secondo dei due quindi sul secondo candidato ricordo che 5 anni fa di primio arrivo al 37 l'avversario arrivo al 31 quest'anno non so quanto arriverò io ma non mi pare che chiunque dovesse arrivare secondo superi il 25% ritengo che per il centrodestra diviso arrivare a questi risultati credo che sia un ottimo risultato non quello che ho spiegavamo la speranza di farcela al primo turno sicuramente c'era però teniamo anche presente che forse il vento politico è leggermente mutato se è vero come è vero che speravamo anche di vincere in Puglia e purtroppo così non è stato e speravamo in un dice lei che magari sconta anche un po' un sentimento nazionale a proposito della come posso dire della preferenza verso il partito beh io credo che il dato nazionale vada valutato cioè stare al governo ha premiato sicuramente il partito democratico e ha penalizzato i 5 stelle e il partito democratico stando al governo ha capitalizzato molto in tutte queste elezioni pensiamo anche ho visto qualche dato Mantua il centrosinistra vince abbondantemente al primo turno ma ripeto anche il dato delle regionali il centrosinistra senza 5 stelle vince in Puglia vince abbondantemente in Puglia su una regione dove il centrodestra pensava o spicava di poter vincere anzi aveva una buona dosi di certezze si sperava in un miracolo in Toscana cosa che non c'è stato però è anche vero che anche lì i 5 stelle sono usciti massacrati e il PD ha recuperato e così ha stesso dato che la partita campana era difficile ma non si pensava che De Luca stravincesse in questa maniera rispetto a un candidato unitario del centrodestra che è arrivato poco intorno al 20% quindi anche un dato politico che evidentemente anche a Chiedi ha fatto risentire un pochino di conseguenze Perfetto grazie Fabrizio Di Stefano dalla sede elettorale della coalizione di centrodestra per ora è tutto linea allo studio Allora un Di Stefano che ha fatto anche un po' di autocritica sul finale rispetto insomma alla forza della Lega che probabilmente si immaginava essere forza più propulsiva di quella che almeno stando ai dati attuali è stata e poi c'è il tema delle alleanze del ballottaggio e su questo Di Stefano perlomeno nella trasmissione che noi abbiamo avuto il piacere di registrare qui a Palazzo De Maio con tutti i candidati e quindi anche con Di Stefano è stato categorico nel dire così partiamo e così arriviamo no a alleanze di qualsiasi genere al ballottaggio e dunque dovrà insomma a meno di ripensamenti rispetto a questa strategia cavarsela con le sole forze meno il traino dei dei candidati consiglieri che vabbè quello vale per tutti però è un traino sempre importante non so se sei d'accordo Steinislopo chiedo anche un parere a Paolo De Cesare sì non solo sono d'accordo ma torno a ripetere quello che ho detto prima che fosse lanciata questa intervista al dottor Di Stefano e cioè che lo stesso Di Stefano deve farsi una deve fare dentro di sé una forte riflessione una serie una serie di analisi di coscienza lui è stato fino a pochissimi giorni fa fino a guarda posso dire 5-6 giorni fa e così non sbaglio convintissimo di farcela al primo turno lo ha detto a noi giornalisti lo ha ripetuto ai più sbandierando sondaggi ce la faccio al primo turno ce la faccio adesso alla luce dei fatti dei risultati fossi mi chiamassi Fabrizio Di Stefano io farei una sera riflessione su questo e soprattutto è sul futuro ma futuro legato anche così a eventuali strette di mano perché poi i numeri insomma parlano chiaro i numeri in questo momento dicono che sì è primo e non ha quelle percentuali che si paventavano per cui fossi lui farei una una serie attenzionerei con molta con molta calma a tutto quello che mi sta intorno Paolo De Cesare abbiamo sentito le parole di Stefano voi siete spettatori attenti in questo momento anche per capire insomma qual è l'umore qual è la strada da seguire quali riflessioni possiamo fare dopo l'intervista di Di Stefano innanzitutto lì sento parlare di oltre il 40% invece secondo me siamo su 35-36% dai dati insomma che mi arrivano in mio possesso che mi arrivano dal comitato mio io che dire sicuramente qualcosa non è funzionato questo è evidente vediamo un attimino bene quali sono poi quali saranno i dati reali definitivi e solo lì tutti quanti potremo fare candidati e coalizioni delle analisi e poi capire anche in che direzione andare facendo valutando programmi valutando quello che realmente vogliono i cittadini di Chieti perché poi diciamo la verità quando ci sono i partiti e quando ci sono i candidati in un'elezione amministrativa che dirano si riescono a prendere queste percentuali importanti probabilmente io che pago un po' lo scotto anche di aver messo in campo un vero rinnovamento con candidati che non sono politici che è la prima volta che si affaccia a una competizione politica se io avessi avuto delle liste più forti composte da politici più navigati da politici navigati io sono sicuro che avrei raggiunto il ballottaggio invece non l'ho raggiunto perché ho tainato io le liste adesso lo vedremo poi con i dati ci sarà sicuramente un voto disgiunto che pagherà la mia candidatura la mia figura e quindi sarà a mio favore rispetto a punti percentuali maggiori rispetto alle mie liste e quindi testimonia il fatto che alla fine i partiti con i candidati fanno la differenza inteso che sono coloro i quali corrono sui territori sui quartieri in una elezione amministrativa comunale questo è quello che ha fatto la differenza Dottor Cesare faccio questa domanda lei è nato e cresciuto a Chieti i suoi pori sono neroverdi da sempre da generazioni e da famiglia e chiedo quanto a suo giudizio ha inficiato il fatto che Fabrizio Di Stefano sia stato catapultato in lista da Roma secondo me molto secondo me molto perché le scelte devono sempre avvenire per l'ambito locale dice lei della base quantomeno passando nel caso dei partiti per le segreterie locali provinciali comunque secondo me ci deve essere un'indicazione a livello non solo provinciale ma poi regionale ai partiti ma andare a Roma e decidere una segreta stanza romana un candidato del territorio in un'elezione amministrativa evidente che poi se imposto penalizza molto e questo appare evidente quindi ed è la genesi della spaccatura tra Febbo e Stefano poi ha certo sicuramente ha spaccato ha fatto sì che si creassero più coalizioni sicuramente quella di Orio e quindi questo ha ulteriormente frammentato il voto e quindi è andato a discapito del centrodestra allora Andrea vi restituiamo un attimo la linea anche perché credo che abbiate forse dei dati aggiornati così ci aggiornate anche a noi ok grazie grazie Alfredo allora altri sindaci queste sono tutte conferme tutte vittorie di sindaci uscenti Goriano Sicoli in provincia dell'Aquila si conferma dunque Rodolfo Marganelli di Uniti per Goriano 268 preferenze contro le 116 di Carlo De Mutis per Goriano al centro e poi ancora a Villetta Barrea Giuseppina Colantoni vince con 312 preferenze con semplicemente Villetta alla meglio su Erminio Colantoni 51 preferenze proposta per il territorio e poi le 7 di Domenico Centofanti di Insieme e poi ancora sempre in provincia dell'Aquila Sante Maria conferma per Lorenzo Berardinetti con 432 preferenze alla meglio su Giovanni Nanni con 394 preferenze siamo in provincia di Pescara altra conferma come detto per Donatella Rosini confermata sindaco con 291 preferenze lista progetto comune alla meglio su Roberta Mucciante di Carpinetto nel cuore 118 preferenze nessuna per Marta Iacobucci di Civica per Carpinetto e poi in provincia di Teramo conferma per Rinaldo Seca della lista primavera Castelli 483 preferenze alla meglio su Cristian Francia di Castelli Capitale con 292 preferenze poi ancora vado da Jacopo Forcella perché abbiamo aggiornamenti anche sul comune di Isola del Gran Sasso qui vediamo un testa a testa tra Siamo Isola Massimo di Gian Camillo e Insieme per Isola Andrea Ianni la vittoria è andata ad Andrea Ianni di Insieme per Isola non so se abbiamo anche pronto un contributo da Isola del Gran Sasso Andrea no non l'abbiamo ancora pronto non abbiamo ancora pronta l'intervista al neosindaco di Isola del Gran Sasso Andrea Ianni è stato un testa a testa intanto però ti faccio vedere i nuovi aggiornamenti sul comune di Guardia Grele e si conferma assolutamente la tendenza precedente ovvero di principio che in vantaggio è stato un testa che è stato un testa che è stato un testa è stato un testa Dio Iacomo purtroppo non ti sentiamo bene proseguo io sulla base dell'aggiornamento che hai proposto per via grafica Donatello Di Prinzio consolida il suo vantaggio a Guardia Grele con 1193 preferenze pari al 56,1% sul sindaco uscente Simone Dal Pozzo che ha 709 preferenze 33,3% e poi le 226 Gianna Di Crescenzo pari al 10,6% questa dunque è la situazione a Guardia Grele dove appunto la lista di ispirazione di centrodestra guidata da Donatello Di Prinzio ex assessore provinciale a Chieti ma anche ex assessore comunale sempre a Guardia Grele Di Prinzio si appresta a diventare il nuovo sindaco di Guardia Grele avendo questo ampio vantaggio su Dal Pozzo e di Crescenzo questa è la situazione a Guardia Grele tra poco ascolteremo il neosindaco di Isola del Gran Sasso Gianni ma prima possiamo tornare perché abbiamo un nuovo ospite allo studio di Chieti dove c'è Alfredo Primante anche se probabilmente stiamo ancora ultimando la preparazione degli ospiti noi verifichiamo se ci sono altre novità sul fronte dei nuovi sindaci probabilmente sì abbiamo a Cagnano Amiterro un nuovo sindaco si tratta di Iside Di Martino 372 pardon 371 preferenze lista noi per Cagnano ha avuto la meglio su Ageo Di Nicola di Cagnemo Cagnano 273 preferenze poi Rossano Fainelli 202 preferenze insieme per Cagnano ok questa è la situazione dunque per il comune di Cagnano Amiterro altro piccolo centro in provincia dell'Aquila andiamo a Chieti da Alfredo Primante Alfredo sì allora grazie Andrea per la linea che torna di nuovo qui da Palazzo De Maio abbiamo cambiato interpreti accanto a me ci sono Giancarlo Zappacosta siamo nella coalizione di Bruno Di Orio Chieti Viva e Alfredo D'Alessandro collega del messaggero che ringrazio sì allora ti interrompo chiedo scusa anche ai tuoi ospiti perché è appena arrivato Tiziano Genovesi ad Avezzano esponente della Lega candidato che è sostituto appunto dalla Lega Fratelli d'Italia Udc e Cambiamo il Futuro e con Paolo Renzetti per un primo commento sull'andamento del voto a te Paolo sì grazie grazie Andrea siamo nella sede qui ad Avezzano di Tiziano Genovesi non c'è ancora il candidato sindaco invece ci ha raggiunto in postazione lo ringraziamo Antonio Morgande candidato consigliere sempre per la Lega Morgande bocche direi piuttosto cucite fino a questo momento c'è questo dato abbastanza in bilico tra Genovesi e Babbo e quindi in questo momento è difficile anche fare delle valutazioni certamente sì non possiamo azzardare nessun tipo di ragionamento perché i dati sono ancora parziali e quindi non c'è diciamo un elemento certo sul quale innescare un ragionamento è un po' quello che ci aspettavamo alla vigilia quindi sapevamo che era una lotta per il secondo posto per andare al ballottaggio al cardiopalma e questo si sta rivelando è un dato forse un po' al di sotto di quello che vi aspettavate parlo proprio del dato numerico no non è il dato al di sotto perché comunque la città aveva per tutta una serie di ragionamenti si era comunque divisa tant'è che i dati ci stanno dicendo che ci sono comunque quattro coalizioni che si contendono in maniera molto chiara la leadership o quantomeno le prime due posizioni per poi andare al ballottaggio quindi con una panorama così diviso da un punto di vista civico e locale diciamo che è un che è un risultato al momento secondo la linea secondo le aspettative un risultato che però paga in un certo senso lei lo ha anticipato anche qualche istante fa insomma questa divisione che c'è stata nei fatti all'interno del centro-destra sì è un risultato che comunque paga questa divisione vediamo se al ballottaggio riusciamo a fare una partita diversa che sarebbe il caso per quanto riguarda invece quello che accadrà da qui ovviamente a qualche ora il vostro auspicio è quello di arrivare ovviamente neanche a dirlo a questo ballottaggio ma invece guardando altrove vi aspettavate questo risultato dell'ex sindaco di Avezzano sì ce l'aspettavamo perché comunque otto liste hanno il suo peso d'altronde ce l'ha anche insegnato De Luca e Emiliano in Campania e Emiliano in Puglia che con 15 liste loro insomma la differenza l'hanno fatta anche perché ho visto una sfilza di 0,3 0,7 1,5 che poi sommati fanno il totale quindi la competizione civica è cosa ben diversa dalla competizione politica nazionale di questo ne dobbiamo tener conto grazie grazie ad Antonio Morgante candidato consigliere della Lega al Comune di Avezzano linea che può tornare allo studio grazie Paolo altri aggiornamenti prima di andare a Chieti a Cappadocia vince Lorenzo Lorenzino nuovo sindaco Cappadocia nel cuore la lista 207 preferenze contro le 193 di Lilli Lucilla un paese migliore e poi le due di Pietro Rubino di Noi Patrioti andiamo sempre in provincia dell'Aquila Molina Aterno vince Luigi Fasciani con 240 preferenze lista progresso e libertà alla meglio su Paolo Orsini dell'alternativa 20 appunto le preferenze per Paolo Orsini a Tione degli Abruzzi vince Stefania Mariani 106 preferenze contro le 103 di Tullio Camilli e quindi vittoria proprio al fotofinish per soli tre voti a Tione degli Abruzzi per Stefania Mariani Alfredo Primante a Chieti sì allora eravamo rimasti in bilico con le presentazioni ricomincio Giancarlo Zappacosta Chieti Viva coalizione che appoggia Bruno Diorio e poi con noi c'è anche Alfredo D'Alessandro collega del messaggero buongiorno ad entrambi buongiorno allora inizierei da Giancarlo Zappacosta dati che vi vedono ad un'incollatura dal ballottaggio probabilmente era quello che vi aspettavate portare Di Stefano al ballottaggio beh il civismo delle nostre liste ha mostrato un po' la vera faccia della controparte non abbiamo fatto una battaglia contro ma abbiamo fatto una proposta continuativa per Chieti su questa lunghezza d'onda su questo virrugio si è dipanata tutta la campagna elettorale a fronte delle arroganti e proterve minacce e anche in alcuni casi diffamazioni dell'altra parte io ho scelto un gentiluomo e sicuramente la scelta del gentiluomo sarà comunque perseguita Alfredo tu hai seguito tutta la campagna elettorale ti aspettavi questo testa a testa di Orio Ferrara e soprattutto ti aspettavi il dato così basso di Di Stefano no oggettivamente il dato diciamo al di sotto delle attese anche al di sotto delle previsioni venute fuori dal centro-destra così basso non me lo aspettavo men che meno ancora più basso rispetto a quello dell'exit poll che è stato diffuso ieri sera e di tutta evidenza che questa partita elettorale si è giocata molto diciamo in un perimetro elettorale caratterizzato da un elettorato di centro-destra e che pertanto diciamo così i voti da quel perimetro sono usciti e nell'ambito di quel perimetro si sono ripartiti diciamo fra i tre concorrenti non tanto fra i tre concorrenti in sé quanto ecco il polo civico di De Cesare ha sicuramente drenato diversi voti al centro-destra chiamiamolo ufficiale altrettanto ha fatto diciamo la componente di centro-destra sostanzialmente che sostiene che sostiene il dottor Diorio naturalmente questo testa a testa oggi di Diorio diciamo di Diorio con Ferrara è particolarmente avvincente c'era da attenderselo ma sicuramente non in maniera così diciamo così tirata così tesa effettivamente all'ultimo voto ci sarà da contare fino all'ultima scheda prima diciamo di stabilire proprio con certezza chi sarà il ballottante con Di Stefano probabilmente alla vigilia si pensava ad un Bruno Diorio forse più favorito per un eventuale ballottaggio Ferrara credo che sia riuscito in qualche maniera anche a recuperare un gap che lo divideva forse da da quel 20% che serviva per andare al ballottaggio io credo che Ferrara abbia recuperato e verosimilmente potrebbe aver recuperato sul Movimento 5 Stelle che diciamo nella scia di una tendenza complessiva non ha come noto brillato e forse proprio in quell'area Diego Ferrara è riuscito a recuperare i voti quel pugno di voti che oggi gli consentirebbe di andare al ballottaggio io peraltro ho sentito già nella giornata di ieri proprio Ferrara perché è inutile girarci intorno se quelli dovessero essere i ballottanti cioè di Stefano e Ferrara è di tutta evidenza che soprattutto Ferrara avrà bisogno di alleanze quindi di sostegno ulteriore lui si è detto aperto comunque al contributo di tutti mi ha detto personalmente io lancio un appello a tutti perché non ho nemici politici ma soltanto avversari e allora torniamo da Giancarlo Zappacosta una domanda che riguarda ancora quello che è accaduto nel centro-destra è stata la candidatura di Di Stefano divisiva o attorno a questa candidatura si sono sedimentate problematiche che venivano dall'amministrazione di Primio io farei una distinzione non è che voglio dissentire da quello che diceva Alfredo ma io questa perimetrazione all'interno del centro-destra al centro-sinistra la come si dice metterei un po' da parte gratificando e anche qualificando in maniera più pregiata la presenza delle persone siccome le idee camminano sulle gambe delle persone io ritengo che le imposizioni esterne soprattutto le certe ipotesi di mercificazione delle candidature non hanno portato bene ad una area che io non definirei di centro-destra io definirei un'area passatista un'area dove la competenza e la professionalità non è molto evidente e che in qualche modo ledeva quest'area quest'area alla capacità di presentabilità della città di Chieti in un consesso sia regionale che nazionale per cui il discorso serio ed evidente è che probabilmente la gente abbia voluto sentirsi rappresentata con una qualifica chiamiamola così più alta rispetto al passato non si è affidata alla pancia si è affidata alla considerazione ragionevole dicevo per quanto riguarda questo ballottaggio ora abbiamo sentito Paolo De Cesare ha detto dobbiamo vedere mi devo riunire con i miei però non escludiamo di restare neutrali nel caso in cui invece sia Bruno Diori ad andare al ballottaggio scavalcando diciamo per un'incollatura ciclistica potremmo quasi dire Ferrara secondo Zappacosta quale sarà l'atteggiamento di apertura verso gli altri o di prosecuzione noi ci rivolgeremo alle donne e agli uomini liberi di questa città liberi di testa liberi di cuore e soprattutto che abbiano a cuore questa città nessuno di noi ha un mestiere da praticare nessuno di noi vuole andarsi a sedere per percepire stipendi come ha fatto finora l'amministrazione comunale di Chieti noi ci prestiamo la politica io dalla mia esperienza e dalla mia professionalità potrei dare qualcosa a Chieti sempre umilmente così come altri io non escludo nulla ma basandomi non sulle ideologie che creano solo gabbiette ma su una disciplina morale e su una etica comportamentale primato dell'etica pubblica che deve essere alla base anche della scelta ulteriore Alfredo Diego Ferrara credo almeno sentendo un po' l'umore della città ho percepito che sia comunque a livello personale al di là dell'appartenenza politica una persona stimata ecco può essere anche questo un elemento importante nel caso in cui dovesse andare al ballottaggio cioè la sua personalità che è unanimemente riconosciuta come una persona moderata apposto un gentiluomo per usare l'espressione di Zappacosta sicuramente Diego Ferrara è un come dici tu è un gentiluomo è un medico di medicina generale quindi ha un contatto anche con un'ampia base diciamo professionale ma anche di sofferenza quotidiana ha una discreta esperienza maturata già in consiglio comunale è notoriamente vicino al mondo del sociale al mondo delle associazioni quindi ritengo che realisticamente queste sue caratteristiche lo renderebbero un buon attrattore di consensi in uno in uno spettro più ampio come quello che si prefigura in occasione di un di un ballottaggio allora andiamo adesso da Vezzano linea che torna da Andrea da studio per girarla poi a Paolo Renzetti perché dovrebbe esserci al microfono di Paolo Tiziano Genovesi a te Andrea grazie Alfredo il tempo di approntare il collegamento però sì a breve avremo proprio il candidato sindaco Tiziano Genovesi candidato sindaco espressione della Lega che al momento in base ai dati che sono arrivati sarebbe al ballottaggio con Gianni Di Pangrazio presso il comune di Avezzano probabilmente non con i dati che erano attesi perché c'è un certo divario proprio tra Di Pangrazio e Genovesi magari ascolteremo anche dalle parole dello stesso Genovesi se insomma si aspettava questo tipo di performance intanto vi annuncio vi preannuncio che più tardi avremo anche l'intervista con il neo sindaco del comune di Torre De Passeri si tratta di Giovanni Mancini della lista solo per Torre che ha avuto la meglio su Antonello Linari di ricominciare Torre e su Maurizio Calore di un'altra Torre non so se poi tramite Jacopo Forcella possiamo dare un ulteriore aggiornamento sul comune di Guardia Grele anche se lo abbiamo già detto in precedenza il dato del comune di Guardia Grele va assolutamente consolidandosi a vantaggio di Donatello Di Prinzio ci sono novità Jacopo questo fronte forse però ci sono sempre dei problemini al microfono allora rapidamente diciamo che Donatello Di Prinzio ha in base ai dati del Viminale eccoli qui 1620 preferenze siamo ben oltre il 50% dei voti poi c'è Simone Dal Pozzo il sindaco uscente con la lista Guardia Grele il bene comune 1180 preferenze una differenza sostanziale 38,08% sotto la doppia cifra in termini percentuali Gianna Di Crescenzo della lista Guardia Grele per tutti con 299 preferenze siamo sempre in attesa di collegarci con Avezzano per ascoltare le impressioni di Tiziano Genovesi candidato sindaco della Lega nel frattempo verifichiamo se ci sono altri verdetti allora abbiamo ecco questo è l'aggiornamento che abbiamo appena dato per il comune di Guardia Grele con il netto vantaggio di Donatello di Prinzio 1620 preferenze 52,3% segue Simone Dal Pozzo con 1180 preferenze poi Gianna Di Crescenzo con 299 rapidamente in Marsica ad Aielli c'è la vittoria di Enzo di Natale Aielli dunque ha il suo nuovo sindaco lista il futuro in comune 875 voti per Enzo Di Natale Corrado Bellino con appena 22 preferenze movimento per Aielli e in Marsica restiamo perché come promesso stiamo per andare da Paolo Lorenzetti che avrà al suo microfono Tiziano Genovesi attendiamo Paolo penso che sia a istanti si prendiamo la linea da Vezzano si Andrea siamo nel comitato di Tiziano Genovesi che sta finendo di parlare con alcuni colleghi e poi lo avremo al nostro microfono dunque in questo momento secondo gli ultimi dati in nostro possesso lui alle spalle di Gianni Di Pangrazio ma c'è questo distacco sicuramente minimo con Mario Babbo che per il momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni l'esponente di centro-sinistra del Partito Democratico e di altre liste civiche dunque tra poco cercheremo ovviamente portandoci nel comitato che si trova qui vicino proprio di Mario Babbo di ascoltare anche la voce dell'esponente del Partito Democratico e di altre liste civiche vicine al centro-sinistra ovviamente i dati sono confermati nella sostanza rispetto al precedente precedenti collegamenti con Gianni Di Pangrazio che si trova in vantaggio piuttosto nettamente rispetto a proprio Tiziano Genovesi che tra poco avremo al nostro microfono e a Mario Babbo più staccata c'è la candidata di Forza Italia Anna Maria Taccone dunque questo dato conferma come comunque nei fatti la spaccatura nel centro-destra abbia creato problemi proprio alla coalizione che presenta sicuramente più di un candidato eccolo Tiziano Genovesi eccolo Queen diretta su TV6 grazie Genovesi allora il dato il suo dato è un dato positivo però ne parlavamo anche prima con Antonio Morgante si paga questa divisione questa frattura all'interno del centro-destra beh sì l'avevamo detto dall'inizio che Forza Italia ha tradito la coalizione con la chiara volontà di portarci a una sconfitta certa non sono riusciti nel loro obiettivo oggi siamo avanti di un punto percentuale in questo momento questa mattina abbiamo avuto punte percentuali di vantaggio rispetto al nostro maggior competitor Babbo anche di tre punti percentuali cerchiamo di portare avanti questo vantaggio per poter cogliere l'obiettivo il primo obiettivo che è quello del ballottaggio lei parla di tradimento di Forza Italia obiettivo sia quello in un certo senso di ricompattare il centro-destra beh io guardi le dico una cosa che penso personalmente chi tradisce una volta continuerà a farlo quindi oggi dobbiamo cogliere l'obiettivo del ballottaggio coglierlo con le nostre forze coglierlo con una campagna elettorale a tratti entusiasmante una campagna elettorale bellissima questo centro-destra ha fatto una campagna di contenuti ha fatto una campagna elettorale stando per la gente e tra la gente quindi noi continueremo a veicolare quello che è il nostro messaggio politico una volta fatto questo nel momento in cui andremo a cogliere l'obiettivo del ballottaggio e coglieremo l'obiettivo del ballottaggio si aprirà una battaglia diversa e quindi poi lì vedremo le alleanze e vedremo con chi apparentarci o si apparentarci con qualcuno si aspettava questo dato sicuramente molto positivo dell'ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio ma guardi quando uno ha amministrato quando uno fa otto liste è numericamente possibile che ci si possa aspettare un risultato del genere io vorrei attendere questa sera la chiusura delle urne per vedere se Di Pangrazio è sopra numericamente alle sue liste o se come è accaduto già l'altra volta è nettamente sotto le sue liste quindi questa sarà la cartina di tornasole per capire se questo Gianni Di Pangrazio se Gianni Di Pangrazio è tornato a piacere alla città o se il trend è quello dell'altra volta ovvero che lui non piace ma è in grado solo di fare delle liste civiche per portare consenso al primo turno c'è una domanda da studio linea a te Andrea prendo spunto dalle dichiarazioni di Fabrizio Di Stefano a Chieti Di Stefano ha detto che probabilmente è mancata la spinta propulsiva della Lega ma l'ho detto con toni chiaramente non così decisi perché il vento è cambiato è cambiato nel senso che a livello nazionale ci si aspettava il colpo del centro-destra in Puglia ci si aspettava il colpaccio del centro-destra in Toscana ma queste spallate poi non sono arrivate probabilmente perché il traino della Lega c'è stato ma fino a un certo punto quindi Genovesi ad Avezzano paga anche gli questa congiuntura questa mancata forza propulsiva che c'è stata sì ma non fino a quanto ci si potesse aspettare chiedo una risposta appunto a Genovesi sì certo allora giro la tua domanda la tua considerazione a Tiziano Genovesi ai nostri microfoni poco fa da Chieti il candidato della Lega Fabrizio Di Stefano parlando del dato proprio della città di Chieti ha parlato di una forza propulsiva della Lega forse che non c'è stata fino in fondo anche con il dato nazionale delle regionali che ha visto sì risultati positivi ma forse non così positivi come ci si attendeva secondo lei è accaduto sta accadendo anche questo ad Avezzano come ha detto Fabrizio Di Stefano per le elezioni al comune di Chieti guardi per le analisi non è il momento giusto nel senso che a chiusura dei seggi questa sera prenderemo i numeri andremo a vedere quello che è stata la composizione della lista della Lega quello che è il dato del centrodestra faremo un'analisi numerica di quello che è accaduto e da lì potremo stilare quello che può essere accaduto sia in positivo che in negativo mi sembra realmente prematuro dover dare dei giudizi in un momento caldo come questo che comunque il dato è forviato ancora dalla mancanza di dati ufficiali ci sono solamente alcuni seggi caricati non ci sono tutti i seggi quindi è veramente prematuro dover fare delle analisi di carattere politico locale di più ampio respiro a livello nazionale chiaramente ci saranno dei dati da dover analizzare come partito ci metteremo seduti sicuramente il nostro segretario regionale che convocherà qualche riunione nelle prossime ore e poi da lì andremo ad analizzare quelli che sono i dati quindi è realmente prematuro fare un'analisi quindi io mi astengo da dover fare delle analisi di carattere politico ha avuto già modo a proposito di segretario regionale di ascoltare di sentire per telefono D'Eramo Sì sì siamo in contatto sta seguendo la situazione di Avezzano siamo in contatto telefonico molto stretto lui è in Puglia per evidentemente impegni politici in Puglia e quindi però sta seguendo in diretta insieme a noi lo spoglio qui ad Avezzano Grazie grazie a Tiziano Genovesi candidato della Lega dell'Udc di Fratelli d'Italia per quanto concerne il comune di Avezzano D'Avezzano per il momento è tutto linea che può tornare lo studio a te Andrea Grazie grazie a Paolo Renzetti appoggio Picenze alle porte dell'Aquila conferma per Antonello Gialoretto sindaco 387 preferenze lista unica lista civica e poi Barbara Zampelli con 300 preferenze della lista il paese che rivolgiamo non ce l'ha fatta a soppiantare appunto il sindaco uscente che resta tale Antonello Gialoretto vediamo anche la situazione a Rocca di Cambio sempre nell'Aquilano con il successo di Gennarino Di Stefano 254 voti la lista è noi per Rocca di Cambio ha avuto la meglio su Rosario Moscone di rinnovamento e sviluppo e che ha totalizzato 59 preferenze andiamo di nuovo a Chieti da Alfredo Primante Alfredo ok non sentiamo non sentiamo Alfredo Primante tra poco insomma metteremo a punto anche perché c'è un altro ospite mi pare di avere intravisto Alessandro Marzori di Italia Viva quindi insomma sarà un altro importante interlocutore per capire quelle che sono le dinamiche di Chieti alla luce dei risultati che stanno emergendo e anche di quella che può essere di quelli che possono essere i riflessi in ottica di ballottaggio quindi tra poco torniamo a Chieti abbiamo sentito poco fa anche le riflessioni di Tiziano Genovesi ad Avezzano un Tiziano Genovesi che sembra comunque piuttosto convinto del fatto che riuscirà a raggiungere il ballottaggio con l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio allora dovremmo esserci ora a Chieti Alfredo Primante spero che adesso riusciate a sentirci dammi conferma Andrea ok allora sì avevi intuito bene siamo con Alessandro Marzoli rappresentante di Italia Viva a Chieti Viva per questa elezione amministrativa in appoggio al candidato sindaco Bruno Di Orio grazie Marzoli per essere qui con noi grazie a voi un piacere essere qui allora innanzitutto partirei dal commento a questi dati che vi vedono un'incollatura dal ballottaggio da Bruno Ferrara scusate la dico Ferrara sicuramente due considerazioni la prima è che la coalizione della Lega con Di Stefano candidato sindaco non ha avuto il risultato che vantava in partenza si profila un ballottaggio i dati sono ancora parziali però molto probabilmente è una bocciatura al passato alla vecchia politica e in parte anche ai partiti la seconda considerazione è che la lista la coalizione che sostiene Bruno Di Orio sindaco è la vera rivoluzione di queste elezioni perché un candidato sindaco non sostenuto da alcun partito ha un testa a testa dal possibile ballottaggio con il candidato del partito democratico quindi sicuramente un grande apprezzamento da parte della città che ci fa ben sperare ovviamente parliamo di dati parziali quindi aspettiamo quelli che saranno i definitivi per dare un giudizio globale in questo contesto la lista di Chietiviva va forte con 10 ragazzi nati negli anni 90 evidentemente c'è voglia di cambiamento c'è voglia di rinnovamento all'interno delle istituzioni e questo era uno dei motivi per cui abbiamo scelto di puntare su Bruno Di Orio e su nuovi candidati per rinnovare il Consiglio Comunale di Chieti che cosa succederà all'eventuale ballottaggio perché è chiaro adesso il quadro politico è abbastanza anche complicato da analizzare perché i dati sono parziali però insomma se voi doveste andare al ballottaggio vi aprireste a eventuali accordi con gli altri candidati allora il quadro è molto frastagliato e fino a quando non ci saranno i dati definitivi sulle percentuali dei candidati sindaco e quindi non sapremo chi sarà il candidato sindaco che andrà al ballottaggio con Di Stefano è difficile fare delle previsioni si aprirà una riflessione quello che ha fatto fino ad oggi Bruno Di Orio e quello che abbiamo fatto come coalizione è parlare ai cittadini di Chieti raccontare la nostra idea di città raccontare anche con i nostri candidati quello che vorremmo per il futuro di Chieti e per le nuove generazioni io credo che continueremo su questa strada in ogni caso a prescindere dal risultato finale però è necessario attenderlo e quindi è bene non sbilanciarsi in questo momento anche perché dai dati che abbiamo le due coalizioni sono molto vicine da una parte però ci sono i partiti sia a destra che a sinistra la coalizione civica che sta dando la vera novità in questa tornata elettorale a Chieti è sicuramente quella che vede Bruno Di Orio come candidato sindaco che cosa vi ha portato ad allontanarvi dal perimetro del centro-sinistra quindi da Diego Ferrara e invece ad abbracciare il progetto di Bruno Di Orio sicuramente una riflessione che viene dalla attesa estenuante e dalle liturgie che a sinistra in particolare il Partito Democratico ha portato avanti in questi anni non c'è stata una programmazione è un vero rinnovamento come noi chiedevamo nelle idee e nei volti e per noi essere di centro-sinistra significa avere un'apertura innovare e puntare sulle competenze e sul merito quando abbiamo visto che non c'erano ancora le condizioni non potevamo più attendere avevamo tracciato un identikit di un candidato sindaco che alzasse il livello delle competenze che fosse di Chieti che fosse un teatino innamorato della città e che fosse un volto nuovo per la politica di Chieti perché in Consiglio Comunale e in Giunta da tantissimi anni a Chieti siedono sempre le stesse persone Chieti ha bisogno di rinnovamento come ho detto e la nostra idea è stata quella di mettere in campo un professionista un medico di famiglia come Diorio che non aveva mai vissuto direttamente l'agone politico e di affiancarlo con quattro liste tra cui quella ideata da Mauro Febbo un assessore regionale che si è spogliato del simbolo come abbiamo fatto noi e questo è il motivo trainante per cui con l'idea di rinnovamento abbiamo messo in campo Bruno Diorio e i nostri candidati consiglieri comunali probabilmente la percentuale di Stefano più bassa delle attese sicuramente di quel primo sondaggio tanto contestato ma poi anche dell'exit poll di ieri pomeriggio forse lascia uno spiraglio in più per il ballottaggio a chi dovrà sfidarlo se siete voi o al contrario se dovesse essere Ferrara ovviamente oggi la percentuale che viene data dalle proiezioni al candidato della Lega è per loro probabilmente deludente è al di sotto delle aspettative e la partita per la guida della città sarà sicuramente aperta al ballottaggio perché poi si riparte da zero e si vedrà cosa i cittadini di Chieti penseranno per il proprio futuro se continuare a puntare sulla politica che già conoscono sul passato su chi ha già svolto molti ruoli ed è stato indicato nonostante non sia di Chieti da Salvini dalla Lega dal Nord da Roma mentre la nostra ipotesi è stata completamente diversa è nata da Chieti per Chieti e ci auguriamo che i risultati finali possano dare una chance a chi del rinnovamento ha fatto non solo una parola ma un dato effettivo da proporre nel panorama politico teatino potreste essere voi il trade union tra Bruno Diorio e Diego Ferrara in un caso o nell'altro ballottaggio noi lavoriamo per la città questo è un momento ancora troppo prematuro per poter fare delle previsioni sicuramente quello che abbiamo fatto in questi mesi in queste settimane cioè ascoltare i cittadini di Chieti è quello che faremo anche nelle prossime ore però prima ripeto è importante aspettare i dati definitivi per fare qualsiasi tipo di valutazione nelle prossime ore ci incontreremo con Bruno con l'assessore Febbo con chi fa parte della coalizione ma soprattutto ascolteremo la voce dei cittadini allora Andrea non so se hai domande da studio altrimenti noi possiamo salutare Alessandro Marzoli e restituirvi la linea io saluto Alessandro Marzoli lui è un giovane rampante prima ha parlato di tante facce che siedono sempre sui banchi del Consiglio Comunale lui ha scelto benché sia giovane un giovane volto di non sedere perché non si è ricandidato sei stato possiamo dire coerente buongiorno Andrea grazie per la coerenza è quello che ho cercato di spiegare agli amici che mi hanno chiesto perché non mi sono candidato ho avuto l'onore il privilegio di fare il consigliere comunale per questa città per ben 15 anni ho seduto alla prima seduta da Presidente del Consiglio Comunale come consigliere anziano come più votato nel 2015 nel momento in cui però chiedo e chiediamo rinnovamento dovevo essere coerente e dare la possibilità a nuove energie di entrare in Consiglio Comunale la mia ovviamente non è stata una ritirata ma è stato fare un passo di lato e questo è il motivo per cui ci siamo spesi e mi sono speso anche personalmente per far sì che la lista Chieti Viva venisse presentata al meglio e che la candidatura di Bruno Di Orio insieme alla nostra coalizione desse un messaggio di novità e speranza ai cittadini di Chieti della nostra comunità che ne ha davvero bisogno perfetto grazie Alessandro grazie a voi grazie a voi grazie noi rientriamo poi chiaramente torneremo a Chieti però andiamo a vedere dunque come sono andate le cose a Montorio perché abbiamo un servizio confezionato da Tania Bonnice e Castelli allora andiamo a Montorio Albumano è Vittoria Netta quella di Fabio Altitonante al comune di Montorio Albumano sarà lui il nuovo sindaco di questo borgo Terramano bello e martoriato il centrodestra vince e stacca le altre due liste secondo dopo Altitonante l'ex sindaco civico di Giambattista terza è Leonora Magno sostenuta dal PD sarà un'altra Montorio allora sicuramente se qualcuno pensava che i sogni di Montorio il destino di Montorio fosse seppellito oggi c'è stata la risposta una risposta straordinaria dei cittadini sarò il sindaco di tutti sarà un lavoro importante da fare delle sfide incredibili ma io credo che Montorio tornerà al posto che merita la grande Montorio della provincia di Teramo che opposizione sarà? Posizione nel mio stile costruttiva nella speranza che si possa fare il bene di Montorio ovviamente perché questo era quello che si prefiggeva alla mia lista era stata costruita in tal senso peccato che il Partito Democratico non ha capito il progetto che io avevo in mente del resto Vincenzo De Luca con questa idea in campagna ha preso il 70% perdonate la presunzione non mi sento ovviamente un governatore in una regione così importante come la campagna ma io avevo fatto questa dichiarazione la mattina stessa in cui la sera il circolo aveva poi deciso che io avrei dovuto essere il candidato del PD c'è molta tanta amarezza per un risultato che poteva essere molto diverso per me ma soprattutto per Montorio e per quanti hanno a cuore le sorti di questo paese si abbracciano in piazza il titonante Magno tra l'altro Cugini Carnali sulle note di Gerusalemme un po' di delusione senz'altro ma che opposizione sarà la sua? Dopo una delusione che c'è è naturale c'è stato un bell'impegno e c'è la convinzione che il nostro progetto fosse quello più giusto continua a esserci ma sono rispettosa dell'esito spero che questo nuovo sindaco saprà corrispondere la fiducia ampia che ha dato il paese noi saremo all'opposizione con serietà con attenzione larghissima e con tutto l'impegno di chi cercherà di dare una mano anche con la presenza critica dunque Fabio Altitonante nuovo sindaco di Montorio al Vomano abbiamo altri contributi ma prima diamo la precedenza allo studio di Chieti Alfredo Primante che ha un altro ospite con sé Alfredo sì grazie Andrea abbiamo un altro ospite come giustamente hai detto tu si tratta di Serena Pompiglio di Azione Politica grazie per averci raggiunto qui a Palazzo De Maio dobbiamo accendere il microfono penso io ok e siamo in diretta e succedono anche queste cose grazie a voi buongiorno allora facciamo un'analisi un po' di questo di questo voto credo che sia comunque un'analisi positiva per quanto vi riguarda un'analisi molto positiva Azione Politica si è schierata a fianco di una coalizione civica che in base ai dati che stanno uscendo insomma riportato sta riportando un risultato importante abbiamo schierato tutte persone nuove nell'ambito comunale e quindi si riscontra una voglia forte di cambiamento è una volontà da parte dell'elettore di dare fiducia a quelle che sono le coalizioni civiche Paolo De Cesare sta riportando un trend sul 10-15% un risultato importante e che sarà quindi incisivo su quello che è il nostro territorio ecco il civismo è stato un valore che probabilmente la vostra coalizione ha portato diciamo come bandiera perché evidentemente è stata un po' la novità di questo voto a Chieti una coalizione praticamente che è partita da zero sì il civismo diciamo che è stato sbandierato in realtà io mi sento di dire che l'unica coalizione civica forte è stata la nostra perché non abbiamo avuto non abbiamo avuto partiti alle spalle ci sono state altre coalizioni che comunque hanno avuto alle spalle assessori regionali partiti come Italia Viva oppure Azione di Calenda e questo invece non è un trend una forza che noi abbiamo avuto ma proprio per una volontà di dare la possibilità all'elettore e alla città di votare per un mondo civico nuovo questa è stata la scelta che abbiamo fatto che abbiamo fatto come coalizione che abbiamo fatto anche con azione politica una scelta che è stata fatta anche in regione dove ricordo che come movimento abbiamo riportato circa 20.000 voti insomma è un segno importante che anche in questa sede abbiamo voluto dare alla città di Chieti qual è la prospettiva adesso per il ballottaggio? la prospettiva per il ballottaggio intanzitutto vediamo quali sono i dati reali perché stanno pian piano venendo fuori dobbiamo vedere effettivamente poi qual è stata la volontà dell'elettore dopodiché al ballottaggio ci dovremo riunire vedere il da farsi ma sicuramente non è che potremo pensare di andare con chi o più che con chi dobbiamo fare un discorso di programmazione quindi di programmi di progetti che vogliamo sicuramente avanzare e portare avanti sulla città perché di quello si è parlato abbiamo fatto dell'ambito della campagna elettorale una conferenza un tema abbiamo trattato un tema al giorno quindi qualsiasi discorso andrà fatto sui programmi io ringrazio allora Serena Pompiglio di Azione Politica per essere stata qui con noi e adesso andiamo ad ascoltare l'intervista all'assessore Mauro Febbo che ha animato la lista Forza Chieti con Bruno Di Iorio sentiamo Febbo intervistato da Giuseppe Dintino ed eccoci nella sede elettorale di Forza Chieti la lista che nasce da Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Bruno Di Iorio siamo qui con l'assessore regionale Mauro Febbo allora commentiamo un po' questi dati al momento c'è questo testa a testa in vista del ballottaggio tra Ferrara e Di Iorio con un leggerissimo vantaggio di Ferrara e soprattutto appunto si andrà al ballottaggio Di Stefano non è riuscito a vincere al primo turno no assolutamente come avevamo detto a differenza di ciò che si andava bladerando in città qualcuno metteva in giro con sondaggi che non avevano i piedi per camminare 53-54% la nostra coalizione non la lista di Forza Italia la nostra coalizione 7% addirittura leader che vengono a proclamare sindaco a già chiamarlo sindaco io ho sempre detto che porta sfortuna si entra Papa e si esce Cardinale ma noi un grande risultato un grandissimo risultato una coalizione che nasce in un momento di difficoltà campagna elettorale mai fatta a settembre con pochissimo tempo io la mia lista quella di Forza Chieti senza la lista di Forza Italia si sta attestando all'11% credo che sia veramente un risultato sbalorditivo bravi bravissimi i miei ragazzi le mie ragazze i miei candidati i miei collaboratori e con tutto l'entusiasmo che ha guidato questa coalizione quindi c'è entusiasmo non vorrei farle una domanda che ci porta a entrare troppo nella scaramanzia ma ora ci credete al ballottaggio assolutamente sì mancano tanti voti ancora da scrutinare siamo testa a testa avevamo detto avevamo paura del voto di opinione perché il PD chiaramente è un voto di opinione importante a Chieti il PD comunque è sempre oscillato PD e sinistra 36-38% mi sembra che per loro sia una sonora sconfitta credo che insomma mai il PD ha preso percentuali così basse quindi insomma qui se c'è uno che deve festeggiare è di orio e credo di poterlo dire Mauro Febbo e Alessandro Marzoni e il fatto che il centrodestra qui a Chieti abbia corso separato Forza Italia da un lato Lega e Fratelli d'Italia dall'altro è stato questo lago della bilancia affinché si sia giunti al balottaggio guardi queste sono elezioni amministrative e sono elezioni comunali come in tutte le cose ci può stare un momento di divisione perché ci sono delle visioni diverse sull'amministrazione e credo che il risultato lo dimostri avevamo ragione noi cinque anni fa quando io e Fabrizio Di Stefano non volevamo candidare Di Primio tant'è che al primo turno si è fermato al secondo tempo al 37% mi sembra che la cosa sia ripetuta ho ragione io perché Di Stefano si ferma al 37% quindi credo che forse questa analisi che io ho fatto che io ho pregato nel 2015 di fare e non mi hanno dato retta chiaramente questa volta non potevo fare lo stesso errore mi sembra che non ha portato un risultato così importante quindi forse un momento di riflessione in più insomma Chiedi avrebbe avuto un altro sindaco con un altro risultato queste amministrative sono destinate a ripercuotersi anche sulla politica regionale perché perché lei fa parte di una maggioranza che però corre di vista durante queste amministrative c'è il coordinatore regionale della Lega l'onorevole Deramo che in diverse occasioni ha chiesto che lei venisse estrapolato dalla Giunta il fatto che si vada al ballottaggio cosa significa per il suo assessorato non significa nulla lo ripeto ricordo che Deramo ha fatto lo stesso percorso mio politico nel 2012 all'Aquila lista è civica queste sono comunali non c'entra nulla con le regionali o con le nazionali dove chiaramente c'è anche un valore di coalizione ideologico eccetera quindi nulla c'entra continuo a dire che Forza Italia in sede al Consiglio regionale ha tre consigli regionali continuo a dire che io sono stato indicato dal mio partito e non mi sembra che il mio partito mi abbia sfiduciato sono stato nominato da Marsilio che non mi sembra che abbia mai fatto quelle dichiarazioni quindi il suo posto è lì stabile al sicuro anche tra due settimane e la vita non c'è mai nulla di sicuro tranne una cosa purtroppo ma io sto lì quindi mi conoscete sapete loro mi conoscono sanno chi sono sanno come come reagisco normalmente sanno che sono credente ma non porgo mai l'altra guance stessa cosa però si è verificata ad Avezzano con una centrodestra non diviso anche lì si andrà al barlottaggio un commento su Avezzano? ecco questo è un elemento da valutare io valuterei perché dove non va Forza Italia con la coalizione non si vince e magari anche in qualche altra regione non mi sembra che ci siano stati risultati eclatanti e importanti che invece andrebbero valutati per tenere in piedi una coalizione perché quando si è leader si è anche nel tenere in piedi una coalizione abbiamo detto in apertura che c'è questo testa a testa in corso tra Ferrara e Diorio se dovesse spuntarla Ferrara non mi fa questa domanda io sono sicuro che andiamo noi al ballottaggio quindi andiamo avanti con Diorio e con questa convinzione possiamo concludere qui grazie all'assessore regionale Mauro Febbo linea allo studio parole forti che saranno tema di discussione nel prossimo collegamento con Chieti ma ora riaffacciamoci nel Terramano prima abbiamo mostrato il servizio su Montorio al Vomano con la vittoria di Fabio Altitonante ma abbiamo ascoltato anche le parole degli sconfitti Alessandro Di Giambattista e dell'onora Magno allora in provincia di Terramo a Castelcastagna nel derby tra le due De Antonis vince Rosanna con 259 preferenze lista insieme per Castelcastagna alla meglio appunto su Laura De Antonis 105 preferenze lista altri orizzonti e siamo a Isola del Gran Sasso prima vi abbiamo mostrato dei dati che fornivano un testa a testa tra Andrea Ianni e Massimo Di Gian Camillo e c'è stata la vittoria di Andrea Ianni con 1225 voti lista insieme per Isola ha avuto la meglio su Massimo di Gian Camillo di Siamo Isola dunque Andrea Ianni neosindaco di Isola del Gran Sasso lo ascoltiamo e ringraziamo per l'intervista il vice direttore della città Pietro Colantoni vediamo Andrea Ianni nuovo sindaco di Isola con un risultato molto netto ti aspettavi un risultato del genere? no non netto così no perché è stata una campagna elettorale dura sono intervenuti politici di spessore no però il consenso si sentiva nella gente si sentiva cinque anni fa come adesso adesso siamo una lista più robusta una lista di movimenti civici diversi di estrazione politica diversa e quello ha fatto la differenza secondo te ha vinto più la voglia di cambiamento o la rabbia nei confronti di che amministra no io penso la voglia di cambiamento Isola è un paese che vuole cambiare la voglia di cambiamento ripartendo dalla ricostruzione magari nel modo di amministrazione ma anche dell'ordinario ripartendo proprio dal decoro che è l'ordinario il decoro del paese è l'ordinario e quindi si deve partire proprio dall'ABC e poi su problematiche serie come la ricostruzione lo spopolamento quelle sono problematiche serie che insomma lì occorre ragionarci bene davvero interfacciarsi con le istituzioni e con i commissari preposti al momento sì hai parlato di campagna elettorale accesa quale sarà il rapporto con le opposizioni dopo la campagna elettorale riesco benissimo a discernere l'aspetto personale da quello politico spero davvero di avere un rapporto educato e costruttivo lo spero davvero vedremo vedremo assolutamente nel massimo del rispetto e per il bene di iso bene proseguiamo con altri verdetti nel comune di Acciano sempre nell'Aquilano il sindaco è Fabio Camilli 198 preferenze ha avuto la meglio su Maurizio Scarpone 15 preferenze Enea Giancaterino 13 preferenze Cesare Vigian Domenico 7 preferenze poi ancora a Barisciano alle porte dell'Aquila il sindaco è Fabrizio D'Alessandro 641 preferenze lista costruiamo il futuro ha avuto la meglio su Francesco Di Paolo 514 preferenze lista insieme per crescere e poi a Raiano Marco Moca sindaco con la lista uniti per Raiano 1123 preferenze nettissima affermazione su Mario Condemi di tutti insieme per Raiano e poi ancora Rocca di Botte la vittoria è andata a Fernando Antonio Marzolini di Polis Nova 375 preferenze ha avuto dunque la meglio su Mauro Maialetti 164 preferenze di Rocca che cambia e Rocco Vizzaccaro di Siamo Italia appena 4 preferenze un aggiornamento che arriva da Celano dai dati del Viminale scrutinata una sezione su 11 netto vantaggio del sindaco uscente Settimio Santilli con la lista una città da amare staccato Gesualdo Ranalletta con la lista civica per Celano 300 voti per Settimio Santilli 85 per Gesualdo Ranalletta vi abbiamo detto in precedenza della vittoria a Torre dei Passeri del a questo punto nuovo sindaco Giovanni Mancini della lista solo per Torre ha avuto la meglio su Antonello Linari su Maurizio Calore andiamo ad ascoltare dunque le parole del nuovo sindaco di Torre dei Passeri intervistato Giovanni Mancini da Stefano Recarati Giovanni Mancini grande giornata per te per Torre dei Passeri il nuovo sindaco del comune una tornata elettorale difficilissima ma risultati storici è una grande giornata per i torresi loro mi hanno votato in massa ci hanno votato in massa sono molto contento ho avuto sempre sono stato convinto di avere una squadra straordinaria al mio fianco i torresi hanno scelto questa volta hanno scelto noi in maniera piena ne siamo convinti io li ringrazio e ovviamente saluto anche tutti gli avversari è stata una bella lotta ovviamente adesso tocca a noi e da domani al lavoro grazie come abbiamo detto numeri che parlano chiaro adesso ci sarà da mettersi in moto qual è il primo obiettivo da raggiungere per Torre dei Passeri per il nuovo sindaco Mancini il primo obiettivo sarà abbracciare la gente ringraziarli e da domani andrò in comune anzi tra qualche ora andrò in comune da domani al lavoro giovedì riapriranno le scuole e poi via via tutto quello che abbiamo detto dobbiamo eseguire quando è stata complicata la campagna elettorale vi abbiamo visto anche scontrarvi però poi come gli elettori hanno dato il loro il loro voto è stato anche netto è stata una battaglia che se ne ricorderà per tanti anni noi l'abbiamo fatta in maniera onesta pulita con una squadra consapevole di quello che voleva fare oggi è il risultato di quel lavoro fatto e io ne vado orgoglioso e sono molto molto contento insieme a tutti i torresi ecco per chiudere Mancini parlerà anche con le opposizioni o sarà un sindaco che andrà dritto con i suoi numeri e con la sua squadra l'ho detto nel mio ultimo comizio vinca il migliore e chi vinca deve lavorare per far splendere Torre dei Passeri quindi la mia porta sarà aperta a tutti i torresi e ovviamente anche all'opposizione Giovanni! 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 Immagini di festa che arrivano dalla Val Pescara con la vittoria di Giovanni Mancini a Torre dei Passeri Giovanni Mancini nuovo sindaco stiamo per andare in pubblicità facciamo un breve riassunto di quanto accaduto con l'ausilio delle schermate dopodiché appunto ci fermeremo per questa parte ok possiamo andare da Jacopo Forcella per questo resumé a te Jacopo! Sì in realtà ti faccio vedere la schermata conclusiva del comune di Guardia Grele sono tutte le sezioni scrutinate 13 su 13 vince Donatello Di Prinzio con 2668 voti pari al 48,7% dunque affermazione netta da parte di Donatello Di Prinzio dunque Guardia Grele che cambia il colore politico dell'amministrazione perché esce sconfitto il sindaco uscente Simone Dal Pozzo che si ferma a 2.218 voti pari al 40,5% terzo posto per Gianna Di Crescenzo che si ferma a 589 voti pari al 10,8% poi ti faccio vedere il comune di Celano i dati che stavi dando tu prima ovvero il sindaco uscente Santilli con 300 voti 77,9 una delle forse vittorie più nette di questa mattinata 77,9% contro il 22,1% di Ranalletta chiaramente come vedete siamo a 385 voti scrutinati siamo ancora molto lontani dall'arrivo dallo striscione del traguardo però insomma pare che a Celano si andrà verso una riconferma del sindaco Santilli questi per il momento sono gli aggiornamenti linea che può tornare a te ok allora ci fermiamo pubblicità e poi rientriamo proseguendo il nostro election day di nuovo election day su tv6 stiamo seguendo l'andamento dello scrutinio sui comuni più importanti abbiamo già dato i verdetti sui nuovi sindaci per tanti comuni piccoli comuni abruzzesi dove lo scrutinio è stato già completato torniamo da Jacopo Forcella per dati ancora più freschi Jacopo si Andrea ti do numeri aggiornati per quanto riguarda il comune di Avezzano che conferma la tendenza le tendenze precedenti ovvero sempre in vantaggio di Pangrazio con il 33,4% 4.904 voti al secondo posto Tiziano Genovesi che abbiamo visto prima con 3.143 voti pari al 21,4% terzo posto per Mario Babbo 3.029 20,6% e dunque anche qui per il secondo posto potrebbe esserci insomma da monitorare Tiziano Genovesi è in vantaggio ma chiaramente se c'è la possibilità nel caso di un eventuale recupero di Mario Babbo saremmo a vedere sarebbe veramente una catastrofe in quel caso per il centrodestra che non entrerebbe al ballottaggio però per il momento come vedete Tiziano Genovesi è in vantaggio per un centinaio di voti poco più anche qui non mettiamo il numero di sezioni perché in realtà sono tutte sezioni che non hanno ancora completato il loro spoglio e dunque per il momento teniamo 0 su 48 ma chiaramente come vedete sono già tanti i voti scrutinati al quarto posto c'è Taccone con 2246 voti 16,7% e poi Del Boccio 963 voti 6,6% più De Storrelli con 186 voti 1,3% questi sono i dati aggiornati pochi minuti fa per quanto riguarda il comune di Avezzano grazie Jacopo diamo uno sguardo anche a quello che sta accadendo in Italia in altri comuni capoluogo dove si è al voto siamo sul sito del Corriere della Sera a Venezia c'è una netta affermazione del sindaco uscente Brugnaro espressione del centro destra 57,5% contro il 28,1% di Baretta del centro sinistra invece testa a testa si andrà al ballottaggio a Reggio Calabria tra Falcomatà del centro sinistra e Minicucci del centro destra ci sono neanche due punti percentuali di differenza 36,3% per Falcomatà 34,5% per Minicucci vantaggio saldo di Ianeselli del centro sinistra al comune di Trento 54,4% contro il 29,6% di Merler del centro destra e poi a Mantua vantaggio ancora più evidente marcato stranetto di Palazzi del centro sinistra 73,5% contro Rossi del centro destra 20,3% torniamo a Chieti d'Alfredo Primante Alfredo Sì, grazie Andrea della linea siamo di nuovo qui insieme da Palazzo De Maio con noi c'è Donato Marco Tullio di Idea Abruzzo lista che fa parte della coalizione che sostiene Fabrizio Di Stefano all'interno del centro destra allora un dato quello del 37% che probabilmente è sotto le attese della vigilia ma più che sotto le attese a vigilia il trend sta salendo quindi diciamo che aspettiamo i dati ufficiali che in questo momento non ancora ci sono e abbiamo notato comunque sia una voglia di centrodestra ma il centrodestra puro vero unito che è quello che ha rappresentato Fabrizio Di Stefano e rappresenta in questa tornata elettorale quindi attendiamo i dati ufficiali per il resto ci riteniamo soddisfatti in questo momento Ecco quanto e come ha pesato la scissione la spaccatura che c'è stata all'interno del centrodestra Forza Italia vi ha appoggiato diciamo con il suo simbolo anche se non con una lista al suo completo però c'è poi la posizione di Mauro Febbo che si è autosospeso da Forza Italia però e ne è un esponente di spicco che certamente avrà influito immagino in questa ma guardi queste dinamiche diciamo di partito io le lascio ai partiti io rappresento Idea Abruzzo rappresento una lista civica rappresento la vera lista civica nata sul territorio quello che è il dato reale che oggi mi sento di rappresentare è semplicemente che Idea Abruzzo ha sostenuto il vero centrodestra rappresentato in questo momento da Fabrizio Di Stefano chi per quanto riguarda scissioni per quanto riguarda litigi interno posso semplicemente dire che il vero centrodestra è questo che oggi si è presentato alla tornata elettorale a Chiedi con Fabrizio Di Stefano che campagna elettorale è stata come l'avete vissuta? è stata una campagna elettorale bellissima noi siamo stati la prima lista che è partita diciamo siamo stati primi a partire sul territorio addirittura era settembre quando Idea Abruzzo ha messo per la città i primi manifesti abbiamo iniziato a fare i primi incontri sul territorio il gazebo è stata una campagna elettorale bellissima spumeggiante vicino al territorio vicino ai cittadini vicino ai quartieri dove abbiamo toccato per mano quelle che sono le necessità e i problemi della città è stata una campagna elettorale vissuta all'insegna anche purtroppo del covid dove la maggior parte tanti ragazzi di Idea Abruzzo sono anche volontari di protezione civile volontari sanitari quindi Idea Abruzzo è stata presente anche in quel periodo sul territorio e ha toccato per mano quelle che sono le necessità reali della città e dei cittadini quindi chi più di noi oggi può parlare di tessuto di tessuto sociale può parlare di problematiche della città Ecco mi pare evidente comunque che non ci se la farà da parte vostra a vincere al primo turno e quindi si dovrà andare al ballottaggio da questo punto di vista che cosa vi aspettate i prossimi 15 giorni come saranno secondo voi? Allora sicuramente noi continueremo a lavorare sul territorio continueremo ad essere vicino alle persone agli abitanti di Chieti vicino alla città come abbiamo sempre fatto Idea Abruzzo proprio nel suo animo nel suo spirito non è una lista che si presenta ogni 5 anni è una lista che vive il territorio quindi per noi è naturale continuare in questo percorso che ci porterà alla vittoria finale ne sono sicuro continuando a stare vicino al cittadino Andrea non so se hai domande da studio altrimenti ti restituirei la linea No siamo a posto così Alfredo grazie grazie anche al tuo ospite abbiamo altri dati a Magliano dei Marsi il nuovo sindaco è Pasqualino Di Cristofano della lista Benvenuto Futuro 1380 preferenze per Di Cristofano e che dunque supera Cesare Marco Maria Di Girolamo di Magliano rinasce dunque a Magliano dei Marsi il nuovo sindaco è Pasqualino Di Cristofano e poi a Vittorito c'è una conferma quella di Carmine Presutti che resta sindaco grazie ai 390 voti raccimolati contro i 73 di Matteo Di Loreto Carmine Presutti con la lista Progetto Vittorito e poi Matteo Di Loreto con la lista insieme per Vittorito 73 preferenze per Di Loreto e poi nel Pescarese a Civitacuana il nuovo sindaco è Samuele Di Profio con la lista Civitacuana riparte 498 voti contro i 323 di Cinzia Marganella il nostro futuro nel cuore questa dunque la situazione a Civitacuana dove c'è appunto il nuovo sindaco vado in redazione anche da Jacopo Forcella per non so se ci sono ulteriori novità per quanto riguarda altri comuni o quelli principali probabilmente non me ne sono siamo in attesa dunque di nuovi ospiti anche a Chieti ok mi dicono insomma di attendere un po' prima di andare avanti e vi dico anche che tra poco ascolteremo anche il nuovo sindaco di Guardia Grele si tratta di Donatello Di Prinzio Andrea si ecco Jacopo no ti volevo solo dare stavamo sistemando il reggio ecco perché ti ho chiesto qualche secondo di attendere nuovi dati che avete visto poco fa per il comune di Chieti che sono che ci ha mandato il nostro Giuseppe Dintino perché Fabrizio Di Stefano si conferma in testa con il 37,4% dei voti però attenzione perché la forchetta almeno rispetto ai dati che ci ha fornito Giuseppe la forchetta tra Diego Ferrara e Bruno Di Iorio sembra allargarsi questi fanno riferimento a 13.177 votanti come vedete 22,9% per Diego Ferrara 19,8% per Bruno Di Iorio ripeto sono dati ovviamente parziali ma che fotografano comunque una situazione in cui il candidato sindaco del centro-sinistra Diego Ferrara in questo momento potrebbe avere un margine abbastanza che comincia a farsi evidente su Bruno Di Iorio che si fermerebbe dunque al terzo posto andiamo avanti con la seconda schermata con Paolo De Cesare al 13,2% e si avvicinerebbe a quella quota del 14-15% che proprio Paolo De Cesare poco fa nel nostro studio diceva di raggiungere secondo i dati che aveva in possesso ovviamente il suo comitato sappiamo che per esempio i dati che arrivano sul sito del Ministero dell'Interno che arrivano dalle prefetture sono molto indietro rispetto a quelle che ci sono per esempio nei comitati elettorali e sono veramente molto più rapidi perché hanno contatto diretto con le sezioni elettorali e ovviamente con gli scrutini quindi in questo momento come e lo riproponiamo la partita che si gioca per il secondo partecipante al ballottaggio vedrebbe Diego Ferrara con un leggero margine su Bruno Di Iorio prima abbiamo ascoltato le parole del consigliere regionale Mauro Febo che non voleva neanche sentir parlare di un terzo posto però in questo momento fotografando proprio la situazione con i numeri questa è la situazione almeno questo è quello che ci invia Giuseppe Dintino che è in giro per Chieti per i comitati elettorali e che quindi in questo momento insomma sono 400 voti di differenza ecco Jacopo se fosse così sarebbe un confronto classico tra centrodestra e centrosinistra un centrodestra evidentemente con questa questa frattura che poi peserà e questo lo ha rimarcato anche assessore regionale Mauro Febo riferendosi anche ai vertici del proprio partito bisogna riflettere sul fatto che e a Chieti e ad Avezzano questa questa separazione delle forze questa mancanza di coesione poi ha pesato sul risultato pesa a Chieti forse pesa ancora di più ad Avezzano per quello che stiamo vedendo da questi dati provvisori perché se a Chieti c'è questo ballottaggio che si profila tra Di Stefano e Ferrara ma Di Iorio punta insomma a rimontare Ferrara addirittura ad Avezzano Jacopo abbiamo visto come c'è il rischio che il centrodestra sia fuori dal ballottaggio perché Genovesi è un po' avanti rispetto a Mario Babbo se Mario Babbo riesce a rimontare sarebbe un derby in salsa centrosinistra al comune di Avezzano quello che dicevo prima chiaramente lo ripeto sono tutti i dati comunque che devono essere consolidati però è evidente che probabilmente ad Avezzano la divisione dell'area centrosinistra rispetto a quella dell'area centrodestra pesa di meno perché anche ad Avezzano entrambi gli schieramenti diciamo che sono stati abbastanza divisi però questo pesa meno ad Avezzano rispetto a quanto evidentemente non faccia a Chieti perché è di tutta evidenza che nel momento in cui Diego Ferrara dovesse andare al ballottaggio a quel punto si aprirebbe una partita se vogliamo ancora più interessante perché il peso delle liste dei voti di Bruno Di Orio sarebbe importante decisivo ma considerando a come si è arrivati alla lista alle liste alla candidatura di Bruno Di Orio ritengo difficile che possano convergere ipso facto su Fabrizio Di Stefano e altrettanto politicamente sarebbe paradossale se convergessero su una lista di centrosinistra ecco quindi è vero quello che dici tu è vero anche che probabilmente la divisione soprattutto nel centrodestra sia a Chieti che ad Avezzano o al centrodestra sta comunque creando qualche qualche problema rispetto a quanto per esempio ad Avezzano non abbia fatto con il centrosinistra ok andiamo di nuovo ad Alfredo Primante qui chiedo ulteriori considerazioni anche sulla base delle parole pronunciate da Mauro Febo assessore regionale che molto si è speso e molto si è messo in gioco non è chiaramente ovviamente candidato in prima persona a Chieti però è evidente il suo sostegno alla candidatura di di Diorio e quanto questo poi sta influenzando l'andamento del voto e lo abbiamo ascoltato piuttosto carico Mauro Febo lanciato degli strali anche a chi coordina il partito il partito di Forza Italia ma in generale a chi dovrebbe gestire poi le forze all'interno della coalizione di centrodestra Alfredo sono parole che certamente non possono lasciare indifferenti e certo che poi il quadro sarebbe ancora più chiaro se Alfredo scusatemi vi interrompo di nuovo 13.886 votanti vi fotografo la nuova situazione del comune di Chieti Fabrizio Di Stefano 37,1% 5.152 voti Diego Ferrara 3.177 22,9% e sono cominciano ad essere quasi 400 i voti di differenza con Bruno Di Orio 20,1% 2.787 pari al 20,1% come detto andiamo nella seconda schermata Paolo De Cesare 1.845 voti 13,3% Amicone 925 6,7% vi do questo ulteriore dato aggiornatissimo e ringrazio ancora una volta Giuseppe Dintino che ce l'ha appena inviato perché in modo che ne possiate discutere soprattutto a Chieti in maniera più approfondita sì e chiudo il ragionamento Mauro Febbo insomma completerebbe l'opera se Bruno Di Orio riuscisse ad arrivare al balottaggio con Fabrizio Di Stefano anche se da questi dati sembra una rimonta non così semplice non impossibile ma neanche così semplice Alfredo Sì sono d'accordo con te Andrea anche perché la sensazione che si respira qui a Chieti è che si afferrara ad andare al ballottaggio e dunque a sfidare Fabrizio Di Stefano ti posso dire che insomma in questa mattinata qui a Chieti ho raccolto anche gli umori dei candidati degli esponenti politici che hanno così popolato il nostro studio e la sensazione che questa divisione questa spaccatura all'interno del centrodestra in qualche maniera sia più profonda di quello che non appare magari così ad un primo che possa non apparire un primo sguardo tra l'altro la partita che sta giocando Mauro Febbo una partita consentitemi su un doppio tavolo quello di Chieti certamente anche se lui nega c'è anche il tavolo regionale perché questo voto soprattutto se Fabrizio Di Stefano al secondo turno non dovesse essere eletto sindaco non potrà che non avere ricadute all'interno della giunta regionale dove siede anche l'assessore Febbo che ha deleghe tra l'altro pesanti alle attività produttive al turismo dunque da questo punto di vista sicuramente la posta in palio non è soltanto quella peraltro importante di una città capoluogo come Chieti ma c'è anche qualcosina in più e aggiungerei che anche il dato di Avezzano nel quadro politico regionale non è da sottovalutare se Genovesi non dovesse andare al ballottaggio il combinato disposto di Chieti più Avezzano potrebbe davvero rappresentare un vulnus anche a livello regionale per quanto riguarda invece il ballottaggio qui a Chieti facciamo il caso e i dati ce lo confermano che sia Ferrara ad andare al ballottaggio con Di Stefano certamente il quadro politico sarebbe più complicato perché probabilmente Bruno Di Iorio avrebbe delle affinità maggiori con il polo civico di De Cesare che avrebbe probabilmente meno difficoltà a far digerire a una parte della sua coalizione un apparentamento con Di Iorio viceversa mi sembra davvero complicato un apparentamento fra De Cesare e Ferrara e altresì ancora più complicato un apparentamento fra Di Iorio e Ferrara dunque da questo punto di vista forse il centrosinistra è un po' solo nella corsa al ballottaggio può contare soltanto sull'apporto ma i dati ci dicono che è un apporto residuale del Movimento 5 Stelle che era pronto a fare la lista unica alla coalizione con il centrosinistra ma l'apporto di Amicone potrebbe essere diciamo non decisivo se la distanza al di là di quelle che sono le consonanze da un punto di vista politico ma poi potrebbero agire anche diciamo così dei franchi tiratori e alcuni votare per l'uno per non far vincere l'altro perché poi si innescano anche queste queste dinamiche al di là di quello che si dice al di là di quello che si pensa al di là delle appartenenze politiche più vicino all'uno che all'altro ma poi se si cerca di far perdere l'uno si può ingoiare anche il voto per l'altro o no? Guarda Andrea è vero quello che tu dici però sicuramente ci saranno molte più manovre di quelle che ufficialmente ci hanno detto questa mattina i vari esponenti politici nel senso che certamente ci saranno dei contatti certamente nonostante Di Stefano abbia detto che vuole proseguire da solo è ipotizzabile che magari si cerchi una una riappacificazione con diciamo l'ala destra della coalizione di di Iorio anche dal lato di De Cesare ci potrebbe essere una scelta diciamo di campo di stare comunque all'opposizione ma una parte magari di questo polo civico potrebbe non rispondere ai dettami del candidato sindaco dunque ci sono alcune trasversalità che potrebbero scombinare sparigliare le carte questo sicuramente sì anche se diciamo che in questo momento il gap sembrerebbe un po' complicato per la coalizione di centrosinistra da colmare però ripeto c'è tanta trasversalità nelle altre liste e tanti candidati pensiamo ad esempio ad Italia Viva a Chieti Viva che era praticamente una costola del centrosinistra che adesso sta con Bruno Di Iorio quelli potrebbero essere dei voti di quell'elettorato che potrebbero confluire nel centrosinistra al ballottaggio però altresì diciamo è difficile immaginare come abbiamo detto nel corso della mattinata che ad esempio l'elettorato che fa riferimento a Mauro Febbo a Forza Chieti possa decidere di così voltare la schiena al centrodestra e rivolgersi al centrosinistra è chiaro che a questo punto è un testa a testa è un petta a petto come si potrebbe dire un match a due e conterà anche la capacità di comunicare la capacità di mettersi in sintonia con l'elettorato dei due candidati Alfredo io volevo fare una considerazione con entrambi Alfredo ricordiamo anche che ci sono state delle casistiche particolari proprio in Abruzzo abbiamo ricordato in precedenza di come Di Pangrazio nel 2017 in chiaro vantaggio su De Angelis alla fine del primo turno abbia poi perso il ballottaggio con la vittoria dunque di Gabriele De Angelis ma poi c'è anche il caso Terramo poi evidentemente le dinamiche politiche che si celano sono diverse però ricordiamo anche che Giandolato Morra al primo turno contro D'Alberto riportava un vantaggio di 13 punti percentuali sembrava una vittoria semi scontata al ballottaggio poi D'Alberto riuscì a ribaltare sensibilmente quel risultato e a vincere il secondo turno e dunque diventare sindaco quindi comunque nella nostra regione abbiamo avuto dei casi di ribaltamento di risultato tra primo e secondo turno piuttosto sorprendenti ecco perché la partita a Chieti comunque resta aperta se sarà come sarà ballottaggio certamente la partita è aperta nulla è scontato e l'abbiamo visto anche da questo primo turno in cui si pensava che la coalizione di centrodestra potesse comunque sia superare in maniera agevole il 40% cosa che se dovesse avvenire comunque non sarà stata agevole proprio per niente si pensava che la Lega tirasse di più e invece si è capito che tutto questo traino non c'è stato così come si pensava che Di Stefano potesse farcela al primo turno invece così non è quindi non c'è nulla di scontato siamo però in una città sostanzialmente di destra e questo è innegabile Chieti ha una tradizione da questo punto di vista bisognerà capire quanto l'elettorato avrà voglia di voltare pagina di dare una possibilità al centro-sinistra magari o a un polo civico nuovo di amministrare questa città dopo 20 anni di sostanziale dominio del centro-destra e quanto invece ritorni in un certo senso l'appartenenza e l'elettorato torni alla casa base quindi anche qui è da capire non è di facile lettura e lo abbiamo compreso anche nella mattinata ascoltando ad esempio il sindaco di Chieti Umberto Di Primio che ha sostanzialmente ricordato il dato che dicevo io che Chieti è una città di destra confidando dunque nel senso di appartenenza politica dell'elettorato Paolo De Cesare aveva evidenti difficoltà ad esempio a definire quale sarà la sua strategia per il ballottaggio perché appunto sono coalizioni composite formate da diverse anime e non sarà semplice determinare la strada da percorrere da questo punto di vista io credo che saranno fondamentali i prossimi 6-7 giorni per capire se ci potranno essere degli apparentamenti a favore di Ferrara che magari potranno aiutarlo a recuperare come hai ricordato tu nel caso di Teramo a magari a ribaltare la situazione anche perché perdonami vengo dalla redazione volevo anche sottolineare una questione non so se siete d'accordo con me mentre al primo turno c'è possibilità di scelta ed ecco perché molto spesso si finisce al ballottaggio i voti poi che nelle liste al primo turno sono andati a liste che al ballottaggio non ci sono poi bisogna anche vedere come quei voti lì vengono ripartiti perché un elettore prendiamo l'elettore medio mentre al primo turno ha tantissima possibilità di scelta poi probabilmente la tradizione maggiormente per esempio di centrodestra come in un comune come Chieti potrebbe fare la differenza oppure no Sì tra l'altro Jacopo aggiungerei un dato che non abbiamo detto in precedenza e cioè bisognerà capire quale portata ha avuto con precisione il voto disgiunto bisognerà cioè capire quanto di Stefano è distante dalle liste che lo appoggiano e quanto Ferrara abbia influito sul risultato del centrosinistra perché chiaramente essendo un duello a quel punto dove i partiti contano ma fino a un certo punto dove non c'è più il traino dei candidati consiglieri e lì bisogna capire anche qual è diciamo l'appeal con l'elettorato da parte dei candidati e un primo dato secondo me potrà arrivare proprio dalla lettura del voto disgiunto scusate del voto tra al candidato rispetto alle liste andiamo ad Avezzano da Paolo Renzetti intanto vedo che il tempo è mutato rispetto a questa mattina piove ancora pioveva fino a poco fa non so se piove ancora Paolo ad Avezzano si si piove piove Andrea di nuovo in collegamento diretto si con Avezzano dove piove piove anche in maniera piuttosto intensa non si registrano grosse novità per quanto riguarda i dati anche rispetto al precedente collegamento Gianni Di Pangrazio è nettamente avanti e poi Gianni Di Pangrazio ex sindaco di Avezzano lo ricordiamo dal 2012 al 2017 con le sue otto liste civiche viaggia fra il 33 e il 34 per cento e poi c'è un testa a testa a proposito di quanto si diceva per Chieti anche qui forse ancora più marcato il testa a testa davvero una differenza di poche decine di schede tra l'esponente della Lega dell'Udc di Fratelli d'Italia Tiziano Genovesi e l'esponente di centro-sinistra del Partito Democratico e di altre liste civiche Mario Babbo qui la differenza è davvero molto molto risicata tra l'altro stavamo prima parlando in comune anche con alcuni colleghi c'è anche la questione delle schede che sono state annullate perché in questo caso potrebbe esserci un riconteggio e comunque queste schede annullate o invalidate che dir si voglia potrebbero decidere visto che parliamo di una differenza di poche decine di voti potrebbero decidere davvero chi a questo punto è ormai scontato si andrà al ballottaggio e chi dunque lotterà con Gianni Di Pangrazio per la carica di sindaco della città di Avezzano dunque c'è anche questo particolare da non sottovalutare perché ci sono diverse schede ci è stato comunicato in alcune sezioni in diverse sezioni qui di Avezzano che sono state dichiarate nulle non valide e dunque ci dovrà essere sicuramente da questo punto di vista bisognerà vedere bene cosa accadrà e poi l'altro dato ne parlavamo prima nel corso del collegamento dal comitato di Tiziano Genovesi l'esponente della Lega che non ha usato mezzi termini riferendosi alla spaccatura all'interno del centro-destra parlando di tradimento da parte di Forza Italia Genovesi proprio lo abbiamo sentito i nostri microfoni ha detto chi ha tradito una volta tradirà anche la seconda volta e dunque Genovesi se dovesse essere lui ad andare al ballottaggio con Gianni Di Pangrazio probabilmente non potrà aggiovarsi dell'appoggio di chi fino ad oggi non ha appoggiato proprio la sua candidatura un dato su tutti Andrea è che se non ci fosse stata questa spaccatura all'interno del centro-destra Genovesi con i voti da lui ottenuti più quelli di Maria Rosa Taccone e dell'altro candidato anche ex Fratelli d'Italia sarebbe il primo anche superando Gianni Di Pancrazio quindi da questo punto di vista bisogna dire che se chiaro che a questo punto questi discorsi contano anche poco se fosse però il centro-destra fosse andato unito alle elezioni di Avezzano non avrebbe probabilmente vinto anzi sicuramente non avrebbe vinto al primo turno ma si troverebbe in vantaggio così non è e Genovesi lo abbiamo ascoltato prima ha puntato l'indice contro Forza Italia e dunque contro la candidatura dell'esponente che fa riferimento a Forza Italia e anche all'ex sindaco di Avezzano De Angelis e poi ha anche un po' glissato sul dato politico è vero da un certo punto di vista comprendiamo perché per fare un certo tipo di analisi più compiuta serve il dato completo però una tendenza è evidente una tendenza in Abruzzo ma una evidenza anche che c'è stata con i dati usciti fuori ieri dalle elezioni regionali quindi questo fatto che la Lega non abbia sfondato non abbia dato la spallata che alcuni pensavano potesse dare al governo e questo aspetto poi è andato a ripercuotersi anche sulle elezioni comunali magari non dando un'ulteriore spinta a Fabrizio Di Stefano a Chieti e non dandola neanche a Genovesi anche se bisogna dire che Di Stefano al momento ha dati che si aggirano sul 37% poco più quindi siamo piuttosto lontani dalla fatidica soglia del 50% più 1 per non parlare ad Avezzano Paolo perché Genovesi è intorno al 20-21% con Mario Babbo che lì è proprio alle calcagne quindi anche ad Avezzano siamo molto molto lontani dalla soglia del 50% così come siamo lontani per quanto riguarda Genovesi anche dal primo candidato che in questo momento c'è ad Avezzano che è Gianni Di Mangrazio Beh sì diciamo i numeri sono questi sono incontrovertibili non si possono sicuramente discutere è chiaro che tra l'altro possiamo forse no non volevamo raggiungere un un esponente politico qui di Avezzano ma non riusciamo per il momento ad averlo ai nostri microfoni poi forse lo ascolteremo più tardi allora dicevo Andrea tra l'altro stiamo ancora aspettando nei pressi del comitato di Mario Babbo l'esponente del Partito Democratico e di alcune liste civiche però per il momento non è ancora arrivato nel suo comitato dunque dobbiamo ancora attendere chi era con te che voleva parlare o che forse ha evitato di parlare mi correggo guarda è passato vicino a noi Giuseppe Di Pangrazio fratello di Gianni Di Pangrazio ex presidente del Consiglio regionale però non ha parlato con nessuno ha detto per il momento preferisco non parlare dunque gentilmente ci ha detto che almeno per il momento non vuole rilasciare dichiarazioni è passato proprio dalle nostre parti mentre eravamo in collegamento ci abbiamo provato ovviamente credo ci sarà modo di ascoltarlo nel corso di questo pomeriggio capiamo anche il fatto che insomma essendo presidente comunque ex presidente del Consiglio regionale nonché fratello di uno dei candidati preferisca probabilmente in questo momento con dati ancora parziali e non definitivi possa non voler almeno per il momento rilasciare dichiarazioni noi invece attendiamo lo stiamo facendo già da diverso tempo anche con alcuni colleghi dicevo Mario Babbo l'esponente del centro-sinistra appena ovviamente arriverà presso il suo comitato in corso delle libertà qui ad Avezzano ovviamente Mario Babbo vuole avere il quadro un po' più chiaro perché effettivamente la sua situazione è tale per cui non è possibile decifrare se sarà con un certo grado di certezza nel ballottaggio o no al momento è fuori però sta tentando la rimonta su Genovesi sarebbe comunque un risultato importante che cambierebbe anche di tanto lo scenario lo stavamo dicendo in precedenza anche con Alfredo Primante una eventuale esclusione addirittura dal ballottaggio di Genovesi a vantaggio di Babbo darebbe un ulteriore scenario fornirebbe un ulteriore scenario con relativi commenti quindi forse così possiamo intendere Paolo la reticenza di Babbo in questo momento a rilasciare le dichiarazioni mentre invece Genovesi lo ha fatto dimostrando anche una certa fiducia sull'accesso al ballottaggio Sì Genovesi ha parlato ha parlato qualche tempo fa lo abbiamo ovviamente ascoltato in diretta nel corso dei precedenti collegamenti aspettiamo Babbo vedremo poi se ci sarà la possibilità di ascoltare anche gli altri contendenti a questa questa battaglia elettorale queste amministrative di Avezzano lo ripetiamo molto molto sentite lo ricordiamo che tra l'altro Avezzano è reduce da oltre un anno di commissariamento per la caduta che c'era stata della giunta De Angelis dunque anche per questo le elezioni amministrative di Avezzano sono davvero importanti e più tardi sapremo chi sarà il chi saranno i due perché a questo punto è ormai certo che si andrà al ballottaggio sapremo chi sarà chi saranno i due esponenti politici che andranno al ballottaggio ricordiamo ballottaggio che si svolgerà nei giorni del 4 e 5 di ottobre per il momento è tutto Andrea se non ci sono ulteriori considerazioni da studio possiamo restituire la linea a te ok grazie grazie Paolo non so se abbiamo possibilità di dare aggiornamenti con Jacopo ti do il dato definitivo abbiamo già detto della vittoria di Fabio Altitonante al comune di Montori Albomano vediamo il risultato definitivo 15 sezioni su 15 scrutinate dunque questi sono i risultati definitivi del comune di Montori Albomano come detto neosindaco Fabio Altitonante 2145 preferenze pari alla 44,2% secondo posto per Alessandro Di Giambattista 1507 voti 31,1% terzo posto per Eleonora Magno 1200 preferenze numero tondo cifra tonda 24,7% l'abbiamo ascoltato ma era giusto darvi il dato definitivo di tutte le sezioni scrutinate 15 su 15 a te ok probabilmente prima di andare in pubblicità possiamo dare un aggiornamento su Celano che vede questa sfida questo testa a testa tra i due candidati Settimo Santilli l'uscente Gesualdo Ranalletta lo sfidante ma il vantaggio è netto di Settimio Santilli 1246 preferenze contro le 681 di Gesualdo Ranalletta come vediamo questo è il risultato dopo che sono state scrutinate 4 delle 11 sezioni nel comune di Celano saldo vantaggio per il primo cittadino uscente Settimio Santilli torniamo da Jacopo perché c'è per dirti che grazie a Stefano Recanati abbiamo le prime parole da neosindaco di Guardia Grelle di Donatello Di Prinzio se vogliamo possiamo ascoltare possiamo ascoltare Donatello Di Prinzio da una possibile non partecipazione a questa tornazione elettorale la ricordiamo sempre alla vittoria un mese difficilissimo ma adesso tanta serenità e tanta felicità Eh sì dopo quei giorni abbastanza duri tristi anche perché comunque era una competizione a cui ci tenevo e ci tenevamo tutti quanti insieme siamo riusciti con un grande lavoro di squadra lavorando tutti i 22 giorni penso che siano stati in maniera intensa e interrotta in mezzo alla gente con la nostra solita semplicità ma con molto concretezza penso che sia anche il lavoro svolto nei miei anni di attività politica e amministrativa nella mia città in provincia dove si è cercato di fare il miglior modo possibile il mio ruolo di svolgere il miglior modo possibile adesso questo grande risultato speriamo di poter essere all'altezza per amministrare la mia città Ecco sono quasi 400 voti di differenza a un margine notevole perché comunque è stata un'azione elettorale anche difficile complicata sì anche perché l'azione è stata molto difficile perché nel mondo d'oggi giochiamo molto con i social quindi diciamo il palcoscenico è diventato quello io che sono un po' meno social degli altri ho dovuto lavorare in più sulla piazza è comunque un divario abbastanza elevato non ricordo nell'ultima votazione questo grande divario l'altra volta erano 150 140 voti la volta precedente con la nostra vittoria mi sembra 26 voti quindi si vede che l'agenda ha voluto premiarmi premiare tutta la squadra e credo che si aspetti anche molto da noi e cercheremo di non deludere sicuramente perché a parte questi primi momenti o giorni che mi devo ancora riprendere penso che ci sarà molto da lavorare io mi sono mai tirato indietro nel lavoro ci rimboccheremo le maniche nel miglior modo possibile Ecco è già stato in municipio ha salutato dei dipendenti è iniziato ad andare a prendere coscienza di quello che sarà il lavoro dei prossimi giorni No sono andato solo a vedere cosa bisogna fare a livello proprio burocratico in questi momenti e niente sono a prendere indicazioni ho salutato gli altri colleghi competitor il sindaco scende dal Pozzo sono andato nella sede elettorale di Giada di Crescenza ma non c'era c'erano i suoi candidati li ho voluti salutare perché comunque in una competizione elettorale tutti si mettono in gioco e tutti penso che lo facciano con buoni propositi per la propria città e sono andati a salutarli perché anche loro hanno lavorato in questi giorni e alcuni in questi anni e penso che tutti abbiano fatto il miglior modo possibile il loro lavoro solo per questo Le parole di Donatello Di Prinzio nuovo sindaco di Guardagrele espressione di una lista civica di centrodestra ha battuto anche Simone Dal Pozzo che era il sindaco uscente ha battuto anche la candidata Gianna Di Crescenzo ci fermiamo andiamo in pubblicità e poi torniamo qui per l'Election Day su TV6 Eccoci rientrati di nuovo con l'Election Day un altro verdetto che arriva da Casteldisangro dove c'è un'altra conferma quella del sindaco uscente Angelo Caruso che potrà proseguire il suo percorso amministrativo appunto nel comune di Casteldisangro netta, nettissima vittoria con l'83,68% delle preferenze pari in valore assoluto 3.173 la lista continuità per il progresso non ce l'ha fatta Daniele Marinelli che si è fermato a 619 preferenze dunque il 16,32% lista progetto comune e poi diamo un ulteriore aggiornamento che arriva dal comune di Celano dove siamo a 5 sezioni scrutinate su 11 prima abbiamo dato l'aggiornamento con 4 sezioni adesso ce n'è una in più la sostanza non cambia Settimio Santilli il sindaco uscente in netto vantaggio con 1.603 voti contro i 939 dello sfidante Gesualdo Ranalletta e torniamo a Chieti da Alfredo Primante Alfredo a te a Chieti da Alfredo Primante Alfredo a te Sì grazie Andrea di nuovo insieme da Palazzo De Maio ci ha raggiunto il dottor Diego Ferrara che è il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra che ringrazio e a cui do il buon pomeriggio buon pomeriggio e c'è con noi anche Giuseppe Dintino che ci aiuterà a fare è acceso sì sì è acceso il microfono sì 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 è acceso ci aiuterà come dicevo a fare le domande a Ferrara io partirei da una domanda molto semplice a dati aggiornati rispetto a quello che noi sappiamo la forchetta si sta divaricando o si sta riducendo rispetto a Diori? È assolutamente identica a quella di questa mattina prego mi diamo ecco a posto a posto non è un tentativo di boicottaggio ma siamo in diretto siamo in diretto mi scusi allora di questo di questo infortunio tecnico allora la la cosiddetta forbice è uguale a quella di questa mattina a volte ci appaiamo a volte va avanti lui a volte vado avanti io però questa posizione questi diciamo questi numeri erano largamente previsti quello che forse non era prevedibile è il fatto che il dottor Di Stefano non ce l'abbia fatta al primo turno come lui pensava insomma effettivamente devo dire che in queste ultime settimane qualche incubo di questo tipo ha disturbato il mio sonno però nelle ultimi giorni nelle ultime settimane la mia campagna elettorale è andata bene e quindi mi sono sentito rinfrancato ed effettivamente i dati di oggi confermano di aver di aver agito bene e quindi sono già grandemente soddisfatto per questo un'altra domanda che le volevo fare lei prima nell'intervista che abbiamo mandato in onda questa mattina ha detto io sono aperto non ho preclusioni nei confronti di nessuno però ci aiuta un po' a leggere il quadro politico che si sta delineando rispetto all'eventuale ballottaggio perché mi sembra che non sia di semplice lettura beh no assolutamente non è di semplice lettura allora io parto dal presupposto e penso che chi mi conosca lo possa confermare sono non solo un uomo dell'ascolto ma anche del dialogo per etica personale e professionale quindi io sono aperto a dialogare con tutti ad avere il contributo di tutti e anche nel momento in cui non dovessi essere secondo ma comunque dovessi partecipare al ballottaggio mi confronterò con tutti non posso nascondere in questo momento perché sarei veramente un'ipocrita nel non dire che qualche paletto ideologico soprattutto per quanto riguarda la coalizione del dottor Diorio c'è indiscutibilmente noi siamo una coalizione orgogliosamente collocata a centro-sinistra dover parlare con persone di dichiaratamente fede di destra non è non è semplice però non lasciamo ecco non non lasciamo chiuse tutte le porte l'importante io ribadisco sempre e questo i miei concittadini devono capirlo e saperlo perché io ho vissuto cinque anni di consigliatura uscente abbastanza problematica sotto questo punto di vista io voglio risottolineare che qualunque amministrazione vada a governare Chieti deve essere per il bene della città e tutti devono collaborare coralmente giuseppe se vuoi fare tu una domanda si rimarrei su questo discorso delle eventuali alleanze in caso di ballottaggio che reputo molto interessante perché lei dice sono disposto a dialogare con tutti tranne forse con Diorio perché noi siamo di centrosinistra mentre lì ci sono elementi di altre ideologie però è interessante notare come il centrosinistra spaccato i fuoriusciti dal PD e proprio con Diorio che si sono andati vi riferisco ovviamente alla componente di Italia Viva questo quindi potrebbe sembrare che potrebbe far apparire che potrebbe esserci un punto d'incontro che lei invece dice non c'è ma che invece potrebbe esserci code Cesare anche perché stando ai dati di oggi a come sono andati finora questi scrutini l'apporto dei 5 Stelle potrebbe non bastare a vincere il ballottaggio cosa ne pensa? Allora io dico questo che con i 5 Stelle l'apparentamento chiamiamolo così ma la 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 sintonia c'è e io l'ho ribadita durante una trasmissione televisiva con De Cesare il discorso è aperto da tempo sia per motivi anche personali io conosco il ragazzo perché è stato compagno di scuola di mia figlia stimo fortemente tutta la famiglia De Cesare quindi c'è un come devo dire una specie di trasporto anche affettivo ed emotivo nei suoi confronti per quanto riguarda la lista di di Orio è una lista che agli occhi non miei non miei ma dei cittadini è subito sembrata una coalizione strana dove convivono parti del partito parti della sinistra che tra l'altro tra parentesi mi avevano portato loro stessi come candidato sindaco per poi andare da un'altra parte è una parte politica dichiarata matrice di destra ora che devo dire con una coalizione del genere occorre fare occorrerebbe quasi fare due discorsi diversi cioè la difficoltà nel parlare con il candidato e collega di Orio è proprio insita in questo con chi parliamo la mia coalizione con chi parla parla con di Orio parla con Ricci e con Marzoli parla con Mauro Febbo questa è la difficoltà questa è la difficoltà capisce? Quando io parlavo di quadro politico composito e frastagliato mi riferivo proprio a questa difficoltà che lei ci sta sottolineando perché è la stessa difficoltà che abbiamo letto nelle parole di Paolo De Cesare che comunque al suo interno ha una componente di centrodestra o di destra e quindi anche lì c'è una problematica di composizione anche delle ideologie politiche sebbene sia una coalizione civica chiaramente sì assolutamente sì anche lì infatti io anche in altri discorsi ho detto che le altre liste ovviamente tranne la mia e tranne quella di Amicone erano tutte e tre liste di centrodestra però c'è anche da dire che i toni utilizzati anche durante la campagna elettorale i fini anche gli obiettivi da raggiungere fanno la differenza tra le persone fanno la differenza e quindi potremmo sentirci più vicini ad alcuni che ad altri ripeto però noi dobbiamo assolutamente lavorare per il bene della nostra città facevo riferimento ai miei cinque anni di consigliatura laddove io come altri colleghi consiglieri di minoranza non eravamo visti come avversari che potevano portare un loro contributo ma come nemici politici ecco questo ribadisco deve finire deve finire quando andremo a sederci in giunta in consiglio comunale dobbiamo fare il bene della città ora tutto quello che ci aspetta da adesso al momento del prossimo turno deve essere fatto in maniera corale per il bene della città molte cose si supereranno altre si cristallizzeranno i comportamenti delle persone anche quelli di vecchia data possono rimanere però l'importante è andare tutti insieme per il bene di Chieti ecco stiamo vedendo i dati gli ultimi disponibili con Di Stefano al 37% la sua coalizione lei al 22,6% e Di Orio al 20% dunque una situazione che perlomeno nell'ultima ora è rimasta sostanzialmente la stessa a livello di divario poi varia qualche punto percentuale però ormai insomma sembra quasi un trend consolidato quello che la vede in vantaggio sebbene insomma il dato sia ancora ovviamente non completo io penso che dovremmo essere allo spoglio di un 15.000 di un 15.000 schede più o meno a metà poco più della metà poco più della metà e non so quanti di questi dati provengano da da chi ti si sono dati diciamo disaggregati dati disaggregati però sto vedendo che da questa mattina in effetti il trend rimane uguale insomma ecco lei un po' ha parlato della campagna elettorale che ha vissuto in queste settimane è stata una campagna elettorale forse dai toni anche molto duri soprattutto nell'alveo diciamo dell'altra parte politica quella del centro-destra con uno scontro pesante anche all'interno della coalizione che poi si è spaccata e si è cristallizzata nelle due figure di Di Stefano e di Iorio e questo penso che possa avere in qualche maniera influito sulla qualità del dibattito politico portato avanti beh ad un certo punto ha sicuramente influito e me ne è dispiaciuto perché se voi ricordate a giugno io vogli inaugurare un inizio di campagna elettorale fondato sul Fair Play e invitai alcuni dei miei competitor a fare un brindisi inaugurale insomma e pensavo che questa questo metodo questa metodologia di portare avanti la campagna elettorale non fosse solo una novità per Chieti ma lo potesse essere anche come piccolo laboratorio politico per tutto il nostro paese dove osserviamo continuamente sia sulla carta stampata che nei telk show attacchi personali grida e quant'altro e pensavo che potessimo andare avanti con questo metodo ognuno di noi diceva quello che aveva da dire e le persone poi sceglievano improvvisamente sono iniziati degli screzi personali per me incomprensibili incomprensibili fortunatamente diciamo sono sempre rientrati entro un limite temporale sufficientemente breve tanto da non aver inciso in maniera eccessivamente negativa però insomma potevano essere risparmiati sicuramente prima di dare la parola a Giuseppe Lintino per un'altra domanda l'ultima proprio sulla campagna elettorale è stata una campagna elettorale contro o per nel senso tutti contro Di Stefano o ciascuno per il bene di Chieti assolutamente ognuno per il bene di Chieti il dottor Di Stefano in una trasmissione televisiva sorridendo ha detto va bene siete tutti contro di me non è così non è così è stata la sua percezione ma devo dire che la vera il vero obiettivo la vera molla è per il bene di Chieti io dico la mia esperienza allora ripeto per chi non mi avesse conosciuto o non mi avesse sentito parlare finora io ho un'età nella quale tranquillamente mi potrei godere la pensione e la famiglia con figli e nipoti perché ho deciso cinque anni fa di entrare in politica e adesso di portare avanti questa candidatura perché io sono profondamente di Chieti sono nato a Chieti ho avuto l'onore di studiare di fare tutti gli anni anche di Università Chieti appena laureato sono riuscito negli anni a fine anni 70 a trovare la professione il lavoro e la professione che svolgo da più di 40 anni mi conoscono tutti e ho pensato che mettermi in gioco era proprio per il bene della città che conosco conosco profondamente la conosco profondamente e i miei cinque anni di consigliatura mi hanno dato anche un notevole bagaglio amministrativo Giuseppe Dottor Ferrara questa tornata elettorale come tutti sappiamo non ha riguardato solamente le amministrative c'è un dato nazionale secondo me importante perché si è votato in sei grandi regioni in tre di queste il Partito Democratico ha vinto conseguendo anche un risultato importante soprattutto dall'altro lato c'è stata un'esitazione della Lega che non si vedeva da tempo a livello di consensi lei crede che ha tratto in qualche maniera aggiovamento da questo andamento nazionale? Io non penso non penso perché le cose sono state troppo sincrone e quindi non non penso che ci sia stato un riverbero positivo o anche se fosse stato negativo ovviamente i dati che lei che lei dice non fa altro che farmi piacere insomma è chiaro che io sono un uomo di parte insomma e conseguentemente che la Lega si diminuisca non può farmi altro che piacere Andrea Jacopo se avete delle domande da studio linea a voi insomma Ferrara arriva sostanzialmente dalla lista Chieti per Chieti che insomma fa anche riferimento a Luigi Febo che è una personalità che dal punto di vista politico a Chieti ha una certa importanza è stato candidato sindaco proprio nell'ultima tornata elettorale sfidando di primio portandolo al ballottaggio si è confrontato con lui con Luigi Febo in queste ore commentando i primi risultati e insomma cosa nel caso vi siete detti anche alla luce della sua esperienza proprio nel ballottaggio precedente con Di Primio è stato ricordato in precedenza un 37% contro il 31% di Luigi Febo nel 2015 prego Ferrara di Luigi Febo nel 2015 prego Ferrara allora con Luigi Febo intercorre una amicizia di vecchia data e lui stato l'artefice e la sua colpa nell'avermi fulminato sulla via folgorato sulla via di Damasco 5 anni fa nel convincermi a candidarmi nella sua lista civica in house del PD Chieti per Chieti dove fui eletto io e Luigi ci sentiamo quotidianamente a tutte le ore tanto che giorni fa mia moglie ha detto che comincia ad esserne gelosa e noi ci sentiamo continuamente ci scambiamo opinioni io do giudizi e chiedo consigli a lui e viceversa quindi è un'amicizia una bella amicizia di tanti anni e so di avere in lui un supporto sempre attivo e a cui posso far riferimento continuamente tra l'altro io la riporto un attimo sulla attualità perché di oggi la notizia di un buco di bilancio scoperto in extremis con un prestito fatto dall'aggiunta all'ultimo all'ultimo minuto e che questo ci riporta un po' indietro alla campagna elettorale a quello che poi eventualmente dovrà essere il lavoro del prossimo sindaco di Chiedi certamente sì io non per nulla nei miei comizi nelle mie esternazioni ho detto sempre che la prima cosa che dovrò fare insieme con i miei collaboratori è quello di fare una ricognizione seria delle risorse finanziarie e immobiliari del comune e quella di creare un settore per le comunità europee per intercettare i fondi europei io ricordo le battaglie in consiglio comunale quando la giunta di primio voleva far passare il proprio bilancio come a norma quando gli stessi revisori dei conti davano misure e numeri contrari noi sappiamo bene quello a cui andiamo incontro sappiamo bene che alzare il coperchio di questo vaso di Pandora ci costerà molto una cosa sola io spero che la giunta di primio non abbia avvelenato i pozzi soltanto questo spiro Andrea se ci sono altre domande da studio per quanto mi riguarda no non so se Jacopo ha degli aggiornamenti o ha ulteriori sollecitazioni Jacopo ok non siamo posto così dunque Alfredo penso che possiamo ringraziare il candidato Ferrara ovviamente facendogli in bocca al lupo per la prosecuzione di questa competizione elettorale che dovrebbe vederlo protagonista anche per il secondo turno ok ok grazie grazie noi ci abbiamo alla chiusura di questa parte della della trasmissione ma attendiamo perché probabilmente da Chieti avremo un altro un altro contributo prima di congedarci intanto diamo un altro risultato che arriva dalla Valle Peligna da Bugnara dove c'è un'altra conferma quella di Giuseppe Lostracco sindaco appunto di Bugnara mandato prolungato 538 voti con la lista patto per Bugnara Poi Alessandro Manzoli di cittadinanza attiva 108 preferenze e quindi Panfilo Capaldi della lista insieme con 16 preferenze questo dunque il risultato di Bugnara abbiamo detto in precedenza della conferma di Angelo Caruso a Casteldisangro che si è affermato nettamente sul suo competitor mancano ancora dei dati ufficiali circa altri comuni come ad esempio quello di Carsoli siamo ovviamente al confine tra Abruzzo e Lazio qui ancora non è arrivato il risultato definitivo non so se abbiamo degli aggiornamenti invece da Avezzano Jacopo guarda Andrea ti do non da Avezzano ti do il dato in Chieti ancora più aggiornato rispetto a prima anche se la tendenza è quella che conoscete già molto molto bene Fabrizio Di Stefano 6479 voti 37% percentuale tonda Diego Ferrara 3.959 22,6% 20% per Bruno Diorio 3.510 pari al 20% e nella seconda pagina vediamo con Paolo De Cesare 13,6% 2.380 mentre Amicone 1.203 pari al 6,9% questi sono dati che fanno riferimento a come dicevamo prima poco più della metà dei voti scrutinati nessuna sezione è realmente completa e sono voti che arrivano mano a mano dai vari seggi e quindi non c'è un seggio che abbia terminato lo scrutinio anche perché insomma lo avete visto ci troviamo intorno al 60% delle schede scrutinate però diciamo che arrivati a questo punto mi pare di capire che si va sicuramente verso un ballottaggio ma l'avevamo detto già parecchio tempo fa e che abbiamo quasi di fatto sciolto il nodo bordiano il ballottaggio sarà tra il centrodestra di Fabrizio Di Stefano e la centrosinistra di Diego Ferrari Ok allora altri verdetti sempre della provincia dell'Aquila Collarmele il sindaco è Antonio Mostacci con la lista condividere e partecipare ha raccolto 376 voti contro i 249 di Milva Ranalli i due voti di Corrado Centonze nessun voto raccolto da Luca Livi dunque Antonio Mostacci sindaco di Collarmele poi a Navelli la vittoria di Paolo Federico con 282 preferenze lista insieme ha avuto la meglio su Luigi Torlone che ha raccolto 90 preferenze con la lista un nuovo orizzonte poi ancora Pescina uno dei comuni più importanti della Marsi che anche qui insomma si andava al voto la vittoria è andata a Mirco Zauri con 1363 preferenze pari al 54,35% progetto Pescina Venere lo sconfitto è Tiziano Giulianella di Libertà e Azione 1145 voti pari al 45,65% e poi San Demetrio nei vestini il sindaco è Antonio Di Bartolomeo 683 voti raccolti 53,15% lista uniti per San Demetrio lo sconfitto è Simone Ulizio 602 voti dunque non un grande distacco 46,85% lista San Demetrio rinasce questi dunque gli ultimi aggiornamenti che arrivano a Pescina il primo cittadino mi pare un cognome abbastanza non so se parliamo di parentela però ho capito dico il neosindaco di Pescina il nome mi suona abbastanza familiare dici che ci può essere un grado di parentela con Luciano molto probabile non lo so io la butto lì però insomma un cognome Zauri a Pescina mi sembra quantomeno sospetto eh sì anche Tiziano Giulianella insomma anche lì siamo a un cognome tipico di Pescina che era anche il cognome del sindaco uscente del del centro marsicano alle porte della valle del Giovenco questi dunque gli ultimi aggiornamenti tra poco gli ultimi dati da Celano sì bene bene prego Jacopo tra pochissimo ah ok 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 probabilmente poi avremo anche qualche altro dato aggiornato dal comune di Avezzano anche se insomma la sostanza non cambia perché ad Avezzano c'è sempre Di Pangrazio in vantaggio piuttosto saldo non chiaramente un vantaggio che possa far pensare a una vittoria al primo turno assolutamente no però è Gianni Di Pangrazio il candidato sindaco che sta riportando decisamente più voti in questa prima tornata elettorale resta questo testa a testa per la seconda posizione che dà appunto l'accesso al balottaggio al secondo turno con Tiziano Genovesi che mantiene un pugno di voti in valore assoluto siamo poco più di 250 voti di vantaggio su Mario Babbo poi più indietro ci sono Anna Maria Taccone ancora più indietro del boccio e chiude poi Stornelli dunque ad Avezzano si va consolidando il primato di Gianni Di Pangrazio resta questo testa a testa tra Genovesi e Babbo con Tiziano Genovesi per ora in leggero vantaggio ricordiamo Tiziano Genovesi candidato espressione della Lega al suo sostegno oltre che la Lega anche le liste di Fratelli d'Italia dell'Udc e poi una lista civica Mario Babbo è sostenuto dal PD e da altre 5 liste civiche quindi ne sono 6 mentre Anna Maria Taccone è sostenuta da diverse liste tra cui quella di Forza Italia questa dunque è la situazione ad Avezzano non so se siamo in grado di potervi dare l'aggiornamento circa il comune di Celano ma come detto sono davvero tanti i comuni in provincia dell'Aquila in cui si è votato prego Jacopo 5 sono 5 sezioni scrutinate su 11 ma mi pare che siamo di fronte ad una conferma abbastanza comoda del sindaco uscente Settinio Santilli con la lista una città da mare 1603 voti 63,1% che dovrebbe battere a questo punto mi pare di capire battuto Gesualdo Ranalletta lista civica per Celano 939 voti pare al 36,9% sono 5 sezioni scrutinate lo ripetiamo su 11 ma la tendenza mi sembra abbastanza consolidata grazie grazie a Jacopo Forcella ricordiamo che in provincia di Chieti c'è stata la vittoria a Guardia Grele di Donatello di Princia che è il nuovo sindaco appunto di Guardia Grele c'è stata a Palena la conferma di Claudio De Miglio e poi c'è stata un'altra conferma a Guilmi per Carlo Racciatti in provincia di Teramo abbiamo ascoltato le parole del nuovo sindaco di Isola del Gran Sasso Andrea Ianni abbiamo visto anche il servizio di Tania Bonici Castelli dedicato appunto alla vittoria di Fabio Altitonante appunto a Montori Alvomano Fabio Altitonante espressione di una lista civica di centrodestra che ha avuto la meglio su Alessandro Di Giambattista ex sindaco di Montorio ma non uscente c'è stato anche il commissario ma insomma di Giambattista è stato due tornate fa fino a due tornate fa sindaco di Montorio prima dell'era di Centa e dell'era Facciolini due mandati che si sono conclusi bruscamente con il commissariamento e Altitonante anche davanti ad Eleonora Magno di Montorio guarda avanti sempre nel Terramano ricordiamo che a Bisenti l'unico candidato sindaco ovvero Marcello De Antonis non è stato eletto perché non è stato raggiunto il quorum del 50% più 1 degli elettori al voto vedete gli elettori potenziali erano 2.172 i votanti sono stati 861 pari al 39,64% quindi Marcello De Antonis non può essere eletto sindaco del comune di Bisenti invece nel derby tra le due De Antonis a Castel Castagna c'è stata la vittoria di Rosanna De Antonis su Laura De Antonis 259 preferenze contro 105 questo per quanto riguarda il Terramano abbiamo dato anche il risultato di Castelli che ripetiamo anche in questo caso una conferma quella di Rinaldo Seca che prosegue il suo mandato da sindaco nel comune noto per le ceramiche Rinaldo Seca espressione della lista primavera Castelli che ha avuto la meglio su Cristian Francia di Castelli Capitale 483 voti per Rinaldo Seca 292 per Cristian Francia Allora direi che possiamo chiudere per questa prima lunghissima parte di questo election day ma chiaramente la sfida continua perché insomma i dati andranno consolidandosi quindi noi ci ripromettiamo di essere di nuovo tra voi tra circa tre quarti d'ora intorno alle 15.30 riapriremo con il nostro election day e quindi proseguiremo nel raccontarvi questa giornata di scrutini i piccoli comuni oramai hanno dato il loro verdetto i fari restano puntati chiaramente su Chieti e su Avezzano dove si profilano due ballottaggi ma sarà interessante capire chi andrà al ballottaggio due candidati ormai sono sono certi Fabrizio Di Stefano a Chieti e Gianni Di Pangrazio ad Avezzano bisognerà capire quali saranno gli sfidanti Ferrara in questo momento è in testa su Di Orio occupa il secondo posto Di Orio il terzo a Chieti mentre c'è davvero un testa a testa per il secondo posto ad Avezzano tra Tiziano Genovesi e Mario Babbo per ora io ringrazio chiaramente Alfredo Primante a Chieti con Giuseppe Dintino ringrazio Paolo Renzetti a Giulianova ringrazio per la parte tecnica Maurizio Dagui e Loris Bennato in esterna qui a Silvia ringrazio Claudio Di Giacomo saluto anche Jacopo Forcello ma ci ritroviamo tra circa tre quarti d'ora per proseguire l'Election Day a dopo a dopo a dopo a dopo Ben ritrovati con l'Election Day, riprende la nostra marcia verso gli scrutini nella nostra regione con i fari puntati sui comuni più grandi, in particolare Chieti ed Avezzano che sono anche i comuni che verosimilmente andranno al ballottaggio tra un paio di settimane. Eramo in sospeso con altre vittorie, con altri risultati definitivi, in attesa di dare la linea a Jacopo Forcella vado subito per altri piccoli comuni. Prendiamo atto di un risultato che avevamo già comunicato sin da ieri, cioè la vittoria a Pesco Costanzo dell'unico candidato sindaco Roberto Sciullo, il cui il problema era come sempre il raggiungimento del quorum, vedete a Pesco Costanzo ha votato il 52,55% degli eventi diritto e quindi oggi ci sono state le operazioni di spoglio, 540 voti per l'unico candidato Roberto Sciullo che avendo raggiunto il quorum è anche neosindaco di Pesco Costanzo. E poi ancora a Pizzoli, sempre in provincia dell'Aquila, la vittoria di Giovannino Anastasio con 1164 preferenze contro le 792 di Osvaldo Zarivi e le 551 di Gabriella Sette. E poi ancora a Corfinio la vittoria di Romeo Contestabile con 369 preferenze, la lista Corfinium rinasce, 324 invece le preferenze di Cristina Colella di Corfinio Futura. E poi ancora a Castelvecchio Subequo la vittoria è andata a Marisa Valeri che è il nuovo sindaco del comune della valle Subequana, 359 preferenze contro le 284 di Andrea Padovani e le 6 di Fabrizio Calcagni. E poi a Collelongo, il comune di riferimento dell'ex governatore Ottaviano del Turco, Amare Collelongo esprime il candidato sindaco che sarà il nuovo sindaco, Rosanna Salucci che si è imposta con 610 preferenze contro le 239 di Nicola Pierleoni della lista civica partecipa. Questi alcuni dei risultati che mancavano, andiamo da Jacopo Forcella per altri aggiornamenti e penso anche per il definitivo del comune di Celano. Jacopo. Sì, di nuovo buon pomeriggio Andrea, vediamo il definitivo del comune di Celano, peraltro tra poco, lo dico per chi ci segue, saremo proprio in collegamento in diretta con Paolo Renzetti, con il, verrebbe da dire, neosindaco, ma di fatto è un sindaco confermato, ovvero Settimio Santilli che ha vinto, sono 11 sezioni scrutinate su 11 e quindi è un dato assolutamente definitivo e come vedete 4127 voti pari al 63,4% contro Ranalletta che si ferma al 36,6% in percentuale con 2387 voti. Ti do anche un ultimo aggiornamento del comune di Chieti, come lo ripetiamo sempre, qui vedete sempre 0 sezioni scrutinate su 57, in realtà sono tutte le sezioni che però arrivano in modo non omogeneo, cioè arrivano, sono 48 le sezioni, sono 57 le sezioni, perdono non 48, arrivano dati mano a mano da varie sezioni, si conferma al 37%, Fabrizio Di Stefano con 7463 voti, al secondo posto Diego Ferrara 4509, pare al 22,4%, Bruno Di Iorio 4106 al 20,4%, poi vedremo anche la seconda schermata dove ci sono De Cesare e amicone, però insomma quello che in questo momento c'è da valutare è la distanza in termini di voti reali tra Ferrara e Di Iorio, siamo a 403 voti di differenza in favore di Ferrara per giocarsi questo ballottaggio, in questo momento sarebbe come hai detto tu prima giustamente una sfida classica tra centrodestra con Fabrizio Di Stefano e centrosinistra con Diego Ferrara con un centrodestra che parte come vedete con un ampio margine di vantaggio ma poi ci sarà da vedere evidentemente l'eventuale variabile Bruno Di Iorio e non solo perché andiamo anche nella seconda schermata, eccola qua, dove ci sono Paolo De Cesare 2.702 voti, pare al 13,4% e chiude Amicone con 1.383 voti, pare al 6,9%. Questi sono gli ultimissimi dati del comune di Chieti, lo ripetiamo, sono 57 sezioni e ci troviamo a due terzi dello scrutinio, però ovviamente questi sono ancora dati che devono essere consolidati soprattutto per la seconda e la terza posizione, per la prima credo che non ci siano ormai più dubbi, però per la seconda e la terza, soprattutto perché bisogna vedere anche rispetto alla consistenza, alla forza sia di Diego Ferrara che di Bruno Di Iorio i voti soprattutto che arriveranno da Chieti Scallo, dalle sezioni che fanno riferimento a Chieti Scallo. Questa è un'indicazione, tra un po' sentiremo proprio Bruno Di Iorio con un affetto primate nello studio a Palazzo De Maio, però quella potrebbe essere una variabile. Allora, intanto siamo avanti anni luce rispetto al sito del Viminale perché sul sito non c'è ancora alcun risultato su Chieti, neanche una sezione scrutinata, ecco qui 0 su 57, ma insomma grazie a noi siete sicuramente molto più avanti nell'aggiornamento dei dati. Siccome mancano ancora qualche minuto prima di essere pronti a Celano con il confermato sindaco Settimio Santilli io direi di andare ad ascoltarci proprio l'intervista, visto che abbiamo parlato di lui fino a poco fa con i dati di Chieti, andiamo ad ascoltare Bruno Di Iorio che contende a Diego Ferrara il posto per il ballottaggio con Fabrizio Di Stefano, lo ascoltiamo e poi andiamo in diretta a Celano. Bruno Di Iorio. Questa festa con il suo collega Ferrara, sperava in un ballottaggio certo o questo risultato era quello che prevedeva? No, ballottaggio certo è francamente difficile da dirlo. No, no, io non speravo in nulla perché ho sempre detto che la mia previsione era totalmente incognita per me. Io sono partito da zero. Consideriamo che a febbraio 2020 la mia candidatura non era nemmeno ipotizzabile e considerate che i pronostici ci vedevano sempre per ultimi, tutti i sondaggi fatti qui a Chieti ci vedevano a me al 7% addirittura, quelli ufficiali magari fatti da agenzie specializzate e quelli sui social magari fatti da personaggi un po' più di primo livello, magari boicottati anche mi vedono comunque ultimo. Per cui è stato un successone, non mi aspettavo assolutamente di avere tutto questo consenso perché considerate che dall'altra parte c'è un signore che pensa di vincere il primo turno, KO 7, 8, 10 a 0, 58%, andate per rivedere tutte le trasmissioni fatte, sembrava che avesse vinto il primo colpo e dicevamo stai buono perché poi Chieti non sceglie un personaggio forestiero. Comunque ha preso una scopola tremenda, l'altro personaggio che si proponeva locale si è fermato al 15% e credo che adesso stia mangiando un po' le dita perché potevamo dialogare insieme prima del voto, i Chietini hanno dimostrato che aveva più credito e la sinistra considerate che il collega Diego Ferrara comunque rappresenta il PD, quindi un voto d'opinione, un'ideologia consacrata in città, è vero che a Chieti vince sempre la destra e il centro-destra, ma il PD a Chieti 35-40% di percentuali e se si ferma come me, siamo lì lì spalla a spalla, 22-23-24%, essermi messo in mezzo a questi mostri della politica per me è un risultato che non mi sarei mai mai aspettato. Centro-destra bis, con chi sarebbe disposto però ad allearsi per il ballottaggio? Non è che sono centro-destra bis perché ho fatto la mia campagna elettorale, l'ho sempre detto, basando il concetto principale che fosse Chieti il problema per quanto riguardava il mio modo di vedere questo tipo di tornata elettorale, non so chi è venuto del centro-destra perché il centro-destra sta tutto di lì, qui c'è soltanto la lista civica Forza Chieti che è rappresentata da uno stesso riuscente che peraltro per me è un valore aggiunto in vista di una eventuale organizzazione politica perché comunque è l'unico interlocutore locale di Chieti a cui avrei fatto riferimento, non è un centro-destra bis, dove esce all'eremo io sinceramente intanto vediamo come andiamo a finire, poi lo valutiamo perché per me era un processo civico, se poi si inizia a parlare di politica è già un altro campo per me, perché per me era Chieti il concetto, quando se si dovesse inizia a parlare di politica in base al risultato deciderò insieme agli altri, da solo no, chiaramente. Quindi a priori non esclude nessun tipo di alleanza nemmeno con Ferrara? Ma guardi no, io l'ho fatto la battuta da tempo fa quando mi dissero lei con chi si allenerà, io ho fatto la battuta, ho detto dal mio nome collega medico mi alleo con lui però lui non mi ha risposto, ho detto no io vado con il 5 Stelle perché le linee nazionali sono quelle, io dimostro che a me non interessa la politica, vedremo i programmi. Ferrara poco fa ci ha detto io con Diorio non parlo perché al suo interno ha delle anime di destra e io sono di centro-sinistra, cosa risponde? Eh vede, questa è la differenza netta tra me e tutti gli altri, io non ho anime, anime di centro-est, siamo a parlare di gente che ha 60 anni, che si è svestita di colori politici per il bene della nostra città, per cui io non vedo anime, io posso parlare tra Di Stefano, De Cese, tutti gli altri, purché ci sia un progetto Chieti di rinascita, ma non rinascita personalizzata, raggiungimento di poltrono alto, soltanto per il bene della nostra città mi ero speso per quello, io avevo già vinto prima delle elezioni perché quando sono entrato in campo già era 58%, 7-0 per Di Stefano e c'era De Cese, magari si sarebbe accontentato di qualche briciola, io invece sono entrato, ho già sparecchiato il tavolo che era pronto, quindi avevo già vinto il 12 marzo quando ufficializzai la mia candidatura e l'ho detto sempre. Adesso non sono convinto, ho rivinto un'altra volta perché come persona credo di aver fatto il top come è la prima volta che mi affaccio nel mondo della politica. Non, io mi posso associare con chiunque, mi posso allenare con chiunque perché ci sia Chieti al centro del problema. Diceva se lei non dovesse arrivare al ballottaggio, la sua prima esperienza politica, continuerà questa esperienza, continuerà a lavorare per la vita sociale di Chieti? È una bella domanda perché io francamente a pelle direi no, perché ho fatto tutto, io faccio il medico, ho ancora una prospettiva di vita, però in questi giorni ho maturato una responsabilità pazzesca, se il teatino mi ha messo in mano 22% di preferenze come faccio a dire non mi metterò a fare soltanto il medico, credo che abbia il dovere di dare una continuità a quello che ho fatto, per cui probabilmente mi imparerò meglio come convivere con qui in questo ambiente politico e cerco di farlo coniugare con il mio dovere professionale. Grazie Di Iorio. Prego. Mai banale Bruno Di Iorio, torneremo su queste dichiarazioni con il collegamento a Chieti, ma ora diamo la precedenza a Celano dove Settimio Santilli è confermato primo cittadino e lo abbiamo al microfono di Paolo Renzetti. A te Paolo. Sì, grazie, prendiamo la linea in diretta da Celano con il sindaco Settimio Santilli dunque riconfermato alla carica di primo cittadino di Celano con uno scarto di 1741 voti. Santilli, direi un grande risultato per lei. Sì, assolutamente sì, perché la gente evidentemente ha creduto nella nostra credibilità ed affidabilità dimostrata in questi anni in cui abbiamo amministrato e soprattutto nelle nuove proposte che abbiamo fatto per i prossimi cinque anni. Cosa si sente di dire alla cittadinanza e ai cittadini di Celano? Innanzitutto grazie per aver espresso il loro voto in un momento storico non proprio semplice visto l'emergenza Covid. Soprattutto grazie di aver riposto di nuovo la loro affidabilità e la loro speranza nella nostra lista Una Città da Mare. Continuiamo insieme a far crescere Celano, questo è lo slogan della campagna elettorale e lei continuerà a lavorare per far crescere questa città? Sì, è un percorso che abbiamo avviato nella passata amministrazione, è un percorso che deve essere assolutamente concluso, abbiamo una visione delle criticità della città e soprattutto degli interventi più impellenti da fare, quindi il percorso deve essere assolutamente continuato e soprattutto terminato in questi anni. Chi si sente di ringraziare oggi? Io mi sento di ringraziare innanzitutto tutti i cittadini perché hanno dimostrato che la democrazia evidentemente premia e ha avuto per l'ennesima volta la vittoria. Poi tutti i candidati nella mia lista perché è stata una lista che è stata votata alla grande dalla cittadinanza e quindi tutti i nostri sostenitori, gli amici e infine la mia famiglia. Ha avuto già modo di sentire il suo contendente Ranalletta? Sì, l'ho chiamato poco fa per congratularmi con lui, è stata una sfida comunque accesa ed animata come è giusto che sia in campagna elettorale. Adesso mi auguro che ci sia una bella collaborazione in consiglio comunale protesa alla crescita della città. Sì Andrea, linea a te per qualche considerazione con il sindaco. Quali saranno le priorità del sindaco confermato, in particolare in questo senso spesso si fa la domanda dei primi 100 giorni e poi vorrei che ponesse l'accento sull'edilizia scolastica, un tema che lui ha trattato nell'ultima parte della campagna elettorale perché è quella zona sismica e ha detto dobbiamo mettere in sicurezza tutti i poli scolastici del nostro comune. Collega Andrea Costantini da studio chiede quali le priorità per Celano, cosa farà nei primi 100 giorni e poi la seconda domanda, l'edilizia scolastica, lei ha puntato molto sulla sicurezza, sull'efficienza degli edifici scolastici anche alla luce degli ultimi accadimenti. Assolutamente sì, l'edilizia scolastica riveste la priorità assoluta nel nostro programma e intendiamo già dall'anno accademico 2022-2023 di averla terminata per far entrare tutta la popolazione scolastica in strutture nuove, didatticamente all'avanguardia e soprattutto sicure. Parliamo di 1200 studenti i quali entreranno in strutture totalmente rinnovate. L'altro aspetto fondamentale sarà quello di andare a riqualificare interi quartieri della città che abbiamo già fatto nella passata amministrazione e che dobbiamo assolutamente completare. Quale sarà la primissima cosa che farà Settimio Santilli da sindaco di Celano? La primissima cosa che faremo è innanzitutto festeggiare e poi metterci al lavoro per iniziare a far camminare l'amministrazione, quindi nominando i componenti della giunta perché è necessario iniziare subito con il nostro programma elettorale che non può ammettere assolutamente nessun tentendamento. A proposito di festeggiamenti è già pronta la bottiglia, tra poco verrà aperta qui nel comitato del neo rieletto sindaco ma io chiamerei in postazione l'onorevole Filippo Piccone che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è ovviamente già senatore deputato della Repubblica a livello nazionale, molto conosciuto nella nostra regione, grazie onorevole per aver accettato il nostro invito. Certo, poi approfitteremo della sua presenza anche per volgere lo sguardo a quello che sta accadendo ad Avezzano e a Chieti, però partiamo da Celano, un grande successo, una grande vittoria per Settimio Santilli con la regia anche dell'onorevole Piccone. Innanzitutto un grande successo di Santilli che si è confermato sindaco con tanti voti e dimostrazione che la consigliatura appena passata aveva prodotto tanto e bene e quindi la città lo aveva apprezzato e quindi l'ha confermato. Io un piccolo contributo lo do come gli altri ma credo che il più grande successo sia attribuibile al candidato a sindaco e il sindaco uscente Settimio Santilli. C'è stato uno scarto di voti notevole e secondo lei cosa ha deciso in maniera così netta questa campagna elettorale e queste elezioni qui a Celano? Intanto una coalizione, la nostra, una lista che si era costruita cercando della qualità nei candidati con una visione futura della città, un programma ben articolato e pensato contro una lista, una coalizione come la vogliamo chiamare che era un pastrocchio dove stavano dentro tutti i partiti, tutti gli sconfitti dell'altra volta unicamente per giocare contro ma come voi sapete meglio di me in politica non si gioca mai contro ma sempre per e la cittadinanza l'ho apprezzato questa sostanziale differenza tra le due liste. Celano è uno dei centri più importanti della Marsica, tanto lavoro è stato svolto in questi ultimi anni, tanto lavoro attende ancora il primo cittadino da domani qui a Celano? Sì, progetti sono tanti, l'entusiasmo ovviamente è a mille, la qualità dell'amministrazione mi permetto di dire che è cresciuta, quindi tante professionalità, tante competenze, tanta passione che si focalizzeranno su questi progetti e cercheranno di continuare a far crescere questa città in tutti i sensi, da un punto di vista della bellezza, da un punto di vista dei servizi, da un punto di vista delle strutture, insomma abbiamo tante cose da fare. Per chiudere, prima di parlare un attimo di quello che sta accadendo da Vezzano e a Chieti, un'ultima domanda da politico esperto navigato, qual è? Che consiglio si sente di dare al primo cittadino di Celano? A noi i consigli ce li diamo reciprocamente tutti i giorni, quindi mi sento sostanzialmente di consigliargli di continuare a lavorare come ha fatto, con la stessa intensità, la stessa attenzione, la stessa scrupolosità, lo stesso entusiasmo del primo mandato. Voi sapete che il secondo mandato di tutti i sindaci non è sempre brillantissimo, ecco lui se vuole scommettere su se stesso dovrebbe fare il secondo mandato così come ha fatto il primo, basterebbe e avanzerebbe. Allora onorevole, volgiamo un attimo lo sguardo a quello che sta accadendo negli altri centri importanti della nostra regione, parliamo innanzitutto di Vezzano, siamo a 10 chilometri, poco più proprio dalla città marsicana dove è in testa saldamente Gianni Di Pangracio e poi c'è un testa a testa tra Tiziano Genovesi, uno dei candidati del centrodestra e Mario Babbo del PD e di altre liste civiche. Le chiedo un commento su questi risultati che ovviamente sono risultati parziali e non definitivi. Beh, intanto è un peccato perché il centrodestra se fosse andato a questa tornata elettorale unito avrebbe avuto un successo senza se e senza ma. Purtroppo si è andati divisi con un candidato diciamo espresso dalla Forza Italia e un candidato espresso dal resto della... Scusi onorevole, ma perché questa divisione ad Avezzano così anche poi a Chieti? Secondo lei era evitabile, inevitabile? Assolutamente non era evitabile, era assolutamente da evitare, un errore del genere nel corso della mia breve carriera politica non l'avrei fatto mai, avrei a tutti i costi cercato di mettere insieme una coalizione salda che poteva vincere l'Avezzano. Mi danno Genovese leggermente, anche se di poco, il vantaggio su Babbo. Sì, questi sono i dati ultimi che abbiamo. Io credo che il successo di Di Pangrasio non debba ingannare al primo turno perché al secondo turno la vicenda cambia radicalmente così come è accaduta nella passata legislatura, quindi se passa a Genovese io comincio a nutrire un moderato ottimismo perché possa vincere lui al ballottaggio. Anche a Chieti il centrodestra si è presentato diviso alle elezioni, in testa c'è il suo ex collega Fabrizio Di Stefano e poi secondo gli ultimi dati il medico, il professionista del centrosinistra Diego Ferrara. Anche qui ci sarà il ballottaggio, secondo lei cosa potrebbe accadere, cosa accadrà? Secondo me Fabrizio Di Stefano a Chieti ha già vinto o comunque si appresta a vincere anche abbastanza agevolmente perché al ballottaggio non avrà grandi problemi, gli faccio i migliori in bocca al lupo. Fabrizio abbiamo lavorato insieme per tanto tempo, sono certo che farà bene in questa città anche da sindaco e sarà una fortuna anche per Chieti. Prima di chiudere Andrea il collegamento, la bottiglia è pronta, possiamo brindare qui, brindare lo faranno il sindaco. Mi sarebbe piaciuto farlo anche che spendesse qualche... Ok, questa è una scena di festa che fa piacere vedere, però un commento sulla posizione espressa da Mauro Febbo che ha generato questo strappo a Chieti da parte di Piccone, un commento? Certo, allora chiede giustamente il collega Andrea Costantini da studio un commento da parte sua su quanto è accaduto a Chieti sull'azione portata avanti negli ultimi mesi dall'attuale assessore regionale Mauro Febbo. Io non ho proprio contezza di quello che sia accaduto nelle dinamiche chietine, mi è dispiaciuto, per me sono stati due colleghi con i quali ho lavorato tanto tempo in maniera egregia, sia Febbo che Fabrizio, purtroppo quello che dico è che entra troppi personalismi in politica e la politica dovrebbe avere sempre il primato rispetto alle cose personali e questo credo che sia un po' quello che sia accaduto a Chieti, però preferisco non esprimere perché non conoscono il dettaglio della situazione. L'ultimissima, tra poco ovviamente brinderete giustamente il futuro dell'onorevole Piccone al di là di quello che sarà domani a Celano? Assolutamente niente, lavoro e famiglia, questa ulteriore avventura mi è stata strappata per la città e per i miei colleghi e per il sindaco, mi sembra che mi sia prestato alla politica fin troppo e il mio mestiere è un altro e continuerò a fare il mio mestiere come è giusto che sia. Grazie, grazie sentitamente all'onorevole Filippo Piccone, qui ci sono gli applausi, c'è il brindisi, grazie al rieletto sindaco di Celano, Settimio Santilli, è il momento della festa, grazie anche a Roberto Pulimanti per queste belle immagini che arrivano dal comitato. E ora Paolo arriva il bello per te, ti lasciamo il momento del brindisi quindi ti potrei divertire per qualche minuto. La linea può tornare allo studio, però poi Paolo torna ad Avezzano, torna ad Avezzano quindi ora un po' si rifocilla, magari anche fa un brindisi visto che si trova nel mezzo della festa e poi tornerà ad Avezzano, ma siamo pronti a tornare a Chieti da Alfredo Primante, a te Alfredo, anche sulla scorta di queste parole pronunciate dal senatore Piccone. A te Alfredo. Sì, grazie Andrea, rimaniamo un po' sullo scherzo, facciamo una prova di alleanza, di apparentamento qui con Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico e Bruno Di Orio, candidato a sindaco della sua coalizione civica, io l'ho detto chiaramente scherzando e cercando di sdrammatizzare, qui non si brinda, qui bisogna ancora attendere, però partirei adesso proprio da Bruno Di Orio perché Piccone ha ricordato il suo trascorso insieme a Fabrizio Di Stefano, ha detto di non conoscere bene le dinamiche che sono alla base della spaccatura nel centro-destra, però questo dato e i numeri lo dicono appesato e come. Lui non è locale, parlo di Piccone, per cui non si è pronunciato sulle dinamiche che hanno provocato questa spaccatura, io sono localissimo però le dinamiche personali non le conosco nemmeno io anche se sono di Chieti, io quando sono partito sono stato sollecitato dai amici con cittadini, non da personaggi politici, per cui quando è subentrato Mauro Febbo che per me è un concittadino di Chieti, poi che ha un titolo politico, un altro discorso, ma mi ha sempre abitato a 100-150 metri da casa mia quando ero ragazzo, per cui lo conosco da sempre, poi sono stato avvicinato da personaggi dell'altra parte della politica, il centro-sinistra, comunque il centro-sinistra, perché avevano sentito che mi stava balenando l'idea di fare qualcosa per la nostra città, avendo raggiunto un'età che mi permetteva di potermi staccare un po' da quelli che erano i doveri, ripeto sempre, professionali e genitoriali. Che cosa abbia determinato una scissura nel centro-destra non lo so, non mi interessa, io avevo fatto un discorso di politica cittadina, di senso civico, di appartenenza, perché questa è una città che dovevamo dare un segnale di discontinuità col passato, un passato che ci ha portati a essere generente da Abruzzo per quanto riguarda i capoluoghi di provincia in Abru, in regione e quando mi è stato proposto questo ho visto l'orizzonte e vedevo un personaggio come Di Stefano, non conosco, imposto dall'alto, senza un'ele primaria, come di solito si fanno negli ambici civici, imposto perché Salvini è venuto ripetutamente a dire che lui era il meglio, credo che i cittadini al di là di Maurofebbre e Spaccatura abbiano avuto un ricurgito d'orgoglio e dire passi una volta un signore non è di chiedi, la seconda volta imposto, poi consideriamo che il centro-destra che rappresenta Salvini o Di Stefano è un centro-destra di tutti i cambi casacche, non sono originariamente di quel partito, hanno fatti i cambi casacche in epoca settembre-ottobre quando c'era il Frecciarossa, non c'era il Covid, non c'era la mia figura, per cui chiunque fosse salito su quel treno avrebbe vinto facile, per cui anche se avevano scelto Di Stefano e i chiedi non piaceva, probabilmente avrebbe vinto lo stesso al primo turno se non ci fossi stato io. Con la mia scesa in campo, molti se ne sono scappati puoi vedere i miei voti disgiunti, come si dice, per far capire ancora di più la scelta del personaggio quando si è stata infelice, perché comunque è un risultato ampiamente al di sotto delle peggiori delle aspettative per quanto riguarda il centro-destra. Quindi che cosa abbia determinato la spaccatura tra Febbo e Di Stefano non lo so, non mi interessa, a me occorreva fare una bella figura e verificare quanto abbiamo seminato. Vista il risultato, 22-23%, quando tutti i sondaggi ci dicevano ultimi, 7%, ricordiamoci, avete tutte le trasmissioni registrate, perché poi è facile, abbiamo vinto, poi si vince tutti. Invece rianalizziamo i filmati prima e diciamo io faccio primo al primo turno, non ho paura, tutti sono l'avversario da battere, ha perso sonoramente. Quindi io sono soltanto felice di aver fatto questo testa a testa, stiamo facendo con l'amico Diego, che peraltro rappresenta un movimento ideologico, un voto d'opinione, stiamo parlando del PD, comunque la re centro-sinistra, è vero che a Chieti vince poco il centro-sinistra, ma comunque ideologicamente è un apparato corposo che è dal 30-35-40% a Chieti, quindi stare al 22% come lui, come loro, mi inorgoglisce, mi fa enormemente piacere. Allora Silvio Paolucci, Diorio vi ha chiamato in causa, comunque mi sembra di poter dire che è un buon risultato quello. Al di là adesso se Ferrara confermerà la seconda posizione o meno, ma date le premesse mi sembra un buon risultato. Allora, io commento il risultato dando quelle che a mio avviso possono essere le indicazioni, a prescindere dalla conclusione del testa a testa per il ballottaggio, perché non sono 100, 150, 200 voti a cambiare il profilo politico di questa tornata, di questa prima tornata a Chieti. E a mio avviso il risultato intanto uno, a prescindere da destra e sinistra, da centro-destra e centro-sinistra, secondo me Chieti ha dato un segnale di forte cambiamento e discontinuità che alcuni attori hanno, e adesso li elenco, rappresentato, verso l'amministrazione uscente, interpretata dalla candidatura di Di Stefano. Io credo che debba essere anche questo il messaggio del secondo turno, a prescindere da chi poi ci andrà. Chi ha animato questa discontinuità? Certamente il risultato più significativo è quello di Bruno Diorio dal punto di vista personale, che ha aggregato attorno a sé liste civiche e pezzi di centro-sinistra e centro-destra, perché si sono, tra virgolette, spogliati di quel ruolo politico nel frangente elettorale del primo turno. Sicuramente tra questi è importantissimo il ruolo, per quanto ci riguarda, il massimo che al primo turno potesse dare di Diego Ferrara. È stata indovinata da parte della coalizione centro-sinistra e anche degli amici di Chieti, dei vari partiti che lo hanno sostenuto, nell'individuare in Diego la possibile discontinuità, che una parte di città avrebbe potuto in qualche modo assegnare a Diego anche un pezzo di discontinuità. Poi c'è l'importantissimo risultato di Paolo De Cesare, che ha rappresentato freschezza con il suo gruppo anche di ragazzi, perlomeno è stata percepita così, anche una campagna elettorale indovinata e gli amici del Movimento 5 Stelle. Tutti insieme, tutti, io ritengo che nelle varie diversità hanno rappresentato la volontà di dare una svolta a questa città. Adesso la vedremo fino in fondo quando si completerà l'ultimo scrutinio e poi proveremo per quanto ci riguarda, laddove dovessimo essere noi, a legare attorno a questo messaggio il contributo e il segno elettorale del primo turno che a Chieti mi sembra sia stato questo. Chiudo dicendo, l'amministrazione uscente, che è di centro-destra, però il tema è qui e soprattutto l'amministrazione uscente, è andata oltre modo peggio rispetto alle aspettative, diciamo la verità, perché al di là, ripeto, di centro-sinistra e centro-destra è stato un giudizio negativo sull'amministrazione uscente, io di questo ne sono convinto e soprattutto ovviamente sulla squadra che ha voluto di nuovo interpretare dopo questi dieci anni alle spalle, di nuovo cinque come quei dieci. Questo è il messaggio più vero del primo turno. Adesso vedremo per quel centinaio di voti che ci separerà chi lo interpreterà, spero, tutti insieme il secondo turno su questo tipo di profilo. Paolucci, una battuta invece allargando un po' più il ragionamento sul momento politico che stiamo vivendo, perché dalle regionali alle amministrative, insomma, sembrerebbe che il trend che ha portato la Lega in alto prima di questa tornata stia leggermente scemando o perlomeno qui a Chieti ma anche a Vezzano ci si aspettava un traino forse maggiore di questi partiti. Io credo che il centro-destra in questo caso a livello regionale in Abruzzo e la Lega abbiano sbagliato letture in queste città e nei nostri territori. Per quanto riguarda il discorso più generale ritengo che tutti i profili politici un pochino populistici, troppo spinti dal punto di vista populistico, cioè quei messaggi troppo di pancia, sono effimeri, cioè durano poco tempo. Io credo che ci sia da questo punto di vista una sorta di effetto boomerang che oggi riguarda Salvini ma che in precedenza ha riguardato anche altri soggetti politici, persino il PD e i 5 Stelle. Dopodiché c'è stato un voto che ha sicuramente sorriso oggi al Partito Democratico a livello nazionale, complessivamente oggettivamente va detto di sì, perché i rischi erano ben maggiori dei risultati che ci sono stati e anche le vittorie in Toscana e Puglia sono molto più nette di quelle che potevano essere inizialmente anche i timori addirittura di sconfitta. E al tempo stesso, lo segnalo così in coda per le regionali, dico per la prima volta il voto regionale è stato davvero condizionato dal fenomeno Covid, perché solitamente il voto alle regionali è sempre stato un voto molto più politico, per tre quarti e un quarto, non è come quello dei comuni. Invece l'effetto Covid sui Presidenti uscenti, basta vedere tutte le liste dei governatori uscenti, di centrosinistro e di centrodestra, da Toti a Zaia, da Emiliano a De Luca, sono state riconosciute, secondo me molto anche per l'effetto di governance del Covid. In coda, l'Italia ha dato bella prova di sé, perché si è votato in modo ordinato, in una situazione comunque di timori circa la pandemia e in un Paese dove perlomeno finora l'ondata, la seconda ondata è stata per almeno per ora più contenuta e questo va dato atto e che resti così, è contenuta ad altri Paesi e va dato atto a tanti, dai professionisti fino a coloro che ai vari livelli istituzionali mantengono comunque con prudenza, ordine e governance di questa situazione e ovviamente ai cittadini. Se Bruno Diorio dovesse riuscire a scavalcare Ferrara e andare al ballottaggio, come imposterebbe questo secondo turno? Intanto, effettivamente ribadisco, il risultato centrale è stato quello del Tom Fond, di chi si proponeva facilmente vittorioso. Tra me e Diego si è un testa a testa che francamente chiunque dovesse vincere dovrebbe riconoscere all'avversario ipotetico comunque la medaglia a loro comunque perché veramente ce la stiamo battendo, quindi è come quando una partita di tennis finisce al tie break, fondamentalmente è stata una partita pari. Dove andrò? Se dovessi far secondo la discontinuità è stato un nostro cavallo di battaglia, è il nuovo per questa città. Dovrò vedere, dovrò vedere perché è un tema che dovrebbe toccare tutti, perché tutti l'abbiamo cavalcato questo discorso, vedere la giunta uscente, papale papale, con casacca diversa, con la guida un soggetto imposto dall'alto, da un personaggio che fino a qualche giorno fa non è che ci trattasse molto bene, dal po' in giù. Sinceramente sarà un motivo di grossa attenzione, un tavolo di trattative per tutti, quindi se dovessi far secondo io partirei da sganciarci col vecchio e programmare un discorso di ripresa per questa città sotto aspetto economico, culturale, sociale. È una città troppo degradata e non si può permettere di fare discorsi politici troppo esasperati, perché qui si tratta di ridare dignità a questa città, per cui dovremmo secondo me al secondo turno tutti fare un ulteriore passo indietro, come avevo detto io nell'allestimento della mia lista civica. Passi indietro perché abbiamo troppo un impegno è quello di gestire questa città e salvarla dal vecchio 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 che rappresenta la coalizione che al momento capeggia la partita. Paolucci, è possibile un'alleanza tra Diorio e Ferrara? Guardi, sono sincero, io anche durante il primo turno ho sempre sostenuto quelle che erano le riflessioni del gruppo Acchieti, dei partiti e in secondo luogo adesso diventa in primo luogo, sarà Diego Ferrara a decidere, perché io mi riconosco nella leadership che ha esercitato in questi giorni e settimane di campagna elettorale ed è anche colui al quale i cittadini di Chieti hanno accordato una importante preferenza e credo che debba avere la parola prima di tutti, ovviamente avendo sentito tutti, persino anche il mio parere se vuole, però sarà lui a decidere. Ritengo che i contenuti che ci siamo appena detti, cioè quelli di una discontinuità rispetto a quello che oggi è Acchieti, credo che debba essere sul tavolo di qualsiasi tipo di confronto il tema principale, ovviamente poi va declinato, perché dire così è ovviamente una sorta di titolo, dopodiché vanno riempiti dalla sanità fino ad arrivare ai servizi, dal trasporto fino ad arrivare... è incredibile per esempio, credo che non faccio fatica soltanto io per dire una cosa molto evidente salendo a Chieti, che non si riesce a trovare un solo parcheggio perché ci si è inventati di concludere i lavori o di iniziare i lavori, addirittura di arrivo di una tornata elettorale, sostanzialmente negando il parcheggio a qualsiasi tipo di cittadino voglia arrivare oggi a Chieti, a partire dai Chietini. Ok, allora Andrea non so se avete voi domande da studio, tu e Jacopo? Allora per quanto mi riguarda, non so se Jacopo ha degli aggiornamenti o ha delle sollecitazioni ma direi che insomma sono stati trattati davvero tanti argomenti e ritengo che insomma i tuoi interlocutori sono stati esaustivi. Jacopo? I tuoi interlocutori sono stati esaustivi. Ok, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Alfredo, se vuoi andare in conclusione tu? Andrea. Era solo per farti vedere l'ultimissimo aggiornamento che peraltro abbiamo fatto vedere poco fa con 7.995 voti, Fabrizio Di Stefano al 36,7%, Ferrara a 4.929, 22,6% di Iorio a 4.515, 20,7% e poi De Cesare 2880, 13,2% amicone 1473, 6,8%. Ecco, due considerazioni sia per Silvio Paolucci che per Bruno Di Iorio innanzitutto. A Silvio Paolucci volevo chiedere innanzitutto buonasera, anche a Chieti si conferma, visto che poi al governo il Movimento 5 Stelle è alleato del Partito Democratico, anche a Chieti si conferma insomma una sonora sconfitta per il Movimento 5 Stelle che evidentemente aveva già delle difficoltà sul piano amministrativo più che politico nelle elezioni amministrative e poi volevo chiedere ad entrambi se hanno già detto del fatto che il centrodestra non abbia sfondato, però qui mi pare che Fabrizio Di Stefano sia addirittura al di sotto di quelli che erano gli exit poll che erano stati dati per esempio ieri pomeriggio dalla Rai che dava una forchetta tra il 40 e il 44%, come se poi effettivamente si sia andati anche al di sotto e non sia passato il messaggio questo a che cosa lo imputano? A una divisione del centrodestra questa domanda magari più per Bruno Di Iorio oppure probabilmente non ha convinto la candidatura perché comunque stiamo aspettando anche i voti di lista che saranno decisivi per capire poi se il candidato sindaco in questi casi prende più o meno delle liste perché poi quella è la curiosità una volta a bocce ferme. Lascio a Bruno commentare su Di Stefano come è giusto che sia perché sicuramente ha vissuto la campagna elettorale in queste settimane in modo molto diretto e può raccontarla meglio agli amici dei 5 Stelle, io dico questo, mi sembra che dopo una parentesi gli italiani abbiano scelto di indicare o tornare a votare, certo il sistema elettorale aiuta perché non è proporzionale alla regionale e alle comunali, però ha una scelta tra virgolette bipolare, dopodiché tutti sanno che il Movimento 5 Stelle ha un consistente voto di opinione o comunque più forte rispetto a un radicamento territoriale. Io a loro posso soltanto chiedere, suggerire, in qualche modo invogliare come alleati a costruire alleanze alternative che prefigurano il bipolarismo come noi lo conoscevamo, interpretano un pezzo del cambiamento come nel referendum si è visto essendo stati motori anche di un risultato al di là delle valutazioni ulteriori che ci sono e che articolano quel risultato anche delle necessità della riforma, però credo che dalle regionali alle comunali sia venuto il tempo nel quale continuare a definirsi terzo polo sia tutto sommato inconsistente. Anche perché i dati non danno loro ragione. Tra l'altro chiudo, secondo me il Movimento 5 Stelle che alle politiche ultime aveva il 32, adesso più o meno avrà un voto politico dal 15 al 20, non saprei adesso indicarlo, credo che la parte più orientata a destra l'abbiano già sostanzialmente persa in favore di Meloni e Salvini, quindi credo che sia una collocazione a tutto sommato adesso anche più omogenea e possibile in ragione dell'elettorato che è rimasto fedele al Movimento 5 Stelle, saranno ragionamenti loro, noi costruiremo per quanto possibile con lealtà le eventuali alleanze future. Di Iori invece su Di Stefano. Sì, su Di Stefano non parlerei proprio strettamente politico, centro-destra frantumato, fratturato, perché qui sono dinamiche locali che vanno al di là proprio degli schieramenti politici. Noi il centro-destra rappresentato da Di Stefano non è altro che il Consiglio Comune all'uscente, la Giunta Comune all'uscente, che è andata in crisi totale nel momento in cui il gruppo di Forza Italian, con i quattro dissidenti famosi che conosciamo e sono venuti da noi, hanno iniziato a contestare le dinamiche amministrative di quel Consiglio. Per cui io non parlerei di centro-destra, non so se il centro-destra ce l'avevo io nella mia lista civica o ce l'avesse Di Stefano. Di Stefano aveva soltanto gli amministrati riuscenti che avevano un'altra casacca nel 7-10 mesi fa, adesso che si sono schierati con la Lega, ripeto, è stato un motivo di opportunità politica come succede spesso in vari ambiti. Peraltro Di Stefano aveva incorporato l'Udc che mi dicono, e comunque ho seguito come cittadino, era sempre stata l'opposizione nei tavoli del governo cittadino, per cui si sono ritrovati insieme una costa del centro-destra, perché il centro-destra reale, quello radicato sotto l'aspetto ideologico, credo di averlo più io che non Di Stefano. Di Stefano ha un centro-destra che era comunque un centro-sinistra, perché ricordiamo che il giustizia sociale stava nel centro-sinistra, qualche tempo fa adesso sta nel centro-destra, per cui lì questa grossa confusione l'abbiano pagata a caro prezzo e i risultati sono veramente sotto gli occhi di tutti. E poi Di Stefano, secondo me, quando Salvini dice questo è il meglio che io posso offrire per questa città, credo che abbia fatto anche un'offesa anche ai cittadini di Chieti, che magari in quella coalizione avranno avuto dei personaggi di riferimento da proporre. Quindi anche il malumore grosso io credo che in questi momenti siano arrederazione nel loro interno. Quindi per me non parlerei di discorso politico, di fratture del centro-destra, è un discorso di dinamiche strettamente locali e la stanno pagando a caro prezzo in questi momenti. Certamente nessuno poteva immaginare, credo alla vigilia, una coalizione di centro-destra, di quella portata sotto il 40% a Chieti. Sì, sì, ma poi considerate che è venuto Salvini tre volte e realmente in novembre-dicembre 2019 questa è una carazzata, se non era assentato il 60%, perché comunque anche la sinistra c'è Silvio che lo può confermare, hanno avuto dei diverbi nel loro interno, dei dissidi che poi hanno portato a spaccarsi in quest'ultimo periodo, ma comunque la sinistra sotto l'aspetto ideologico è recuperabile poi. Invece lì c'è stato soltanto troppo apparente il discorso dell'attaccamento alla poltrona, è gente che oramai, se guardate anche l'età grafica di quei soggetti, non sono ragazzi che si stanno proponendo per la prima volta, è gente radicata sul territorio che ha fatto la clientela, l'orticello di Tuno da anni e anni, c'è gente che fa politica e ricopre ruoli amministrativi da 20-30 anni, sono diventati questi dipendenti statali, non sono più degli amministratori del bene politico comune, per cui è più che una sconfitta politica, una sconfitta proprio ideologica sul piano del comportamento umano, questo cambio di casacca non è piaciuto, il 36% dei minimi storici, non esiste che mi ricordi una caduta del genere, con un personaggio che aveva l'egida di personaggi politici potenti, perché Salvini non è l'ultimo arrivato sotto l'aspetto del popolo, della riscossione del pubblico. Ultima brevissima domanda prima di ridare la linea allo studio, con De Cesare si vede più un'affinità programmatica politica rispetto alla coalizione di centrosinistra? Con De Cesare purtroppo ci sono stati tanti screzzi pre-elettorali, anche oggi post-elettorali, perché De Cesare rappresenta come me veramente un movimento civico di cittadini di Chieti, però poi i risultati elettorali hanno dimostrato che forse la mia figura è stata superiore, è stata particolarmente apprezzata, lui è partito due anni fa, peraltro ha fatto anche qualche caduta di stile proponendosi, andando a dialogare con altre parti politiche, io invece sono partito dritto per il bene della mia città e non ho fatto nessun accordo politico, ho detto chi vuole, se mi avete chiamato dovete seguire le mie direttive, invece non mi sono proposto, con lui se avesse avuto un po' più forza di esperienza o meno ambizione, un po' più piedi per terra probabilmente avremmo fatto una coalizione unica, avremmo avuto un grosso risultato, i dati hanno dimostrato che forse avevo ragione io quando trattavamo, trattavamo una volta ci siamo sentiti e probabilmente i risultati hanno dimostrato che io parlavo vero e lui forse un po' più dimillantato credito, ma sai quando parti sei giovane, esuberante e non ti rendi conto della tua dimensione, poi quando ti autodetermini invece a me mi hanno determinato è totalmente diverso per il scontro. Jacopo Forcella da studio aveva una domanda per Silvio Paolucci, Jacopo? Davvero brevissima, anche per fare un sorriso a Silvio Paolucci volevo chiedere, siccome l'alveo del centro-sinistra è sempre stato additato come quello schieramento tendente un po' più alla divisione, più che all'unione, come guarda dal di fuori invece le turbolenze che ci sono adesso al di là del centro-destra ufficiale e ufficioso nel centro-destra di Chieti per esempio, così come quello di Avezzano? Io dico due cose, la prima per quanto riguarda Chieti di Stefano parte il secondo turno in svantaggio, perché è andato troppo giù rispetto alle aspettative, per cui che sia Ferraro che sia Diorio io credo che sia quantomeno 1-0-0 il secondo turno, ed è evidente che questo comunque alcune ripercussioni sia Avezzano che Chieti come chiedeva l'interlocutore ne avrà, ne avrà soprattutto sulla divisione che c'è stata in ragione, non credo tanto o soltanto di personalismi, ma di lettura. Da un lato un centro-destra che si è ritenuto si ritiene dall'Aquila dove si divide e non riesce a costituire un aggiunto ormai da settimane e mesi fino ad Avezzano e a Chieti, di individuare un po' con supponenza e arroganza candidature, schemi, giocate o letture, persino campagne elettorali datate, datate vuol dire in continuità che non leggono appunto poi quella che è la comunità. A volte succede, non è successo soltanto a loro, quando accade l'elettore ti punisce, secondo me oggi a Chieti a prescindere da destra e sinistra o da centro e altro la gente chiede un cambiamento rispetto ai 10 anni che ci sono alle spalle. Su quello si giocherà la partita di Chieti, i risvolti sulla regione non dipendono tanto ovviamente dal voto dei Chietini che giustamente è per i temi che riguardano la loro città, ma avrà certamente come dici tu un risvolto, di questo ne sono convinto e ne vedremo tra poco delle belle. Va bene, allora se non ci sono altre domande io congederei e ringrazierei Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo e Bruno Diorio al quale faccio chiaramente l'in bocca al lupo per il proseguo dello scrutinio soprattutto per le prossime ore e allora linea che può tornare allo studio a Silvi. Grazie, grazie Alfredo. Allora tra poco contiamo di ricollegarci anche con Avezzano per rifare il punto della situazione sul principale centro della Massica. Sì, arrivo da te Jacopo, vai. No, 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 continua, continua perché era una notizia tra parentesi che nulla c'entra con le elezioni amministrative è solo per dire che per gli appassionati di calcio che ci seguono spesso. Diciamo che l'asso calciatore ha indetto lo sciopero per la Lega Pro, quindi il campionato di Serie C domenica non dovrebbe partire. Ok, pensavo volessi dare il 3-0 del giudice sportivo in Serie A. Sì, anche quello, è arrivato il giudice sportivo 3-0 per una Roma per il caso di Avara. Va bene, ma tanto stavo comunque tornando da te perché stavo finendo di dire che tra poco riaccenderemo le nostre telecamere su Avezzano, il principale centro della Massica. Abbiamo giustamente fatto una digressione in quel di Celano dove Settimio Santilli si è strariconfermato primo cittadino. Ora torniamo ad Avezzano perché dobbiamo finire di raccontarvi quello che sta avvenendo proprio in quel comune dove si andrà evidentemente al ballottaggio, ma sì. Ok, Gianni Di Pangrazio e poi sarà Tiziano Genovesi o Mario Babbo a sfidare Di Pangrazio? Ecco, questa è la domanda principale a cui aspettiamo di rispondere. E poi saremo a breve di nuovo a Chietti perché ascolteremo anche un altro candidato sindaco dopo Bruno Di Orio sarà alla volta di Luca Amicone, candidato del Movimento 5 Stelle, visto che abbiamo tanto parlato anche in precedenza con Silvio Paolucci del Movimento 5 Stelle, dei risultati raccolti alle amministrative, insomma avremo il punto di vista dello stesso Amicone. Jacopo non so se ci sono altri aggiornamenti e se vuoi dare anche a latere qualche altra notizia magari di calcio, anche se ci hai già preannunciato qualcosa. No, di calcio non per il momento. Ti do l'ultimo aggiornamento di Chietti e sono, ti dico, dovrebbero essere quasi 22 mila i voti scrutinati. Andiamo a vedere i risultati. 37% per Fabrizio Di Stefano, 8.176 preferenze. Secondo Diego Ferrara, 22.4, 4.955. Bruno Di Orio al terzo posto, 20,6%, 4.559. Sostanzialmente, Andrea, la cosa che proprio a livello aritmetico colpisce è che nell'ultima ora, ore e trenta, probabilmente, i 400 voti di differenza tra Ferrara e Di Orio sono rimasti praticamente sempre stabili. Di Orio ne ha rosicchiati due. Due. Mi pare. Eh sì, adesso tu sei più bravo di me nel conteggio e nel ricordo. Però ecco, i 400 voti, quelli che dividono il secondo dal terzo. 4.955 Ferrara, 4.559. 396 voti. Quindi ne ha rosicchiati, no, ne ha persi sette di Orio perché erano 403 e ora appunto sono 396. Quindi, insomma, non c'è stata sostanziale modifica nella forchetta tra i due con Ferrara che mantiene questo vantaggio. Ma ormai, insomma, comincia anche a salire il numero di voti e questo divario sembra sempre più consolidato, no? Perché poi con il crescere delle sezioni scrutinate il dato va da sé che si solidifica. Hai altro, Jacopo? No, è solo la seconda schermata con il 13,2% di Paolo De Cesare, 2.905 e il 6,7% di Amicone, 1.487 voti. Ok, ok. Penso che possiamo tornare da Alfredo Primante. Ci sono nuovi interlocutori? Sì, Andrea, sì. Possiamo riprendere la linea qui da Palazzo De Maio a Chieti. Stiamo aspettando anche Luca Micone, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo ci ha raggiunto, e lo ringrazio, Giustino Angeloni che è un po' animato, possiamo dire, la coalizione civica e il polo civico di Paolo De Cesare. Dico una cosa errata se la definisco così. Per me è un grosso complimento perché a 71 anni di età essere ancora animatore, poi di liste civiche composte in grandissima maggioranza da giovani e giovanissimi è stato anche un bel divertimento, devo dire francamente. E allora mi sembra che complessivamente siate soddisfatti del risultato che avete ottenuto. Siamo molto soddisfatti del 13,8% che abbiamo che lo scrutinio finora ci attribuisce, proprio perché Paolo De Cesare ha 28 anni, si candida per la prima volta e perché sono quattro liste civiche veramente tali, cioè senza infincimenti, senza nascondere sotto nomi di comodo liste che in verità sono politiche invece che civiche, nessuno si è candidato con noi per far dispetto a qualcun altro. È proprio un raggruppamento civico puro che ha tentato di esperire in qualcosa di effettivamente innovativo per le città e siamo contenti soprattutto per questo, perché a nostro parere è iniziato un fenomeno che da altre parti d'Italia è già partito in questi ultimi tempi, che ha un futuro. Mentre i partiti politici hanno il loro andamento sinusoidale, alti e bassi a secondo di quello che accade a livello nazionale, il concetto di civicità, cioè di calarsi nella realtà effettuale del posto dove si vive, conoscerne a fondo ovviamente prima di tutto la storia e poi dopo conoscerne i limiti e le possibilità danno un ottimo modo di progettare per il futuro. Infatti posso anticipare che alla fine di queste elezioni, la cui fine è lontana perché ormai mi pare che il ballottaggio sia certo, noi trasformeremo una delle nostre liste, la più importante, chiama Chieti, in un'associazione culturale che continuerà la propria vita raggruppando intorno a sé le migliori forze civiche della città, anche quelle che magari adesso si sono schierati in altri campi rispetto al nostro, per poter essere sempre e comunque di supporto alle amministrazioni e di alternativa nel caso in cui queste non si mostrassero all'altezza. È stata una campagna elettorale anche dai toni aspri in certi momenti, però voi siete riusciti comunque a indirizzare, probabilmente a imbroccare anche a livello comunicativo un filone che vi ha portato poi dei guadagni, considerando che parte vatti praticamente da zero. Esatto, per un anime riconoscimento degli altri competitor, la campagna elettorale fatta da Paolo De Cesare è stata la migliore ed anche oggettivamente analizzando quali sono le forze che sono state mobilitate, quali sono in qualche maniera gli endorsement ricevuti da persone provenienti da tutto il resto d'Italia, anche da campi, ripeto, politici lontani da quello nostro, ma provenienti anche per esempio dal mondo dello sport, a cui Paolo è molto vicino, dal mondo della cultura, da chi lavora nella comunità europea, da Sgarbi che è venuto a Chieti a spiegarci alcune cose e mi sarebbe piaciuto che quel giorno all'Alexio magistralis che ci ha fatto Sgarbi avessero assistito un po' tutti i candidati sindaco, proprio perché è stato un Alexio, cioè ci ha indicato quale deve essere la strada per una città come Chieti per mettere a fattor comune e far diventare una cosa economicamente rilevante il turismo e la cultura stessa. Questo perché Paolo non si è assolutamente risparmiato, si è speso in tutti i modi, ci ha messo non soltanto la faccia e tutte le sue capacità ed è riuscito, come diceva lei, a mobilitare in maniera univoca le coscienze e le energie di queste persone che lo hanno circondato e che continueranno a lavorare per lui. Intanto ci ha raggiunto come vi avevo annunciato Luca Micone, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, il pugno ormai è il nuovo saluto Covid, quindi dobbiamo attenerci anche noi alle regole. Prima di sentire a Micone volevo concludere un attimo il ragionamento con Angeloni, perché adesso, come lei ha detto, si apre il momento del ballottaggio e in qualche maniera la vostra percentuale, che è una percentuale di tutto rispetto, potrebbe essere l'ago della bilancia, da che parte potrebbe pendere? Allora, noi prendiamo atto che già fin dall'esordio il destino e la nostra volontà ci hanno assegnato un ruolo forse addirittura più importante di quello che pensavamo all'inizio e anche in questo abbiamo deciso di essere innovativi. È stata già convocata ad ORAS una riunione di tutti i candidati e di tutte le persone anche non candidate del nostro ambiente per fare il punto della situazione e per prendere insieme una decisione. Quindi non sarà un vertice fatto da 3, 4, 5 persone a prendere, ripeto, una decisione molto importante non tanto per noi ma per la città. Saranno tutti quanti, io immagino, i nostri candidati, i nostri supporter, quelli della società civile e sono tanti, che ci sono stati vicini fino a questo momento. Insieme decideremo che cosa fare, quello che è certo è che qualunque decisione prenderemo prima di tutto lo faremo gratuitamente nel senso etimologico della parola, cioè soltanto per il grazie che eventualmente qualcuno ci deve, perché in effetti ci rendiamo conto che la situazione di Chieti per quello che è non permette giochetti da prima repubblica, definiamoli così. Tutti si devono prendere la propria responsabilità e come si diceva una volta, adesso è il momento di portare per ognuno la propria pietra al cantiere, tenendo presente un concetto che ho ripetuto a Paolo dieci minuti fa, dobbiamo pensare che per come è messa Chieti qui o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Quindi bisogna enfatizzare più le eguaglianze e le sinergie che non le differenze che pur ci sono. Adesso ascoltiamo, grazie a Giustino Angeloni che mi invito a restare con noi ancora un po', se può. Adesso sentiamo chiaramente Luca Amicone che ringrazio per averci raggiunto qui in studio, soddisfatto deluso di questo risultato. Onestamente ci aspettavamo qualcosina in più, non nascondo una piccola delusione, bisogna fare un ragionamento serio, capire quali errori sono stati fatti negli ultimi anni, cercare di riparare appunto a questi errori e ripartire con più slancio. Che cos'è che frena il Movimento 5 Stelle? Soprattutto nelle elezioni amministrative, anzi più si va sul locale e più il Movimento fa fatica, perché? Sì effettivamente questo è un dato storico, il Movimento 5 Stelle più si avvicina alle elezioni locali più fa difficoltà, probabilmente c'è bisogno di una riorganizzazione e questo avverrà sicuramente con gli stati generali alle porte, saranno un momento di confronto nazionale per capire quale direzione prendere anche a livello territoriale con una nuova organizzazione. Abbiamo avuto ospite qui nei nostri studi anche Diego Ferrara che ha ribadito le sue porte aperte al Movimento 5 Stelle così come era accaduto anche prima del primo turno, poi i tempi tecnici non ci sono stati, quindi volevo capire da lei se è una corresponsione di amorosi sensi si potrebbe dire. C'è stato un dialogo, un'interlocuzione, era comunque la luce del sole, è stata fatta appunto tra me e Ferrara, abbiamo parlato soprattutto di programmi, di punti condivisi del programma e non nascondo che molti punti erano in comune, quindi adesso aspettiamo soprattutto i risultati definitivi. Io concentrerei l'attenzione sul risultato delle singole liste, per quello determinerà veramente lo scenario che aprirà le porte appunto a un secondo turno che comunque oramai è certo, quindi al ballottaggio si arriverà e quindi si aprirà, come ho già detto in precedenti interviste, un nuovo campionato, quindi vediamo come sta succedendo, penso sarà un paio d'ore massimo, arriveremo a risultati concreti e definitivi. Prima di dare la linea allo studio di Andrea Costantini, che avevo una domanda per Angeloni, un'ultima considerazione con Luca Micone, durante la trasmissione che abbiamo registrato proprio qui a Palazzo De Maio, nell'appello finale lei ha utilizzato il suo minuto per il referendum, ecco si è arrivata una soddisfazione forse è arrivata da lì. Sì, il referendum è stato, c'è stata una vittoria netta a livello nazionale e comunque è una soddisfazione del Movimento 5 Stelle perché è una battaglia nostra che abbiamo portato avanti anche dentro il Parlamento da più di due anni, quindi comunque vedere che il cittadino ha recepito quel messaggio e quella battaglia ce la intestiamo tutta questa vittoria, onestamente sì. Allora Andrea, la tua domanda per Angeloni. Sì, all'uomo che nel 2006 ha fatto ripartire il calcio a Chieti, chiedo, nell'ambito di questo marasma che magari avvolge la città, ma insomma è possibile che dopo circa 15 mesi questo Chieti non riesce a giocare una benedetta partita sul campo dell'Angelini, quindi chiedo a lei come si può risolvere questa situazione da uomo anche di calcio, così legato anche al Chieti e poi le chiedo anche, in poche parole, come potrebbe riassumere il concetto di teatinità? Andrea se l'aspettava questa domanda sul Chieti, se l'aspettava! Allora, rispondo prima alla seconda parte perché poi collegherò quella sul Chieti. Così come esiste la skyline della città, per cui uno vede la skyline di Chieti, San Giustino le chiese, ed individua, ed in maniera precisa che stiamo parlando di Chieti, alla stessa maniera all'interno del nostro animo, di ogni teatino, esiste che cosa? Un sentimento, perché teatinità è un nome tronco, come bontà, virtù, quindi è un sentimento, un dato psicologico, individuale, che identifica il modo di rapportarsi con Chieti di ognuno di noi. Se però la teatinità rimane questo, facciamo la fine delle monadi di Leibniz, cioè ognuno rimane chiuso in se stesso, ognuno ha la sua teatinità, ma non vengono messi a fattor comune. La teatinità invece deve essere proprio quel motore, quel motore che fa diventare l'energia potenziale che tutti dicono la città abbia in energia cinetica. Ma quella bottiglietta che se è posta all'assucia ha un'energia potenziale, ma per trasformarla in cinetica deve cadere ed essere attratta dalla terra. Ecco, la teatinità è questo, vuole essere maieutico, vuole essere propositivo, vuole essere il momento nel quale poi dopo vengono messe a fattor comune le potenzialità. E il nostro stadio Angelini invece è proprio la dimostrazione di questo, che quando non esiste sinergia tra i tifosi, la società, l'amministrazione comunale, il comune senso dello sport. Allora ecco la fine che fanno, impianchi. Io mi ricordo quando mi presentai all'Aquila a iscrivere in Chieti in terza categoria, poi fumo ammesso in promozione, e dovetti riempire la scheda. La gentile signorina mi disse, allora SD Chieti, colori sociali nero-verdi, presidente il sottoscritto, campo di gioco stadio Angelini, spettatori 12.000. No, ma non è possibile, nei dilettanti 12.000 non è ammesso, e signore che posso fare? Tanto fa lo stadio Angelini. E così era, e così è sempre stato. Voglio dire, io ero alla partita di inaugurazione di quello stadio, quando il Chieti perse 6-1 contro il Milan, arbitro concetto lo bello. E da allora la storia del Chieti calcio è stata quello stadio lì. Adesso l'unica cosa che si può fare è sperare che la nuova amministrazione, anche su sollecitazione di tutti, perché non è possibile che una squadra, la quale ha perso la prima giornata, ma è stata costruita per vincere il campionato, vada a giocare le proprie partite casalinghe, ramengo per i vari campi della nostra provincia. Grazie all'Ortuna che ci ospita, però è l'Angelini il nostro stadio e lì la dobbiamo tornare nel più breve tempo possibile. Allora, grazie a Luca Micone del Movimento 5 Stelle, grazie a Giustino Angeloni per essere stato con noi. Linea che può tornare a voi, a Silvi. A te Andrea. Grazie, grazie Alfredo. Allora, non siamo ancora in grado di ricollegarci con Avezzano, lo faremo a breve. Ciao Andrea. Sì, Jacopo, arrivo da te. Vai. Vi do i dati aggiornati di Avezzano, se vuoi. Vai. Eccoli qua. Gianni Di Pangrazio, 7544 voti, 32,4%. Tiziano Genovesi, 5132, 22,1%. Attenzione perché Mario Babbo è a 5047, tu sei molto, molto... Meno di 100 voti. Sì. Siamo a meno di 100 voti. Parliamo veramente di 90 voti, sì, poco meno. E poi andiamo nella seconda pagina, Taccone, 3799, 16,3, del Boccio, 1445, 6,2, Stornelli, 285, 1,2. Ma se torniamo alla pagina iniziale, io credo che poi tra poco torneremo a collegarci... Guarda Jacopo, abbiamo probabilmente un altro aggiornamento, probabilmente non riusciamo immediatamente a inserire questi dati, ma il divario tra Babbo e Genovesi continua a scendere, perché secondo quest'ultimo aggiornamento, lo do immediatamente, poi magari aggiorniamo la schermata, Genovesi ha 5201 preferenze, Babbo 5163, quindi ci sono, in base a questi aggiornamenti, solo 38 voti in valore assoluto di differenza tra Genovesi e Babbo e il trend dell'ultima ora è di un divario che viene rosicchiato. Mentre con il passare dello scrutinio a Chieti sembra sempre più consolidarsi quel divario che c'è tra Ferrara e Diorio, con Ferrara che ha più di due punti percentuali di vantaggio, ad Avezzano Babbo continua a rosicchiare. Ormai siamo a livello di decimali, ma soprattutto in valore assoluto ci sono 38 voti di differenza, quindi davvero è una situazione sul filo. Io mi rifaccio anche alle parole pronunciate in precedenza da Senatore Piccone che dice che se Genovesi riesce ad arrivare al ballottaggio poi sono molto fiducioso su un rovesciamento del risultato nei confronti di Di Pangrazio al secondo turno. Però il trend dell'ultima ora vede un margine che si va sempre più assottigliando con Babbo che è in rimonta nei confronti di Genovesi, quindi davvero qui ad Avezzano si fa incandescente la lotta per sfidare al ballottaggio Gianni Di Pangrazio che può sostanzialmente sedersi in poltrona e dunque vedere chi andrà a sfidare tra due settimane. A te Jacopo. Eccoli, li vediamo. Li vediamo i dati che hai appena dato tu. Eh sì, quindi sono questi ora 33 voti che ballano tra Genovesi e Babbo, 5.201, 5.168, 33 voti di differenza, un 0,1% di differenza in termini di percentuale verrà appunto tra Genovesi e Babbo. Beh Jacopo direi che questa ora diventa la sfida delle prossime ore perché ad Avezzano siamo col fiato sospeso per sapere chi sfiderà Di Pangrazio. No Andrea stavo sorridendo perché noi pensavamo probabilmente di andare molto in là per il secondo terzo posto a Chieti dove invece adesso il margine sembra abbastanza consolidato. Rischiamo di andare veramente nel testa a testa vero ad Avezzano per il secondo e terzo posto perché insomma Di Pangrazio a questo punto mi sembra avviatissimo verso il secondo turno. E qui adesso è veramente un testa a testa tra Genovesi e Babbo. È evidente che un recupero e sorpasso di Babbo creerebbe all'interno del centrodestra marsicano Avezzanese che può consolarsi magari con Celano e con la vittoria schiacciante di Santilli. Però nel centro più importante della Marsica potrebbe davvero aprire degli scenari imponderabili all'interno del centrodestra marsicano. Ecco li rivediamo. Noi ovviamente monitoriamo minuto per minuto quelle che saranno le evoluzioni. Però ripeto noi pensavamo di arrivare sul filo dei voti a Chieti di Iorio e Ferrara ci sono stati per un po' poi Ferrara ha preso un buon margine e lo sta mantenendo. Qui invece più avanti si va e più il margine di Genovesi su Babbo continua a restringersi. Siamo veramente quasi pari. D'altronde 21,8 e 21,7 ma lo vedete anche da voi nel numero complessivo delle preferenze che siamo davvero testa a testa. Ripeto questa ora diventa la sfida, cioè l'elemento principale ormai da capire a livello di macro politica. Permettetemi questo termine forse improprio perché poi è chiaro che quando ci saranno tutti i risultati si andranno ad analizzare le tante dinamiche che ci sono all'interno delle liste per capire l'andamento del voto. Però ora premesso che si andrà al ballottaggio sia a Chieti sia ad Avezzano ma se a Chieti si va delineando questa sfida tra Di Stefano e Ferrara ad Avezzano non ancora abbiamo con discreta certezza l'interlocutore di Gianni Di Pangrazio al secondo turno. E quindi insomma noi attendiamo di capire, ecco questi sono i dati sul sito del Viminale ma siamo talmente indietro che qui in questi risultati addirittura c'è Anna Maria Taccone al terzo posto e non Mario Babbo che addirittura al quarto posto. In testa Giovanni Di Pangrazio, nei dati più evoluti che abbiamo, siamo decisamente più avanti e li abbiamo mostrati con la nostra schermata, invece c'è questo duello sul filo del rasoio tra Tiziano Genovesi e Mario Babbo. Allora, probabilmente tra poco torneremo a Chieti perché sta per arrivare un altro ospite di riguardo, siamo sempre in attesa di notizie da Avezzano circa un eventuale collegamento proprio dal principale centro della Marsica. Ecco di nuovo la situazione a Chieti, come abbiamo detto è una situazione più consolidata, ci sono circa due punti percentuali di differenza tra Ferrara e Diorio che si traducono con circa 500 voti di distanza tra le parti. Quindi, insomma, è un vantaggio non rassicurante ma sicuramente più concreto quello di Ferrara su Diorio. Andando nella seconda parte della schermata, con Paolo De Cesare e Luca Amicone, De Cesare che in questa schermata sfiora le 3.000 preferenze, 13,1%, mentre Amicone è appena sopra le 1.500 preferenze, 6,6%. Probabilmente abbiamo altri aggiornamenti da Avezzano e con questo aggiornamento c'è un piccolo riallungo di Tiziano Genovesi su Mario Babbo, un riallungo che porta Genovesi a più 89 preferenze su Babbo. Non solo è più 89, ma sono stati inseriti nei voti che hai visto adesso 24.609 voti su 25.616, quindi mancano 100 voti. Allora io penso che con una discreta ragionevolezza possiamo dire che seppur sul filo di lana, seppur soffrendo più di quanto si sarebbe aspettato, credo che Genovesi debba avercela. Allora, debbono essere scrutinati altri 1.000 voti, se non sbaglio, perché i votanti sono stati 25.616 e i voti inseriti sono 24.609, dunque manca poco più lo scrutinio di poco più di 1.000 voti e c'è un divario di 89 preferenze tra Genovesi e Babbo, in base a questi risultati. Correggimi se sbaglio, quindi insomma c'è un riallungo di Genovesi, però magari la partita è ancora aperta perché, ripeto, si parla di 1.000 voti. Non è facile rimontare a questo punto, però direi che la partita può essere ancora aperta, non so come la vedi tu. Guarda, in questi casi dipende molto da quali sezioni mancano, da quali debbono ancora essere scrutinate, da quali soprattutto debbono ancora arrivare i voti mancanti. Perché, lo sappiamo spesso e volentieri, alcuni candidati sono più forti o più deboli in alcune zone della città, ma è evidente che sia così. Vediamo, è chiaro che un piccolo allungo di Genovesi potrebbe far pensare ad una tendenza che va nella sua direzione. Bisogna vedere a questo punto, noi abbiamo, tra poco avremo Paolo Renzetti che si trova nella sede di Gianni Di Pangrazio, che è senza dubbio, a questo punto matematicamente possiamo dirlo, all'interno del ballottaggio. Tra poco andremo da lui, però vediamo bene, monitoriamo bene, anche perché se non erro Paolo Renzetti si trova vicino al contatore dei voti, ad un monitor che aggiorna praticamente in maniera quasi costante, quasi al secondo i voti. Quindi siamo curiosi di vedere come procede, perché potremmo vivere il rush finale in maniera live. Per il momento però ti restituisco la linea. Eh sì, eh sì, grazie, grazie Jacopo. Intanto diamo un'altra notizia, perché si è votato anche al comune di Filetto, in provincia di Chieti, che aveva una situazione particolare. Qui siamo sul sito Chieti Today. Filetto ribalta il risultato, sconfitta la sindaca Ruscitelli, eletta un anno fa. Cosa era successo? Lo scorso anno a Filetto la Ruscitelli si era imposta su Dinanno con un solo voto di differenza. La lista Dinanno ha fatto ricorso perché c'è stato l'annullamento di un voto e poi quel voto annullato ha decretato la vittoria della Ruscitelli. È stato contestato l'annullamento di questo voto. Il Tarra ha dato ragione alla lista Dinanno e ripristinando quel voto che era stato annullato si è arrivati alla parità. Quindi da qualche mese, a causa di questa parità, al comune di Filetto è arrivato il commissario, si è andati di nuovo al voto, di nuovo un confronto tra la Ruscitelli e Dinanno e la vittoria è andata questa volta a Rocco Dinanno con un divario ben più cospicuo. 356 voti a favore di Rocco Dinanno che era stato sconfitto come leggiamo su Chieti Today a maggio 2019 mentre la sindaca per pochi mesi, Maddalena Ruscitelli, è stata sconfitta raccivolando 271 preferenze. Dunque a Filetto in provincia di Chieti il nuovo sindaco è Rocco Dinanno che era meglio su Maddalena Ruscitelli. Questo dunque per aggiornarvi su quanto accaduto in questo comune dove c'è stata una dinamica davvero molto molto particolare. Direi che siamo sempre in attesa di collegarci e con Amezzano, con Paolo Renzetti, ma anche siamo in attesa di tornare da Alfredo Primante a Chieti. Tra poco possiamo tornare da Jacopo Forcella che forse ha un aggiornamento importante che probabilmente riguarda il comune di Amezzano. Noi nel frattempo teniamo d'occhio quelli che possono essere altri risultati, ma insomma più o meno li abbiamo dati tutti, non ci sono particolari novità. Io non ho il ritorno in studio, quindi vado un po' alla cieca francamente. Paolo ci ascolti? Ok, probabilmente non ci ascolta Paolo Renzetti. Noi siamo sempre in attesa di eventuali collegamenti, ripetiamo, o con Paolo o con Chieti, con Alfredo Primante, ma soprattutto siamo in attesa di capire come vanno le cose al comune di Amezzano. Dove lo ripetiamo, eccolo qui, lo vedo ora, Paolo Renzetti, c'è questo testa a testa per il secondo posto tra Mario Babbo e Tiziano Genovesi, quest'ultimo è in leggero vantaggio. Allora Paolo, se ci ascolti, torniamo da te, dacci le ultimissime. Sì, grazie, prendiamo la linea in diretta qui da Amezzano, siamo all'interno del comitato di Gianni Di Pangrazio, abbiamo il voto praticamente quasi definitivo di 24.584 voti su 25.616, come forse potete vedere anche dalla sovrimpressione, Di Pangrazio 7.741 voti con il 31,49%, e poi al secondo posto vediamo Genovesi 21,20 con 5.212 voti, e poi Mario Babbo 20,80% con 5.113, l'attaccone 3.917 voti con il 15,93%, poi più staccati del boccio 1.481 con il 6,02% ed infine Stornelli 288 voti, 1,17%, il totale dei votanti, ripetiamo, 25.616, siamo a quota 24.584, ovvero quasi la totalità, dunque, dei votanti. Attendiamo, Andrea ha a momenti, a minuti, il candidato sindaco delle otto liste civiche Gianni Di Pangrazio, ex sindaco di Avezzano, il primo cittadino dal 2012 al 2017, per il momento però Di Pangrazio non è ancora, arrivato, linea a te. Grazie, grazie Paolo Renzetti, anche se insomma io direi di restare da te per qualche altro istante, anche se tra pochissimo possiamo tornare anche a Chieti. Paolo, insomma lì intorno a te non c'è nessuno, non è possibile capire quella che è l'atmosfera che si respira ad Avezzano, dove chiaramente non ci sarà il sindaco questa sera, bisognerà rinviare tutto al ballottaggio, però è chiaro che sia un po' con il fiato sospeso in vista appunto del verdetto, cioè chi sfiderà Di Pangrazio al secondo turno. Paolo, cosa si percepisce lì ad Avezzano? Beh, c'è sicuramente, c'è soddisfazione, c'è entusiasmo qui all'interno del comitato di Gianni Di Pangrazio. Noi siamo qui all'interno dove per motivi anche, come facilmente potrai capire, di Covid-19 sono stati fatti uscire tutti i simpatizzanti delle varie liste collegate a Gianni Di Pangrazio, non c'è praticamente nessuno qui all'interno del comitato, se non un paio di colleghi, e dunque ovviamente dall'interno non possiamo spostarci anche per motivi tecnici all'esterno qui del comitato, però Gianni Di Pangrazio deve ancora arrivare qui presso il comitato, e dunque lo attendiamo davvero a minuti. C'è, ripeto, soddisfazione, direi se non euforia ovviamente per un dato positivo in assoluto per Di Pangrazio e che va anche al di là forse delle più rose aspettative. L'abbiamo visto più volte anche nel pomeriggio, però ha preferito non rilasciare dichiarazioni perché ha detto parlerò quando ci saranno i dati definitivi, anche l'ex presidente del Consiglio regionale, nonché fratello di Gianni Di Pangrazio, Giuseppe Di Pangrazio. Per il momento però non ci sono state dichiarazioni da parte degli altri candidati a tena linea. Grazie. A proposito di manciata di voti, proprio una manciata di voti, ha deciso la contesa a Carsoli, dove c'è la conferma del sindaco uscente Veglia Nazzarro, che si è imposta con 1.644 preferenze, pari al 50,66%, rispetto a Domenico D'Antonio che ha riportato 1.601 preferenze. 43 voti di differenza a Carsoli tra la lista Vivere Carsoli, capitanata dal sindaco uscente Emilia Nazzarro, e la lista Unione Civica con Domenico D'Antonio. Torniamo a Chieti da Alfredo Primante. Alfredo. Sì, eccoci Andrea, siamo con Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, che ringrazio e saluto. Grazie a voi. E allora, iniziamo a commentare questo voto. Tutti gli altri suoi avversari di questa competizione hanno parlato di un risultato sotto le attese della sua coalizione. Lei invece quale lettura dà? No, effettivamente ci aspettavamo qualche punto percentuale in più. Sapevamo che il primo turno non ce l'avremmo potuto fare, lo abbiamo annunciato come spesso si fa in campagna elettorale, ma era evidente che con 5 competitor, tutti molto agguerriti, era molto difficile. Il dato che sta venendo fuori, almeno quello che risulta a noi, mi dà intorno al 40%, ed è un dato che forse poteva essere migliorato. Sì, qui il dato è leggermente inferiore, però noi stiamo prendendo dei nostri rappresentanti di rischio. Sicuramente voi avete dati più aggiornati da questo punto. Però sicuramente potremmo forse pensare a qualcosa in più, valuteremo un pochino tutto quanto, tutti i dati, quando li avremo con più completezza. Certo, noi sapevamo che, soprattutto per come si era messa la campagna elettorale, era un tutti contro uno. L'attacco era concentrico verso la mia persona, da parte di alcuni in maniera corretta e esclusivamente politica, da parte di altri invece in maniera violenta e fuori da ogni controllo, educazione e anche logica politica. e non attacchi personali, questo hanno sicuramente contribuito a indebolire il risultato. Che però, ricordo a me stesso, che cinque anni fa il sindaco di Primio arriva al ballottaggio con il 37% e avendo un centrodestra coeso e compatto che lo sosteneva. Viceversa, arriva al ballottaggio Luigi Febo con il 31% e con una sinistra divisa, perché l'estrema sinistra aveva fatto un'altra candidatura. Oggi arriviamo con un centrodestra non completo, anche se abbiamo fatto di tutto per cercare di completarlo, ma non ci siamo riusciti. e intorno al 40% è il competitor di centrosinistra che arriva al ballottaggio, arriva intorno al 22-23%, 24%, 15-20 punti di differenza. Quindi mi sembra che ci sia margini rassicuranti, tenendo conto che comunque dei due civici che erano al primo turno, uno ha preso quasi esclusivamente voti nell'ambito del centrodestra e l'altro una parte li ha presi nel centrodestra in maniera esplicita. E' anche dichiarata, visto che rappresentava una parte fuoriuscita di Forza Italia. Seguido fuoriuscita. Quindi ci prepariamo al ballottaggio, con molti o molto fiduciosi, parlando alla città, cercando di spiegare alla città le nostre ragioni. In questo dato ci sono molte cose che ci fanno mesperare e mi gratificano particolarmente. Mi gratifica particolarmente i miei dati dove esco fortemente vincente in periferia e nelle zone delle case popolari. Quindi nei quartieri popolari io vado fortissimo, in molte parti supero il 50%. Nelle periferie, in particolar modo San Martino e Brecciarola, io sfondo il muro del 50 abbondantemente, pago nel centro storico dove ricordo a me stesso che i due candidati sindaci medici avevano i propri ambulatori nel centro storico e anche il terzo candidato civico era fortemente dedicato nel centro storico. Abbiamo 15 giorni, ci rassetteremo con la coalizione, partiamo per questa sfida di ballottaggio, forti di questo vantaggio non indifferente e con la consapevolezza che però dobbiamo riportare tutti alle urne. E io vorrei parlare a tutti gli elettori di Chiedi per far capire la bontà del nostro progetto e convincerli che dal 4 ottobre, domenica il 4 ottobre tra l'altro per uno come me che è fortemente religioso e San Francesco e quindi è anche una data proficua e propizia, dal 4 ottobre possiamo davvero cominciare un nuovo percorso per questa città. Lei ha parlato giustamente del ballottaggio che è il prossimo ostacolo da superare, nella trasmissione che abbiamo registrato proprio qui a Palazzo De Maio lei disse così come siamo partiti arriveremo, ho interpretato, non so se in maniera corretta non faremo apparentamenti con nessuno. E' evidente che quando ho detto dobbiamo riorganizzarci mi dovrò confrontare con tutti i miei alleati e è altrettanto evidente che quando dico parleremo alla città voglio dire che non ci sederemo per trovare accordi di ballottaggio ma cercheremo di trovare una sintesi con la città e con gli elettori perché riteniamo che siano gli elettori che vanno a votare e vanno a decidere e determinare se il sindaco del 2020-2030 dovesse essere Fabrizio Di Stefano o invece Diego Ferrara. Mi fa piacere di andare con Diego Ferrara al ballottaggio perché torneremo finalmente a parlare di politica e non uno scontro violento come c'è stato in queste settimane, in questi mesi contro la mia persona. E' stato uno scontro che credo abbia indispettito anche l'elettorato e anche certe divisioni interne nel centro-destra non mi hanno giovato non soltanto in termini di voti sottratti ma anche in termini di immagine di un centro-destra che corriva in questa maniera, probabilmente ha sconcertato anche un pochino l'elettorato di centro-destra. Per questo ripartiamo e ripartiamo per parlare di progetto politico, un progetto che però, ripeto, avendo sfondato in certi quartieri mi gratifica particolarmente, significa radicamento, significa anche aver saputo penetrare quei territori e saputo interpretare le esigenze che quelle specifiche parti della città evidentemente hanno condizionato. Lei è chiaramente un uomo anche di partito, della Lega, la domanda che le faccio è allargando un po' lo sguardo, restando sempre nella nostra regione al momento e anche ad Avezzano dove diciamo che sembrerebbe almeno dagli ultimi dati che i genovesi per veramente un'incollatura acceda al ballottaggio. Però la mia domanda è, è soddisfatto del dato della Lega, non solo a Chiedi ma in generale nella nostra regione? Lei mi chiama in causa come partito, io allora faccio un'analisi un po' più allargata e faccio un dato anche nazionale. è evidente che l'effetto governo ha fatto beneficiare il Partito Democratico e forse penalizzato un po' di opposizioni. Se è vero come è vero che in Puglia pensavamo di poter vincere e purtroppo non ce l'abbiamo fatta, anche in maniera netta. In Toscana sembrava essere testa a testa e invece non è andata così. e anche in Campania dove pensavamo di perdere ma non di perdere in quelle dimensioni così forti. Viceversa ci possiamo trovare estremamente soddisfatti per la vittoria in Veneto in quella maniera straordinaria e anche per aver conquistato le Marche, seppur nelle Marche la sinistra era abbastanza lacerata. Questo dato allora fa capire che anche sulla richieduta delle comunali c'è stato un effetto del centro-sinistra che in qualche modo ne ha beneficiato e del centro-destra che soprattutto pagando le lacerazioni interne in Abruzzo in particolare dà un risultato che per molti aspetti può non essere quello che ci soddisfa in pieno. È evidente che se due città principali che vanno al voto Avezzano e Chieti il centro-destra non va unito e poi l'elettorato lo nota e quindi con lo stesso effetto che ha avuto la divisione Avezzano c'è stato a Chieti o io invece lo stesso effetto della divisione Tiatina si è riverberato su Avezzano. Arriva Genovese al ballottaggio, lei dice per un rotto della cuffia ma ci arriva e questo ci fa ben sperare anche se lì parte con un distacco più o meno pari a quello, anzi forse un po' di meno di quello che Ferrara ha. Leggermente meno. Allora se come ho sentito prima anche sui vostri emittenti, se danno favorito per il ballottaggio di Pangrazio, per questo vantaggio credo che la stessa cosa, anzi di più dovrebbe valere per me. Il discorso è di natura politica, mi viene fatto ed è un problema che secondo me non si ferma al ballottaggio perché è evidente che subito dopo le comunali e qui nel turno di ballottaggio partono altri appuntamenti elettorali importanti, penso a Lanciano, a Vasto, a Francavilla, a Roseto, probabilmente a Sulmona, insomma parecchi altri centri che saranno importanti, tra 7-8 mesi saranno in piena campagna elettorale. Il centro-destra ha bisogno di recuperare quella compattezza che invece è mancata a Chieti e è mancata a Avezzano, ma non credo non riverberi questa divaricazione anche a livello di regione e anche a livello di comuni. Abbiamo visto l'Aquila che ha avuto e tuttora una situazione un po' fibrillante del centro-destra, io credo che forse, ma questo non spetta a me, spetta ai vertici regionali, sedersi e capire dove vuole andare il centro-destra in Abruzzo perché le fibrillazioni e le divericazioni non fanno bene al centro-destra, se ne risente nel dato delle urne, se ne risente nella costruzione delle future alleanze e se uniamo questo all'effetto positivo di cui il Partito Democratico beneficia nel suo ruolo di governo, che fa il paio invece con le negatività che paga le 5 stelle proprio perché evidentemente questa alleanza di governo, se da una parte egevola e avvantaggia il Partito Democratico dall'altro punisce le 5 stelle. È una lunga e ampia riflessione che va fatta a tutto campo, in tutti gli schieramenti, nel nostro in particolare, anche le 5 stelle forse devono capire, sul dato dei chiedi mi sembra abbastanza pesante. Sì, abbiamo registrato anche la delusione di Amicone poco fa ai nostri microfoni. Ecco, mi dispiace perché Amicone è un candidato di cui io non condivido ovviamente la mia politica, mi sembra che era una bella persona e spero di averlo in consiglio come appositore e non come avversario perché ritengo che sia una persona che possa collaborare per la crescita e il rilancio dei chiedi. Però è evidente che paga anche lui un dato politico che lo ha penalizzato, rileverato sul tato nazionale. Quindi su questo si dovrà aprire una riflessione che non credo si possa esaurire nei prossimi 15 giorni di ballottaggio. Non so come andranno i vertici regionali e cosa vorranno fare, ma certamente nei prossimi mesi il centro-destra avrà necessità di ripensarsi, di ripensare una strategia perché è chiaro che oggi probabilmente staremmo a parlare di due risultati, di commentare due risultati totalmente diversi, tanto a Chieti quanto a Vizzano, se il centro-destra avesse trovato unità e forse avesse marciato in maniera unitaria sin dal primo turno. Non è tanto il dato disaggregato da calcolare, ma è quanto la confusione che nell'elettorato di centro-destra, che magari oggi sceglie indifferentemente Lega, Fratelli d'Italia o Forza Italia o l'Udc, chi ha avuto un ottimo risultato, mi congratulo con gli amici dell'Udc, quell'elettore alle volte può essere sbandato e alla fine decide di non partecipare per niente alla competizione elettorale, di non votare, di non dare il voto né all'uno né all'altro. È evidente, oppure come il caso di Chieti, avendo delle alternative civiche ma di matrice di centro-destra, ha potuto anche riversare la propria preferenza sul civico presente e non sulla coalizione compatta del centro-destra. Lei ha parlato di civiche di centro-destra, la interrompo un attimo perché volevo restare su questo argomento, dando uno sguardo ai prossimi 15 giorni, secondo lei Ferrara potrà raggiungere un accordo con questi due civici che non sono propriamente di matrice ideologica affine a quella di Ferrara. Che cosa devo dirle? È evidente, per il trascorso politico di De Cesare mi pare che sebbene dica di non essere un civico puro, però il padre Stato segretario provinciale di Forza Italia, la sua nota vicinanza a Forza Italia, anche le apparizioni addirittura vicino a Berlusconi, mi sembra che facciano da corollario tutto il suo giovane percorso di vita, quindi mi sembra che hai anche molti dei suoi candidati, la listazione politica alle ultime regionali stavano al centro-destra, quindi mi pare che siano tutta una collocazione. Giustino Angeloni, me lo ricordo, io attaccavo i manifesti, competitor suo, ma lui era candidato del Movimento Sociale e io attaccavo i manifesti per un altro candidato del Movimento Sociale, quindi non mi pare che siano di matrice, che vengono da una matrice di sinistra. Enzo Ginefra ha fatto l'assessore, ha fatto il capogruppo del PDL quando io ero consigliere comunale del PDL, quindi è una lista che prende voti, ha preso voti prevalentemente nel centro-destra, la matrice della lista è evidentemente nel centro-destra. La lista di Bruno Di Orio c'è questa duplice anima anche palesata, sia nel simbolo molto simile a Forza Italia, sia nelle espressioni dei consiglieri, dei candidati. Poi tutto è possibile, sta a loro valutare, sta a Ferrara fare le sue giuste valutazioni, preferisco essere nei panni di chi deve essere inseguito che non di quello che deve inseguire e quindi di chi deve trovare altri voti e che quindi magari deve cercare anche di provare a trovare. Ecco, si è interrotta la linea audio da Chieti, cerchiamo di capire se è possibile ripristinare subito, altrimenti potremmo andare ad Avezzano perché vicino Paolo Renzetti c'è il candidato sindaco Gianni Di Pangrazio che andrà al ballottaggio. Paolo, non so se ti puoi inserire... Sì, sì. Ok. Certo, certo, certo. Prendiamo la linea qui ad Avezzano, sta parlando Gianni Di Pangrazio, eccolo qui. Naturalmente tutti i voti perché dovranno ricontrollarli, perché possa essere definitivamente esangito chi verrà con me al ballottaggio. La Commissione si insiederà domani mattina e terminerà i lavori intorno a giovedì, venerdì. Quindi per avere proprio la sicurezza al 100% di chi sarà il mio competitor al ballottaggio forse bisognerà aspettare ancora giovedì, venerdì. Questa spaccatura nel centro-destra l'ha agevolata in qualche modo enormemente? Ma io vedo che i partiti, il centro-destra sono fantasie ormai che non sono lontane dai cittadini. I cittadini vogliono concretezza, vogliono persone riconoscibili e il referendum ha dato una dimostrazione di lontananza dei partiti, ma soprattutto dei cittadini dai partiti. E poi il voto alla regionale ha dimostrato che non esiste più centro-destra, centro-sinistra. Esistono delle persone, dei candidati riconoscibili, capaci che possono portare avanti una amministrazione. Questa è una lezione che va data ai partiti. I partiti dovranno ripartire proprio dai territori e sapere e capire che finalmente devono essere rappresentanti del popolo e non dipendenti degli stessi partiti. Quindi questo è un buon avvio per una ricostruzione, una rigenerazione soprattutto della politica futura e io spero anche dei futuri partiti che non siano più rissosi, populisti, ma siano fondamentalmente dei partiti che costruiscono progetti e si interessino realmente dei propri territori e della propria città. Di Pancrazio, sicuramente un risultato molto positivo, forse anche al di là delle più rose aspettative. Però poco fa ai nostri microfoni l'onorevole Piccone a Celano diceva se il centro-destra fosse arrivato unito ad Avezzano. Oggi staremmo a parlare di altri risultati. Lei ha detto che i partiti oggi sono forse un po' superati, però la spaccatura nel centro-destra è in dubbio che l'abbia avvantaggiata. Ma dico appunto questo. Pur a Celano, come l'onorevole Piccone sa, c'era la Lega che stava dall'altra parte e non stava dalla parte del Sindaco. Quindi c'è frammentazione e c'è confusione oggi nei partiti e nei rappresentanti, soprattutto nei partiti, nei territori. Io penso che una penalizzazione forte di questo territorio sia dovuto proprio ai partiti che non abbiano dato e non abbiano saputo dare una giusta rappresentanza ad Avezzano e alla Marsica. Noi non abbiamo nemmeno un consigliere provinciale come Avezzano e questa è una cosa gravissima e non abbiamo da tanto tempo nessun onorevole per le ragioni che dicevo prima. Bisogna veramente ricostruire un po' la politica e i partiti soprattutto, ripartendo dalla base. Di Pangrazio si dovrà lavorare adesso e in che modo lavorerà per gli accordi in vista di questo ballottaggio su cui puntare, su Babbo? No, noi abbiamo a ogni apertura tutti coloro che vogliono fare gli interessi della città di Avezzano. Siamo aperti ai dialoghi, l'importante è che si parli di progetti, di programmi, dopodiché ci sediamo con tutti. Con Babbo abbiamo avuto un lungo percorso politico insieme, un civico, Babbo e ripeto, non abbiamo e non facciamo preclusioni. Se c'è l'interesse della città al primo posto noi siamo, perché prima di tutto venga Avezzano. Cosa si sente di dire ai cittadini di Avezzano che l'hanno votata e cosa dice a coloro che nel ballottaggio tra due settimane torneranno al voto? Grazie, ai cittadini mi ha dato un grande grazie, veramente col cuore, perché hanno voluto darmi questa fiducia, ma non hanno mai smesso di rivolgersi a me in questo periodo, specialmente durante il commissariamento, hanno voluto a tutti i costi che io scendessi in campo, difatti la mia candidatura è venuta dai cittadini e da quei cittadini che volevano la mia candidatura piano 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 si sono costruite queste fantastiche otto liste che come ho detto prima rappresentano l'identità e i valori della Marsica e di Avezzano. Quindi grazie a tutti, grazie veramente a tutti. Grazie, ricordiamolo, il comune di Avezzano commissariato dal giugno 2017, il commissario ha detto proprio questa mattina che lascerà un comune sano, però adesso c'è bisogno di un marce in più di rilanciare questo territorio. Beh sì, il commissario ha fatto il suo dovere, oggi c'è bisogno però della politica, della politica del fare, dei progetti e di chi conosce palmo palmo la città di Avezzano e sa quali sono i punti su cui deve intervenire e ha la competenza giusta che deve avere un sindaco per mettere le mani alla macchina amministrativa. Questo non mi manca, lo sanno tutti, io praticamente al comune ci sono nato, insegno diritto degli enti locali da parecchi anni, quindi su questo i cittadini sanno che su di me possono contarci e poi mi hanno posto già la verifica in passato, sanno che sono uno di loro, sono uno che ascolto tutti e che rispetto soprattutto i cittadini sempre, sempre, sempre. Per me il legame che ho con la città è fondamentale e molto, veramente molto, molto forte. Cosa farà di Pangrazio per convincere quelli che non l'hanno votata, quelli che hanno votato altre liste e altri candidati in vista del ballottaggio? Dirò che bisogna fare il bene della città, che bisogna ritornare e far ritornare rivezzano importante, che bisogna lavorare tutti insieme per far crescere e per rilanciare la città. Dico a loro che sicuramente si potranno avvalere della mia esperienza per dopo, loro sono più giovani, tanti candidati hanno voglia di fare politica nei partiti, sicuramente avranno un buon maestro in me e quindi potranno in qualche modo dare il via alla ripresa della politica anche dei partiti partendo da Avezzano e dalla Marsica. Grazie, grazie a Gianni Di Pangrazio, candidato per otto liste civiche qui alle comunali di Avezzano. Linea lo studio. Grazie Paolo, torniamo subito a Chieti. Abbiamo ripristinato il collegamento. Alfredo. Se volevo far completare il pensiero al senatore Di Stefano che era rimasto a metà. Faccio i complimenti a Gianni Di Pangrazio perché è un amico, è bravo e conosce la città a menadito. Faccio anche notare che lui ha schierato giustamente, intelligentemente un sistema che però in qualche modo devia il consenso. Otto liste e gli hanno consentito di drenare e dragare molti voti, molto consenso. Qui a Chieti noi abbiamo avuto, io avevo sei liste ma contro di me c'erano 13 liste che hanno lavorato per erodere consenso alla mia persona, soprattutto 5 liste, almeno 5 liste hanno lavorato per prendere consenso dall'area del centro-destra. È evidente che questo si nota anche per il risultato finale. Ma questo il sistema elettorale è giusto sfruttarlo in questa maniera da parte di Gianni e da parte di chi si è chiedendo contro di me. Ora andiamo a un ballottaggio. Vorrei un corpo a corpo possiamo dirlo, quasi diciamo… È una situazione più lineare, c'è un uno contro uno, prima erano 4 contro uno, adesso è un uno contro uno. Se Gianni parte favorito nella Marsica pur avendo meno voti di me, credo che parto anch'io favorito a Chieti, ma la partita si deve giocare. Parlerò per questo la città, parlerò anche la parte alta che è quella che è stata per me meno generosa, molto probabilmente perché due dei candidati sindaci erano due medici che avevano gli studi nella parte alta. Ma tornerò a parlare ancora di più alle periferie perché quel voto mi gratifica molto, la parte bassa, Chieti Scalo, forse anche perché ci abito, certamente perché al quartiere dei popolari mi sono saputo fare interprete delle loro esigenze, questo mi gratifica e su questo conto molto. Vediamo adesso questi 15 giorni, certo che credo che c'è chi deve recuperare, giustamente lei mi ha chiesto che farà, proverà gli accordi, Ferrara, io non lo so cosa farà, ma è evidente che 15 punti di distacco ci sono e spero di mantenerli. E dunque io ringrazio il senatore Fabrizio Di Stefano per essere stato qui con noi, grazie ancora e in bocca al lupo per i prossimi 15 giorni. Con questo collegamento chiudiamo anche lo studio qui a Chieti, io ringrazio Maurizio D'Agui in regia, Loris Bennato, Samuele Mucci alle camere, Giuseppe Dintino che mi ha dato una mano insieme a Stefano Recanati Gaetano Tereo, linea che può tornare a te Andrea, grazie e chiaramente poi i prossimi aggiornamenti nel corso del Tg. Grazie, grazie ad Alfredo Primante. Allora non so se è possibile tornare da Paolo Renzetti ad Avezzano con un ulteriore aggiornamento, anche se in questo caso sembra che Genova si stia riallungando. In pratica quando mancano da scrutinare 470 voti c'è un vantaggio di Genovesi su Babbo di 130 voti. Quindi per Babbo si fa sempre più difficile rimontare con pochi voti ancora da scrutinare e questi 130 di differenza proprio tra Babbo e Genovesi. Insomma si avvicina sempre di più la sfida tra Tiziano Genovesi e Gianni Di Pangrazio, Gianni Di Pangrazio è il componente sicuro del ballottaggio, l'abbiamo appena ascoltato. ci piacerebbe chiudere con Paolo Renzetti. Ok, tra pochissimo. Allora riproponiamo ancora le schermate in attesa che Paolo possa essere di nuovo con noi. Abbiamo chiuso il collegamento con Chieti, restiamo solo per Avezzano proprio perché c'è da commentare questo arrivo al fotofinish per il secondo posto e quindi per accedere al ballottaggio con Di Pangrazio. Allora questa è la situazione al momento a Chieti con Fabrizio Di Stefano candidato per la Lega è sostenuto anche da Udc Fratelli d'Italia e da una civica che ha 8.715 preferenze 37,2%. Poi c'è Diego Ferrara il candidato sostenuto dal centro-sinistra in particolare dal Partito Democratico ma anche dalle liste Ferrara Sindaco, la sinistra con Diego e Chieti per Chieti, 5.237 preferenze con il 22,3%. Poi al terzo posto Bruno Di Orio che non riesce dunque a colmare questo gap che ormai si sta consolidando, che si è consolidato, Bruno Di Orio che è sostenuto dalle liste Forza Chieti, Azione Democratica, Bruno Di Orio Sindaco e Chieti Viva 4.878 voti per Diorio pari al 20,8%. E poi ancora abbiamo Paolo De Cesare sostenuto da quattro liste Azione Politica, la Teatinità, Chiama Chieti e Chieti C'è a 3.068 preferenze pari al 13,1%. E poi il candidato del Movimento 5 Stelle con l'unica lista che lo sostiene, quella pentastellata, Luca Micone, 1.549 preferenze pari al 6,6%. E poi ancora andiamo avanti con Avezzano con la situazione che è la seguente, saldamente in testa Gianni Di Pangrazio come è stato da più parti sottolineato con le sue otto liste civiche, le andiamo a ricapitolare, Patto per la Marsica, Azioni Civica per Avezzano, Avezzano Libera, Io Sto con Avezzano, Avezzano al Centro, Riformisti per Avezzano, Uniti per Avezzano e Avezzano Città, Territorio 7.842 preferenze 32,5%. Poi Tiziano Genovesi, sostenuto da Udc, Fratelli d'Italia Cambiamo il Futuro e Lega, 5.297 preferenze 22%, poi Mario Babbo, sostenuto da 6 liste tra cui il PD e poi anche Patto Civico, Fuoricentro, Generazione Più, Avezzano in prima linea e Avezzano Viva, 5.183 preferenze pari al 21,5%. E poi andiamo nella seconda schermata con Anna Maria Taccone che ha 3.988 preferenze, 16,5%, Anna Maria Taccone sostenuta da Avezzano Domani, Siamo Avezzano, Io Ci Sono per Avezzano e Forza Italia. Poi Antonio Del Boccio, 1.509 preferenze pari al 6,3%, due le liste che sostengono Del Boccio, Civita Italiana e Io per Avezzano e poi abbiamo Nicola Stornelli, sostenuto dalla lista unica Avezzano Benecomune, 297 preferenze, 1,2%. Forse ci sono dati ulteriormente aggiornati, anzi sicuramente ulteriormente aggiornati, li facciamo pronunciare a Paolo Renzetti che si trova proprio lì davanti lo schermo. Paolo. Sì, di nuovo in diretta da Avezzano, siamo sempre all'interno della sede del Comitato elettorale di Gianni Di Pangrazio, questi sono gli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda lo spoglio delle amministrative della città di Avezzano, con l'inquadratura di Roberto Pulimanti possiamo andare a vedere partendo dall'alto, dalla sinistra, vedete Di Pangrazio 7.929 voti con il 31,50%, Taccone 4.033 voti, 16,2%, Mario Babbo 5.185 voti, il 20,60%, leggermente sotto l'esponente della Lega dell'Udc di Fratelli d'Italia, Tiziano Genovesi, con 5.314 voti e il 21,11%, dunque ballano poco più di 120 voti di differenza e dunque si sta giocando davvero voto su voto la lotta per capire e per vedere chi arriverà al ballottaggio del 4 e 5 ottobre con Gianni Di Pangrazio e poi Staccati del Boccio con il 6,08% e 1.531 preferenze. Infine l'esponente di rifondazione comunista e di potere al popolo, Stornelli, con l'1,19% e 300 preferenze. Come vedete i voti inseriti sono 25.174 su un totale di votanti di 25.616. Quindi Paolo mancano 442 voti da scrutinare e al momento la differenza che c'è tra Tiziano Genovesi e Mario Babbo è di 129 voti. Chiaramente recuperare un margine esiguo come 129 voti ma con pochi voti ancora a disposizione, appunto 442, si fa davvero dura per Mario Babbo e Tiziano Genovesi dunque intravede assolutamente il ballottaggio. Peraltro Paolo, se ricordiamo anche le proiezioni che abbiamo mostrato alle 10.15, le proiezioni fatte dal Comune sulla base delle prime mille schede scrutinate e siamo davvero lì perché c'era un chiaro vantaggio proprio di Pangrazio e poi Genovesi che di un'incollatura era davanti a Babbo. Sostanzialmente questi risultati trovano conferma, vero Paolo? Sicuramente trovano conferma, è arrivato un ulteriore aggiornamento però davvero minimale vediamo solo i numeri che riguardano Mario Babbo e Tiziano Genovesi per vedere chi andrà al ballottaggio. Vedete Babbo con il 20.58%, 5.184 voti, 5.316 per Tiziano Genovesi e il 21.11, 25.187 i voti inseriti su 25.616. Vedete anche qui di fianco le schede bianche che sono 207 e le schede nulle che sono 675 e questo Andrea è un dato da non sottovalutare perché probabilmente la partita potrebbe non chiudersi questa sera perché ci sarà proprio, ovviamente ci sarà bagarre se mi consenti il termine, ne parlava prima anche Di Pangrazio nel corso dell'intervista con queste 675 schede nulle che dunque dovranno essere riesaminate potrebbe cambiare un risultato che questa sera potrebbe vedere avanti l'uno o l'altro e se ne saprà di più nei prossimi giorni ma 675 schede nulle sono davvero tante e dunque potrebbe non arrivare questa sera il risultato definitivo per chi andrà al ballottaggio con Gianni Di Pangrazio. Con quasi 900 voti che non sono stati espressi perché le schede sono bianche o nulle, chissà se fossero stati espressi quei voti magari il risultato finale sarebbe potuto cambiare perché ora c'è questo leggero margine di vantaggio di Genovesi su Babbo, questi 120-130 voti che ballano ma ci sono 900 voti circa che non sono stati espressi perché ci sono schede bianche o nulle. Io non so Paolo se hai altre voci da ascoltare altrimenti noi siamo in chiusura e magari rinviamo il verdetto finale sostanzialmente al Tg6 del 19 quindi tra circa un'ora e venti quando chiaramente il Tg6 sarà fortemente indirizzato su quelli che sono stati i verdetti in questa giornata. Non so Paolo se hai qualche altra voce lì vicino a te che può esprimere un parere su questa giornata di elezioni. No, non ci sono altri esponenti, altre voci da ascoltare, noi ci spostiamo Andrea presso gli altri comitati ovviamente per raccogliere le altre voci, le altre testimonianze anche degli altri candidati, appuntamento dunque alle 19 per la seconda edizione del Tg6, per il momento da Avezzano è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Paolo Lorenzetti. Allora in chiusura ribadiamo che a Chieti e ad Avezzano si andrà al ballottaggio in questo momento in base ai dati emersi. A Chieti al ballottaggio sicuramente Fabrizio Di Stefano candidato del centrodestra, non compatto ma comunque gran parte del centrodestra. Di Stefano se la vedrà quasi certamente con Diego Ferrara candidato del PD e in generale del centro-sinistra, visto che Bruno Di Orio non riesce a effettuare questa rimonta sulla seconda posizione. Ad Avezzano, come abbiamo visto proprio dalle immagini, agli ultimi aggiornamenti, l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio sfiderà quasi certamente il candidato della Lega Tiziano Genovesi, candidato della Lega ma anche di altre liste di centro o centrodestra. Invece Gianni Di Pangrazio è ex espressione del centrosinistra, che è comunque la sua area di riferimento, ma le otto liste che lo sostengono sono tutte liste civiche. Per un soffio dovrebbe restare al di fuori della competizione al secondo turno Mario Babbo, che invece è sostenuto dal PD e da altre liste civiche. Questo per quanto riguarda i due comuni principali, quelli più grandi, quelli dove siccome ci sono più di 15 mila abitanti ci sarà il secondo turno. Ricordiamo alcuni dei verdetti di cui vi abbiamo già parlato nel corso di questa giornata e in altri comuni di riferimento. In provincia di terra, ad esempio a Montorio al Vomano c'è una svolta verso il centrodestra con l'affermazione, ecco qui la schermata di Fabio Altitonante, 2.145 preferenze per il candidato della lista, un'altra Montorio, 44,2%. Al secondo posto nella competizione l'ex sindaco Alessandro Di Giambattista con la lista impegno comune 1.507 preferenze, 31,1%. Poi al terzo posto Eleonora Magno con 1.200 preferenze, 24,73%. Montorio guarda avanti, due esponenti sostanzialmente del fronte del centro-sinistra di Giambattista e Eleonora Magno. Poi abbiamo anche seguito la competizione elettorale a Guardia Grele, abbiamo ascoltato le parole del neo sindaco che è Donatello Di Prinzio, anche in questo caso la sinistra si divide con gli esponenti dal Pozzo, Simone Dal Pozzo, sindaco uscente e Gianna Di Crescenzo e il candidato di una lista di ispirazione di centrodestra, Donatello Di Prinzio, va ad una vittoria che se stiamo ai numeri è piuttosto agevole ed evidente. 2.668 preferenze pari al 48,7% per l'esponente della lista progetto per Guardia Grele. Poi il sindaco uscente Simone Dal Pozzo con Guardia Grele e il bene comune si ferma a 2.218 preferenze, 40,5%. Gianna Di Crescenzo con la lista Guardia Grele per tutti, 589 preferenze pari al 10,8%. Non so se abbiamo anche un'altra lista che possiamo ricapitolare, altrimenti rapidamente vi dico che tra gli altri comuni abbiamo Celano con la conferma del sindaco uscente Settimio Santilli, 4.127 preferenze pari al 63,4%. Ha avuto l'Amelio sullo sfidante Gesualdo Ranalletta, 2.387 preferenze pari al 36,6%. Tra gli altri comuni citiamo Casteldisangro dove c'è stata la conferma del sindaco uscente Angelo Caruso. Ci fermiamo qui dunque con l'Election Day, appuntamento al TG6 per ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda le elezioni, anche se probabilmente abbiamo un ulteriore dato che riguarda Avezzano ma la sostanza non cambia perché con 25.234 voti scrutinati su 25.616, dunque siamo sempre più vicini al traguardo. Genovesi sempre avanti, 5.316 contro i 5.185 di Mario Babbo. Dunque al TG6 delle 19 ulteriori aggiornamenti sulle elezioni e poi già da ora vi do appuntamento con l'Election Day del secondo turno con i ballottaggi che vivremo insieme per i comuni di Chieti ed Avezzano tra due settimane. Grazie ancora per l'attenzione, grazie anche da parte di Claudio Di Giacomo in regia e di Giacomo Forcella in redazione. Buon proseguimento con i nostri programmi.